Oggi siamo qui con Caos a Deponia, pronti per cominciare una nuova avventura. Sì, la stessa avventura, visto che è il sequel di fuga da Deponia. Vabbè, non perdiamo altro tempo e cominciamo. Arrivarono dal nulla, con i loro incrociatori e le loro barbe meccaniche. Gli Organon. Cos'è, un sunto del primo capitolo? Sottomisero il nostro villaggio. Sembra un documentario di però, Angela. Seminarono caos e distruzione. Qualunque cosa pur di trovare Gali. Ma come l'ha scritto? La bella Elisea, la damigella caduta dal cielo. Solo un vero eroe poteva salvarla. Lui la svegliò. Chiamò il suo fidanzato. E la condusse all'ascensore inferiore. Solo per scoprire una terribile verità. Cletus, il fidanzato, non agiva mosso dall'amore. Aveva ordito un piano. Con Ulisses, l'enigmatico leader degli Organon. E con il suo braccio destro. Oh, sono fastidiosi questi effetti a stampo. Gli servivano i codici d'ascensione, nascosti nel chip di memoria di Gal. Volevano cancellare i suoi ricordi. Assicurarsi che nessun Eliseo sapesse che il nostro mondo è abitato. Tutto per perpetrare il loro malefico piano. Distruggere il nostro amato pianeta. Quanto è trash. Questa l'hanno fatta a casa loro? Sì. Ma non sapevano con chi avevano a che fare. Così? Lui scambiò i chip e ripristinò la memoria di Gal affinché portasse la verità a Elysium. E quel valoroso eroe si chiamava Rufus. Se racconta da solo. Credibile. E quindi questa sarebbe la storia? È tutto qui. No, è solo la prima parte. Sarà una trilogia. Mi sembra abbastanza incredibile. Sì, incredibilmente fico, bambola. Ma se le cose sono davvero andate come dici tu, non dovrei essere in viaggio per Elysium con Kletus. Cosa ci fai qui? Dov'è Kletus? Perché non riesco a ricordare nulla di tutta questa storia? E poi non vorrei essere indiscreta, ma... Che cosa è successo alla navicella? Ecco, diciamo che... Vedi... Stavo proprio per spiegartelo. Ok, ascolta. Non lo sto capendo. Ha lanciato una circolare contro la navicella. Ragazzi, ma che ha combinato Rufus? È davvero patetico, è molto bizzarro Che un simile eroe tocchi di ramazzar Se lo conoscete, senz'altro saprete Del caos che creò al fin di scappar Dal cielo arrivò perché lui la lanciò La dama che la sua triste vita cambiò Una storia si è fatta, nessun può scordar Ma ora è il momento di ricominciar Andiamo a ricominciar Mi era quasi mancato lui Lui è simpatico in confronto a... Il nostro protagonista Chaos ad Eponia Adesso l'ha scritta in argento anziché marrone Immondizia Immondizia È ancora immondizia È meraviglioso Ah sì, come no Chi mai nel pieno possesso delle sue capacità mentali Vorrebbe fuggire da questo posto? Rufus Guarda, Oma Il giovanotto di cui ti ho parlato Quello lì? Francamente mi aspettavo un giovane più elegante Rufus non è come sembra Ah no? È un ragazzo molto generoso In questo momento, per esempio, sta dando una mano a Bozzo Ah sì? Ah sì! Non avrei mica un martello? Sì, in quella scatola degli attrezzi Grazie, Doc Non so C'è qualcosa in lui che non mi convince Vedati È un bravo ragazzo Se lo dici tu Ok Ah, quindi Dove minchia siamo? Io pensavo Al mercato nero fluttuante Però non è che è proprio L'aspetto del mercato nero fluttuante Ah, comunque abbiamo qui Doc E lei è Hoots Sarà la moglie, presumo Apri la scatola degli attrezzi Invertitore di potenza Ancora? No, che incubo E se ci rubasse qualcosa? Ah, mi fido ciecamente di lui A noi ci arriva un martello Vabbè, questo non farà mai male Ah, eccolo qua il martello Mi avevi detto che era un ragazzo presuntuoso, vero? Orco No Lo era prima Ora è di un'umiltà unica Ma gli è dicapitato un uccellino Oddio Salvalo, ti prego Rufus non ti sembra un po' rude? Ma no, tesoro No Dove l'aveva iniziato quel canarino? Forse sotto la tenda Ah, dai, c'è il martello pure Spero di ritrovare ogni cosa al suo posto Quando se ne sarà andato Oh, Dio Stare tranquilla, credimi Sta facendo un casino della Madonna Doveva prendere un martello Ha ucciso il canarino e ha dato fuoco a un tavolo Credi davvero che le persone possano cambiare? Certo che sì Sbagliando si impara E Rufus ha sbagliato tante volte E non ha imparato un cazzo Fidatevi Hai visto da finito l'uccellino? Dove? Qua Oddio Oh, poverino Si può salvarlo in qualche modo? Non penso Non so Rufus ha l'aria da piromane Rufus? Assolutamente no Sa meglio di chiunque Che non si scherza col fuoco Questa casa andrebbe a fuoco In un batter d'occhio Lo sai, vero? Non succederà Puoi starne certa Non succederà Mai All'aria di essere un po' Imbranato Sembra che lì ci vado un invertito di potenza Ah, no Tutt'altro È diventato un ragazzo molto attento E ora il canarino è finito nel water Ma povero Vedici l'invertitore in quella scatola? Così a caso? Eh sì, dai Io credo che le persone Non cambino mai Beh, Rufus ci è riuscito Sembrerebbe quasi Che gli abbiano montato Un invertitore di potenza Tira l'acqua Povero canarino E spero proprio Che non gli venga in mente Di dar da bere al mio John Thomas Ma no Perché si scarica là sopra? Solo cercando un martello Sa come funziona un Un vicino? Da qui l'acqua scende E va giù Esatto E quindi con l'invertitore E dove ne sale Giustamente Da qua possiamo prendere l'acqua Nel lavello E forse spegnere il fuoco E prendere il nostro martello Giusto Era tutto programmato Ragazzi Non userà l'acqua Senza permesso Vero? Oddio Ma no Vedrai Lo spero Quella che ho Mi deve durare Tutto il mese Ah Rip Eh, l'abbiamo appena finita Quindi Ma cosa possiamo fare? Eh, c'è l'altro pulsante Lì del lavello Oh Oh Quasi No Ma non possiamo prendere il canadino E rimettere al suo posto Come prima cosa Sai che John Thomas Sa difendersi È cintura verde Anche noi Non ne avrà bisogno Credimi Ah Che minchia dobbiamo fare? Oggetti che abbiamo O la tovaglia Metti la tovaglia nel lavello A proposito Che non si azzardi A ostruire Nel trita rifiuti Me l'hanno appena riparato Tesoro Ora smettila Di preoccuparti Adesso si scarica D'accordo Mi fiderò di te L'importante È che non succeda nulla Al mio piccolo Nulla Non hai nulla di cui preoccuparti E rip Ciao ciao John Thomas Io speravo di poterlo salvare in qualche maniera Ma mi sa proprio di no Trovaglia è inzuppata E va bene Ti credo A quanto pare Lo conosci bene Proviamo adesso a spegnere il fuoco Bingo Chi se ne frega del fuoco Prendo il martello E lasciando a fuoco la casa Ottimo L'hai trovato Eh sì Sì Bene Lascia ogni cosa al suo posto Intesi Per chi mi prendi Beh è ora di andare Rilassati figliolo Neanche fosse scattato l'allarme anti incendio Ma come ti viene in mente doc Fugone tattico Ma poveri vecchietti Cos'è questa puzza Rufus Cosa hai combinato Solo ciò che era necessario Per sterminarci tutti No Per realizzare il mio piano Ti prego Dimmi che l'isium non c'entra Esatto Come hai fatto a capirlo Dimmi Rufus Come pensi di andarci stavolta Indovina Puta il raspo ragazzo No no tutto il giorno È un piano infallibile doc Inizia tutto con questo mantice E finisce con una spettacolare reazione a catena Ho tutto sotto controllo A proposito Allontanati dalla ghigliottina Se ci tieni alle tue dita Ah lui taglia i cavi con le ghigliottine Dopo c'è una mega fionda Che lo sparerà su l'isium Con una circolare Sì funzionerà Eh devi pigiare con il piede sul mantice L'angolazione del tappo è calcolata al millimetro Quindi Noi premiamo sul mantice Che spara il tappo su questo bersaglio Che gira Dà fuoco alla cordicella Rossa e bianca Poi la fioriera fa qualcosa Staremo a vedere ragazzi Staremo a vedere Ah cade la fioriera Sale Tocca Cade la ghigliottina Taglia i cavi E due parte Sì più o meno Partiamo allora Guarda e impara No Rufus Oh 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 Diciamo che quello Non è il posto migliore Per schiacciare un pisolino L'acqua del vaso Sta per evaporare Non appena il piatto salirà La ghigliottina verrà azionata E la miccia è già accesa Doc mi ascolti Sveglia Dannazione Salvo Doc O vado a Elysium Salvo Doc O vado a Elysium Che faccio? Vado a Elysium Sai quante visual facciamo Se decapitiamo Nel primo episodio? Cosa minchia dobbiamo fare? Doc Doc mi ascolti? Sveglia Dannazione Ma siamo anche legati noi Ah ci siamo auto incatenati I razzi si accenderanno Durante il lancio Producendo l'energia necessaria Per spedirmi ad Elysium Opla Che coordinazione ragazzi Minchia veramente E ora lo tiriamo dove? Ad hoc Potrei andare a segno Con un buon lancio Ma non ricordo Quale dei suoi occhi Sia quello di vetro Colpisci il gas Che così va in faccia a lui E si sveglia con l'aria No ma scusami Colpiamo la fioriera Facciamo prima Ma azionerebbe la ghigliottina Camper Non so se hai capito il meccanismo Se colpisci la fioriera Questo sale Cade la ghigliottina Eh appunto Non vuoi fare questo No? Non vogliamo andare a Elysium Ah perdonatemi Io ero per la soluzione più rapida Fai fuori Doc E partiamo per Elysium Finiamo il gioco in tre mosse Vediamo Devo analizzare la situazione Con oggettività scientifica Doc sarà orgoglioso di me Se nulla lo decapita prima Potremo staccare un razzo E sparaglielo in faccia Doc Così si sveglia Potrò prendere un po' di polvere da sparo Sono sicuro che non influirà Sul mio piano iniziale Mi fa il solletico Ma catapulta anche quella Riuscirò a catapultare La polvere da sparo Dentro il mantice Facile E totalmente credibile Di sicuro Bene Un, due, tre Spara Se la polvere da sparo Raggiungesse le fiamme Potrei accendere il gas Ma cosa sto aspettando? Tombola Ho salvato Doc Sì, gli abbiamo sfondato la faccia Così Così UAAAAH 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 E questo spiega come siamo finiti qui Probabilmente abbiamo decapitato Cletus quasi ucciso Gal Rufus, Rufus! Che c'è? Non hai risposto alla mia domanda Cosa ci facciamo qui? Non capisco Stai domandando all'uomo sbagliato L'uomo che sa fare solo due cose Mentire e farmi perdere le staffe Kletus? Chi ha altri mia cara? Per caso ti sorprende? Io non monto in capsule altrui senza permesso Sono venuto per salvare il pianeta Allora congratulazioni Hai rovinato tutto un'altra volta Cosa pensi che stiamo facendo in questa capsula di fuga? La luna di miele? Gal mi aveva convinto Volevo dire la verità su Deponia Eravamo in viaggio verso Elysium Per salvare il tuo stupido pianeta E adesso non andremo da nessuna parte Bravo Rufus Un nuovo successo da aggiungere alla tua collezione Sei davvero un modello da seguire Non starlo a sentire Gal Non fa altro che dire balle Un genio Non so, quello che dice ha senso Non sarebbe la prima volta che ti riempie di bugie E la Gal che conosco io non glielo permetterebbe mai Amico, stai esagerando E comincio a perdere la pazienza La Gal che conosco io lotta per ciò in cui crede La Gal che conosco io, invece Non crede agli imbecini Non è così, cara? Gal, digli che mi credi So che mi credi Non so cosa pensare Non ricordo nulla Certo che no Grazie a una nuova performance di questo incapace Il tuo chip cerebrale è danneggiato Che strano, vero? Lo sistemerò Lo giuro Ma proprio non capisci? Non abbiamo bisogno di te Vuoi aiutare Gal? Allora salta Stiamo sorvolando le acque Con un po' di fortuna Potresti anche sopravvivere alla caduta No, non è giusto Andiamo Rufus Fallo per Gal Quindi un'altra volta Il chip di Gal è danneggiato Personaggio più utile di sempre Voleva metterci un po' di figa nel gioco E ha detto vabbè Non facciamola parlare 90% svenuta 10% Non so cosa dire Cos'è distintivo? Sembra un sedile iettabile È coperto di polvere Un raggio di miniaturizzazione Ancora meglio del sedile iettabile Cosa? Prova a pigiare il bottone Sembra il pulsante per espellere il sedile Quindi il pulsante attiva un raggio di miniaturizzazione Vabbè Non abbiamo molta scelta Qualsiasi cosa per il bene di Gal Cosa? No Ah Maledizione Aspetta Oh oh No Gal Idiota Gal No 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 Idiota che non sei altro Gletus aiuto Non aver paura Forza Gal Ti salverò io Fidati Ora ti rendi conto del male che ti sta facendo Gletus Tieni duro ci penso io Dannato buona nulla Dovrai eliminarti e fare un favore al mondo intero Resisti Gal Non mollare Ehi dove credi di andare? Ci sono quasi Attento la corda sta per rompere Pure Dove credi di andare? Davvero pensavi di averla vinta? Ciao ciao Rufus Gletus no Gletus Bella mira di merda Oh cavolo Il ragazzo è di nuovo nei guai Non ti preoccupare Doc Rufus è come un gatto Quando cade lo fa su Su qualcuno di noi Lo so Bozzo Lo senti anche tu? Ma che Gal Davvero? Indovina chi c'è dietro Rufus Rufus Aia Minchia che inizio eh A mille proprio La detonazione è pronta signore Ricevuto C'è dell'altro? Dovremmo iniziare il conto alla rovescia Che fretta ha soldato? Il mar di ruggine non andrà da nessuna parte Dobbiamo seguire il piano per filo e per segno Lo so ma La smetta di interrompermi Aspetteremo Gletus Fin quando non avrà compiuto la sua missione Non ci muoveremo Non dobbiamo essere precipitosi Avremo tempo per far saltare quello stupido pianeta Non le pare? Si signore Ho fiducia in Gletus So che convincerai il consiglio del fatto che non c'è vita a Deponia E se non lo facesse Mi occuperò io stesso che sia così Si ritiri ufficiale Ma perché devo essere sempre io ad occuparmi di ogni cosa? Avanti fuori Subito signore Dove si sarà cacciato Gletus? Devo licenziare il mio chiropratico Ehi Doc Un messaggio da bozo Allora Siamo tolati nella barca Gal è da Doc E aspetta nel suo laboratorio Se hai bisogno di me mi troverai nella taverna Laboratorio o taverna? Questo è il problema PS fa in fretta Non so cosa farebbero senza di me Una vita migliore probabilmente Comunque nella scelta taverna o laboratorio Un buon trentino sceglie la taverna Ma prima esploriamo questa stanza Pattumiera Io? Guardare nell'immondizia? Ma perché mi hai preso? Va bene Fa tutto lui Giù le zampe Ehi! Quella è la mia acciuga Appetitosa come il primo giorno Oddio te le ricordi le acciughe della macchina dei dolci Ah Eccola Eccola Mi mancavano Che c'è d'altro? Ah il radar Ah il mercato nero galleggiante si trova in pieno mar di ruggine Lontano dalle rotte seguite dall'organon Un posto ideale Buona sapersi Ok usciamo Ah una zona nuova Ah Non c'è niente di meglio della brezza marina Il profumo di libertà Di avventura Immondizia Di residui tossici Ah ecco per l'appunto Piantala O farai fuggire tutti i pesci È il momento di ricorrere alle mie doti comunicative Io Rufus Dove trovare doc? Tu trovare doc con mappe Noi mettere mappe per gente come tu Per eroi impetuosi? Per idioti che non sanno parlare Ah Non ho bisogno del tuo aiuto E neanche delle tue mappe E perché le stai guardando? Perché tu guardi me? L'ufficio di doc si trova nella zona industriale Della taverna neanche l'ombra Vabbè La troverò Ed è un bel upgrade alle mappe Mi piacerebbe tanto cercare la taverna Ma prima devo aiutare doc Uffi Non ci lasciano andare alla taverna Ok possiamo andare solamente alla zona industriale Eccoci Belli teleport Oh madonna quanta roba Dai rubiamo tutto e poi cerchiamo doc Tutto cosa? Eh la caldaia La cassetta Ah si perché tu ti rubi una caldaia Non la sfida e la porti dietro Mi basta pensare al fuoco E già sento il solletico Ah ok Non ci metti dentro la testa? Strano Che c'è qui? Cassa con airbag Stando alla bolla di consegna Contiene un airbag di riserva per gondole Perché una gondola Deve aver bisogno di un airbag? Non sto capendo I famosissimi frontali tra gondole Di qua Non si sa Non si sa Di qui si sale Molto utili queste indicazioni Andiamo di qua allora Che è la più vicina Cosa cazzo è questo? Robocan Un cane di latta Devo fargli vedere chi comanda qui Non proprio No Rufus Il mio nome è Robocan Sono un'unità cibernetica autonoma Programmata per realizzare compiti di sorveglianza Bravo cucciolotto Robocan Grazie al mio complesso circuito cyber neuronale Sono capace di processare più di 3000 operazioni al secondo Sai rotolarti? Non sono programmato per eseguire un po' l'ordine Intruso Ah can che abbaia non morde Per caso mi hai sentito abbagliare? No sento solo Rimimi Ricordami di chiedere a doc una cyber museruola Non ti permetterò di vedere doc Senti randaggio stai cominciando ad innervosirmi Non sono un randaggio Sono un'unità cibernetica Unità cibernetica Poco ma sicuro quel cane più intelligente di Rufus Ci mancherebbe altro Sai eseguire 3000 calcoli al secondo Rufus forse due E li sbaglia Quindi diventerà nel modo di mandare via il cane O con la nostra eloquenza Che è una merda Seduto non funzionerà Ci stacca le braccia con le sue fauci meccaniche Oppure con gli oggetti che ci sono qua dentro Comunque Tentar non nuoce a noi perlomeno Seduto Non credo di aver processato il tuo ordine Ah stupido cane Perché non provi con una frase completa Seduto bello Sorprendente ma non è un'orazione completa Aspetta e vedrai Malvagio il cane Con la presente Esigo che Il cucciolotto Si sieda Va già meglio Ma continuo a non capirti Dannato randaggio Guarda Così C'è la manca Il cane l'ha trollato di brutto Questo tipo mi fa morire dal ridere Fammi passare Devo vedere doc Se ti facessi passare potrebbero licenziarmi E io amo il mio lavoro Non costringermi a sculacciarti brutto cattivo Ho sentito bene sculacciare me Trollati da un cane di latta Potresti gentilmente farmi passare per favore Emo di non aver sentito l'ultima parola Per favore Parla direttamente al dispositivo di riconoscimento vocale Se insisti Per favore Per favore Per favore Per favore Basta Stai surriscaldando i miei circuiti Questo tra un po' a forza di ridere esplode Esatto Mi sa che dobbiamo farlo cortocircuitare a forza di ridere Posto che è un robot con delle emozioni Non l'ho ancora visto io Chi è il cucciolotto più dolce di Deponia? Tuo padre Che razza di Tuo padre Dannato randaggio È un peccato che tu ti arrenda così facilmente Ride bene chi ride ultimo cagnaccio di latta Potremmo corromperlo con una sardina Guarda Bobby Vedi quel palo metallico a forma di legno Che c'è dietro di noi Sì Glielo lanciamo e il cane corre Ah beh giustamente Un bastone e un cane da guardia È chiaro no? Sì Appunto Appunto fallo Guarda Bobby Butterlo nel mare Prendi il bastone? No Guardami il bastone Bobby No Forza bello Prendi il bastone di papà? Prendilo tu intruso Anzi se lo fai Magari ti faccio anche passare Quando sta diventando il cane con noi È tipo l'incarnazione di Skinny questo cane Comincio a amare questo deponia Secchio di pittura Bianco Il colore più noioso di tutti E qui che c'è? Manovella Oggetto ideale per dare una svolta in attesa all'avventura Ah Abbiamo una manovella Non so cosa potrà servirci E qui del nastro isolante Chi vorrebbe mai una cosa del genere? Boh prendiamolo Ok Prendi anche il nostro bastone Guarda che bel bastoncino Stupendo D'accordo Ti farò vedere come si fa Non mi posso creare L'ha fatto Hai appena fatto quello che penso Ok Uniamoli Proviamo a vedere se funziona Nastro con bastone Yes baby Un bastone con nastro isolante Forse ho un'idea Ho un'idea Mettiamo un bastone nel secchio di pittura Sarebbe più fico in nero Con delle fiamme sui lati E un paio di draghi Credo ci sia qualcosa che non va in quella lampada Tipo la lampadina Forse è qualche pezzo allentato Facci quel bastone sulla lampada Un'idea brillante Quella pattumiera ambulante Non mi fa paura E quindi? Che abbiamo fatto? Abbiamo frantumato la lampadina Per Non ne ho Alcuna idea Bene così Ah ma il bastone adesso è ad alto voltaggio Hai letto? Ah adesso il bastone è elettrizzato Picchiamo il cane con quello Ma sai che forse potrebbe essere una soluzione? Lo vedrà Ehi non ti piace più il bastone Come l'hai capito? Dannato a masso di ferraglia Guarda e impara I miei circuiti Ai 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 Esplodendo ragazzi, l'abbiamo fatta Oddio, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ucciso il cane Ragazzi, quando si suol dire morire da ridere Ora possiamo bussare, ma qua piace mettere i punti di domanda sulle cose ovvie, vabbè Sarà al laboratorio? La butto lì? Si può buccare qui dentro? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno, che c'è sta qui? Cavi da rubare di sicuro Ma dai, una condensa... tecno... flusso... Quello, sì, un classico di sempre Tradotto cose Cose, 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 frate, cose Prendiamoli Avrà elettricità Rufus, pianta laddificare il naso in giro ed entra D'accordo, Doc Sì, ma perché Doc ha un cane che non ci fa entrare, ma Doc in realtà voleva vederci? Ah, guarda, non ne ho idea, non chiederla a me Meno male Gal stava per... beh, immagina Vedo che hai tutto sotto controllo Io andrò a cercare Bozo Il suo chip cerebrale è danneggiato Devo operarla urgentemente Anche se temo che il suo disco rigido si sia frammentato Ed è una cosa brutta? Rufus contiene tutta la sua mente, la sua memoria, la sua personalità I codici di ascensione Con i chip sufficienti potrai mettere quei dati in salvo E cosa aspettiamo? Vai tu a cercarli, giovanotto Non ti sarà difficile Gli impianti cerebrali vanno di moda Piedi nel negozio di cianfrusaglie E perché dovrei andarci io? Perché io devo preparare l'intervento, Rufus Ma Bozo mi sta aspettando nella taverna Rufus! Eh va bene, va bene Dov'è il negozio di cianfrusaglie? Al porto Digli di metterlo sul mio conto Ah, compra dei chip di buona qualità D'accordo Tanto paghi tu Tanto paghi tu Giustamente E intanto Gal ha una sega circolare a un centimetro dal cranio Bene così Ah, tanto abituata ad essere svenuta Ci ha fatto il callo Inculiamoci le cose Tipo i cacciavite Il negozio del tuttofare Quello che i suoi amici tuttofare lasciano in giro Doc si sta guardando Vabbè tanto è strabico E lì che c'è un cassetto Ingoia Doc Intendevo solo ricordarti che non mi piace che si metta il naso nel mio laboratorio Ricevuto e ignorato Rufus Va bene, va bene D'accordo Solo un'ultima occhiatina Interruttore Cosa farà mai? E qui abbiamo un congelatore Sono Sono sardine camper Tu ve le vedi le sardine? Non le vedi le pinne delle sardine? Onestamente No Guarda Te la indico col mouse Questa qui è una pinna Figa Deve averne di fantasia Ops ho chiuso Vabbè Lasciamolo chiuso Andiamo al legato di champrusaglie Povero Fuffi Non si riprenderà più Vai la mappa Ehi tu Chi io? No l'ornitorinco ha tre teste che hai dietro Ah ok Che ritardato Ti stiamo osservando Sappiamo cos'hai per le mani Allora ne sapete più di me Qualcosa di molto prezioso Preziosissimo Non sei il primo a dirmelo Zitto e ascolta Presta attenzione Stiamo lottando contro il tiranno oppressore Porti all'organone Abbiamo un piano Ma non possiamo rivelarlo Non posso aggiungere altro E ti ho svelato fin troppo Ma torneremo Morte all'organone Morte all'oppressore Morte a Rufus Ah Scusatemi Mi ero fatto prendere Comunque l'ornitorinco c'è Guarda che simpatico Secondo me Quell'ornitorinco è una spia dell'organone Comunque curiosi quei due tizi Che possiamo fare? Eh dobbiamo andare al negozio di champrusaglie Dove sta? Eh guarda la mappa Al modo Allora sarà più avanti di qua Beh siamo di fronte a un bivio In alto in alto in alto Guardalo lì col teschio È lui Non penso che quello sia il negozio di champrusaglie Proviamoci E ora? Vi ho già detto che non presto niente a nessuno Poi non lamentatevi se vi rifilano un bicchiere di cianuro al posto del latte Ma che? Tu chi sei? Eh Amichevole la gente del posto eh Voglio un coltello Voglio un coltello per difendermi e ucciderti Voglio un coltello Nell'occhio o nella gamba? Bella risposta Complimenti Cos'hai in offerta? Due per uno Ispari alle gambe Ma è così che tratti i clienti? Guardati Scommetto che non hai un soldo Dovresti essermi grato Per non averti ancora sparato Ripeto Non ancora Credo di essermi perso Così pare Ma ho buone notizie Non succederà più Perché finirò per orientarmi? Perché non potrai più camminare Perché finirò per orientarmi? Oddio Questo è proprio uno scemo Credo sia ora di andarmene Non pensare nemmeno di tornare qui a seccarmi Se no ci secca lei giustamente Ma quello era il negozio Non ho ben capito Forse non era proprio il negozio Forse era l'armeria Svalvola svalvola Cos'è questa è una valvola? Con questo potrei aprire la tubatura Ora è aperta Prova Uno due Attenzione Abitanti dell'isola Il mondo sta per esplodere E io non c'entro niente Ripeto Il mondo sta per esplodere E io non c'entro niente Cazzo che divertente Si diverte con poco Però ci tornerà utile secondo me Dovremmo rindirizzare la nostra voce E farlo arrivare alla gente E poi diremo una cosa seria magari Non oggi Ma se giriamo la valvola? Bene Ora è chiusa Ma per me non fa nessuna differenza Meglio lasciarla aperta Vabbè ci penseremo un'altra volta Per di qua dove si arriva? Oddio santo Ma è enorme questa parte Ok quella altra era un'armeria Perché ci dicono le cose dopo Siamo dietro front Sì sono d'accordo C'era troppa roba lì per i miei gusti Ma guardiamo la mappa Doc aveva detto che il negozio di champusaglie Era al porto Quindi il molo Ah ok Torniamo al molo Ma guarda un po' chi abbiamo qui Il famoso forestiero Famoso? Io? Era ora Ascoltami bene farabutto Tu hai qualcosa che ci interessa Spiacente la bellezza non si compra Mi riferisco ai codici di ascensione Ah Dovrete passare sul mio cadavere Aspetta Ok Lo detto veramente Oh oh Dai Ah che bella giornata Guarda che bravi Non lo fanno neanche diventare non family friendly Mettono la telecamera in alto Non li ho con sé Vedo che non sei così stupido come sembri E adesso Informiamo donna Donna Ah guarda qui un po' il caos si comincia a iniziare però a Deponi Hai visto? Oh 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 Che gentili gli abitanti di quest'isola Minchia un botto Dov'è il negozio di cianfrusaglie? Forse questo? Sarà lui Il nostro uomo Benvenuto nel paradiso delle cianfrusaglie In cosa posso esserle utile? Mi servirebbe un set di chip Ne abbiamo di due marche Signore preferisce Platino Professional Top della gamma O chip più o meno Meno affidabili Più economici E con un lecca lecca in regalo Un lecca lecca? Mi dica lei signore Oddio Scusa ma tanto non paghiamo noi? Esatto Sono di buona qualità vero? Perché mi hai preso? D'accordo All'opera A posto siamo Deve essere bello assistere a un'operazione chirurgica vero? Ma non è ancora iniziata Ma poi lei è un robot comunque secondo me per metà Ma forse è già finita Allora? Non so C'è qualcosa che non quadra Rufus? Rufus Chi altri se no? Perché mi faccio la stessa domanda ogni volta che ti vedo? Quale domanda? Chi è quel bel tipo col cappello? No Dove mi trovo? Ah capisco piccola Il mio carisma ti confonde Avanti dillo Dove mi hai portato stavolta? E cos'è questo odore? Benvenuta al mercato nero galleggiante Ma non ero in viaggio per Elysium? Sì Ma con la persona sbagliata Kletus mi stava aiutando Ma come fai a fidarti ancora di quell'imbecille? Perché? Sarebbe meglio fidarmi di te Ehi Un dolce risveglio non c'è che dire Soprattutto quando apro gli occhi in una camera di tortura Che come se non bastasse Puzza più di una stalla Mi sto sentendo male Devo uscire da qui Ah non ha le sue cose Sì ma è stronzissima È l'effetto che faccio sulle donne esplosive Sembri proprio un detonatore ambulante Senti non le avrei mica fritto il cervello vero? Beh diciamo che non sono riuscito a registrare proprio tutto nei chip E a proposito Per essere quelli cari Non valevano un tubo Vedi Sì la sua mente è divisa in tre frammenti Dunque quella era solo una parte di Gal Esatto Credo di poterla sistemare Ma per farlo mi servono tre chip Compreso quello che si trova dentro la sua testa Ovviamente per operarla di nuovo mi serve il suo consenso In questo caso il consenso di tutte e tre le sue personalità Niente di più facile Sono sicuro che muore dalla voglia di farsi aprire di nuovo il cranio Beh magari qualcuna delle altre parti di Gal è più facile da convincere Come? Prendi quei due chip lì E questo Cos'è? Un telecomando? No è un dispositivo di controllo remoto Ah vabbè e come funziona? Basta inserire un chip Avvicinarti a Gal e premere il pulsante Allora posso alternare tra una personalità e l'altra Proprio così Come quando cambi canale Sì Rufus sì Fico Mi sarebbe stato utile averne uno per Tony Fai in fretta Rufus Più tempo passa Più difficile sarà affondere i tre frammenti della sua personalità Trovala e convinci le sue tre personalità che devono subire l'intervento Considera lo fatto Non sarà per nulla facile signori Però è la svolta il telecomando per controllare la personalità di una donna Non è una donna è un cyborg sarà per questo forse Cucina 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 rifamila Sesso 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 T'è zitta t'è zitta t'è zitta Spegniti Ecco qua il telecomando E questi sono gli altri due chip Possiamo combinarli? Il chip combacia Spero che il telecomando funzioni Con il mio fascino il resto sarà una passeggiata Telecomando con chip Cioè cosa ha fatto li ha avvicinati Non ho capito Li ha messi nella stessa taschina del giubbotto Così non li perde Ora possiamo spegnerla Cambiarla il chip E dire diventa simpatica Ti prego Il problema è In tutto questo Gal Dove sei cacciata? La città è infinita Cominciamo a cercare camper Ah qui Forse adesso possiamo rubare questi eletrodi Avrà elettricità Ah già Sì ha le zampe dalla mia attrezzatura Rufus O hai intenzione di creare un varco spazio temporale Attenzione Questo spiegherebbe il Rufus del futuro presente nel primo reponia Gal Dove minchia sei? Sei qui dentro? In la caldaia Bisogna andare a cercare indizi dalla gente Che ne dici? Andiamo al mercato Sì al mercato diciamo che è il luogo in cui pullurano i pettegolezzi Ah non sembra essere qui Punto di domanda Punto di domanda Dove minchia sbagal? Farmacia? Oh magari andai in farmacia a prendere degli antidolorifici per il pancino poverina Le sue cose Ok andiamo alla farmacia Che tipo? Perché non si è visto lui Guarda la droga Droghe scadute E gratis Ah io stavo scherzando Ma quella è droga per davvero Salve Cosa? Chi è? È cieco? Mi viene il dubbio Eh la rocchialesco apposta Cosa vendi amico? Quello che vedi Ah ah Te lo direi pure ma sono piuttosto cieco Dimmi cosa vedi? Sostanze psicotrope, droghe illegali, medicine scadute Ah perfetto Tutto in ordine Benvenuto nella mia farmacia In cosa posso aiutarti? Ah 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 Farmacia Ceco davvero comunque Ragazzi sto azzeccando tutto in questo episodio Tranne trovare gal C'è tempo per trovare gal Compra compra Vorrei comprare qualcosa Dimmi pure Cosa? Cosa? Vorrei una pozione di guarigione di più 5 Spiacente? Esaurita? Ma ho qualche antidoto in offerta Ah non hai niente che mi interessi Potrei dire la stessa cosa di te Ma noi non vendiamo nulla Perciò sei cieco Cosa ti è successo? Mi sono automedicato senza leggere il prospetto informativo Cose da farmacisti È la prima volta che vengo Hai qualche posto da consigliarmi? Non lo so Magari uno con un bel vedere Ah ah Sono cieco Se non l'hai capito Vabbè Nessuno è perfetto Tranne me Che ritardo Povero Che diavolo è quello? Fra un po' gli tira un cartone Niente male la vista sul mercato che hai da quassù Ah ora capisco Questo spiega le voci che sento continuamente Voci? Pettegolezzi Vai sono tutto orecchie Mi piacerebbe darti altre informazioni Ma la musica di sottofondo è troppo alta Così non si può sentire nulla Eccetto le occasionali esultanze dell'arena Ah questo forse è un consiglio Togliamo la musica di fondo del mercato Lui può ascoltare cose e darci informazioni Perché il suo udito Bisogna sapere È molto più sviluppato di uno che ci vede Rimane il fatto che lui non è nato cieco Lo è diventato per stupidità Sì ma i sensi si sviluppano Deve essere orribile ascoltare quella musica tutto il giorno Non sai cosa darei per poterla spegnere Effettivamente un po' migliore potrebbero metterla la musica Ci vediamo Ma anche no Ci vediamo Dai Se lui è cieco Possiamo fotocigli al roga senza essere visti Sedativi scaduti Bello Meglio di niente A cavallo donato non si guarda in bocca Vabbè i sedativi scaduti li lascio comunque per terra se li trovo io Possono tornare utili per uccidere qualcuno Qui c'è un tubo a due uscite Il tubo rosso sbocca nella piccola Venezia Quello verde nella zona industriale E quello giallo nel vicolo buio Secondo me è correlato con il tubo in cui urlavamo cose vicino all'armeria Ti ricordi che sboccava da un tubo giallo e non c'era nessuno che ascoltava? Sì sì è quello infatti Eh magari se riusciamo un po' a incriccarli Facciamo uscire la voce dal tubo verde E finisce che ne so Alla piccola Venezia dove minchia deve uscire Proviamo a modificare i tubi quindi Ha collegato il tubo rosso col tubo verde E ora tubo giallo con il tubo verde Buona sapersi magari ci tornerà utile più avanti Ok scendiamo al mercato Abbiamo tre vie Sinistra centro o destra? Io sono mancino quindi prendo la sinistra E poi lassù mi intriga quel posto Cos'è? Un cancello? Ehi ciao! Cosa vuoi dire con questo? E' un naso Dove minchia siamo arrivati? Controllo olfattivo d'accesso Beh ragazzi di sicuro Gal non è passato di qui Dietro front Ok andiamo a destra Guarda lì Cosa? Il gondoliere Eh Dice che sono la chitarra negli intervalli E' vero è lui Gli parli e comincia a cantare questo sicuro Minchia è stonatissimo Che tipo? Potrebbe pure cercarsi un lavoro vero Cosa? Cosa? Tipo lo youtuber Che potete scontare che facciamo il camper? L'avrei detto anche io identica Salve Prego Di cos'è questo spartito? Ah sta musica se magica Se è una canzone molto romantica Mmm calzone Prego Se è proprio un vento se Non puoi cantare qualcos'altro Con piacere Ma sfortunatamente Ego solo uno spartio Davvero devi remare e cantare tutto il giorno? Ah Cantar Certo Goda spaventar Come si dice? La noia I granchi Cosa? Il veneto mi mancava in questo gioco E beh è figa la tua gondola Che minchia vuol dire figa la tua gondola? Ma se è figa la tua gondola? Figa la tua gondola Sì se è molto confortevole con tutti gli optional Optional? Quali optional? Un piccolo airbag Ah Airbag della gondola I famosissimi airbag per gondole Sapevi che l'organo non vuole distruggere deponia? Cosa dice? Non c'è un problema Cantarò fino alla fine del mondo La 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 Mamma mia Spero ci distruggano il prima possibile Se vedem Cosa ti dici? Non capisco Niente Lascia stare Se vedem E' peggio di me quando provo a parlare in trentino Ah eccolo qui l'airbag per gondole Parabordi Esisterà il controllo di qualità made in rufus? Secondo me no Stronzo Cosa ti pensi di fare? Cogion Guarda da domandar una riserva a tocco Mi piace quando si arrabbia Che Dio ti ha meravigliato da uno schiafone che ti è rivolto in pittura 15-18 quanto paro? Eh ostia Abbiamo poi tratto gli irascibili veneziani Cosa ho lasciato qui? Leggio con gli spartiti Un leggio Pericolo in vista Non possiamo manco incularglielo Ma che scatole Queste gondole straniere sono dei catorci Quando meno te l'aspetti si guasta qualcosa Quando meno te l'aspetti Se la prendi a calci rufus Cosa possiamo fare? Potremmo svitarla Il vandalismo è divertente solo se c'è qualcuno a guardare Ci siamo noi a guardare rufus Per una volta vandalizza Quell'uovo sotto la rampa Eh guarda È un togepi Ah i giochi non sono più quelli di una volta Neanche le uova di pasqua sono più ben nascoste Ah non è mia abitudine toccare oggetti che escono da orifizi altrui Ah no? E da quando sentiamo? Guardala sul nido Forse è da lì che è caduto l'uovo Cioè è caduto Se fosse caduto da lì si sarebbe distrutto Però magari ci appartiene Che nido orribile Non voglio neanche sapere come sarà il padrone Nemmeno io siamo d'accordo Ah di qua si va al molo Di qui al mercato E di qui alla piccola Venezia Entra in questi punti di domanda Ah qui c'è un generatore Non funziona con combustibile biodegradabile Eh no Ah ecco Gal Che culo A caso completamente Eh c'è anche il tizio che ci ha merato comunque Ah è Bozzo quello Ah quello intendevi Nod Ha un nome adesso Ah quindi siamo alla taverna E qui c'è un pesce la lama Non spada Questo è l'arma Questo è l'arma Se gli gira male Il pesce slama Più lo guardo più mi viene voglia di radermi Beh con quei quattro peti in faccia che ti ritrovi Sarebbe anche il caso Buono pesce Buono Ah maledizione Ah deve avere un sensore di movimento Il pesce Lo sensore di movimento Che quando arriva qualcuno Gira la testa e fa tipo tornello Con la lama E ti fa passare o meno Ok scendiamo Ma guarda Uno dei tipi che ho fatto a pezzi prima Devo stare attento Chi ha fatto a pezzi Chi non l'ho ancora capito Però sicuramente la nostra giacca E la sporca di sangue Un joke box Spero ci sia qualcosa di utile lì dentro Non credo Che è sta roba La ballata del granchio Tarantella della ferraglia Tutti a mangiare Tango della scala Facciamo dopo Anche perché noi soldi per il joke box Non ce li abbiamo Che razza di mozzo mi son trovato Trinca grog mentre io mi occupo di ogni cosa Ti ricordo che è al mozzo Che devi il passaggio sul suo peschereccio Ah bevi pure amico Offro io Il mio amico pirata Ancora insisti Non sono un pirata Rufus Certo certo E allora che ci fa un pappagallo sulla tua spalla? Quale pappagallo? E a chi ho dato da mangiare dei vermi mentre tu dormivi? Preferisco non saperlo Ti serviva qualcosa Rufus? Sì certo Sto aspettando la scatolina Aspetta Vermis? Arriva Non sto capendo L'operazione non è andata proprio benone Ma io direi che ha un bel aspetto Certo perché è una gnocca Ma ora le mancano un paio di rotelle Capisco La sua mente è stata divisa in tre frammenti E ora devo convincere tutte e tre le parti a sottomettersi ad un'operazione Vediamo se ho capito bene La tua ragazza si è moltiplicata in tre In bocca al lupo amico Ehi Il mio nome è Rufus Risolvo problemi Dopo averli causati Dimmi Com'è il grog in questo antro? È una camomilla Sì I pirati bevono grog Ma io non sono un... Lasciamo stare Ascolta Doc dice che la tua distorta percezione della realtà può essere dovuta a un trauma E la cicatrice del tuo volto può essere dovuta ad un abbordaggio Non ha cicatrici su... Oddio Non la finirà mai vero? No Ah Ho dormito per tutto il viaggio Come un cucciolo di ornitorinco Le classiche metafore sugli ornitorinchi no? Mi sa che hanno un ruolo fondamentale qua gli ornitorinchi nel gioco Mi sa che chi l'ha creato è un cultore degli ornitorinchi Un ornitorin...cologo? Non voglio saperlo Ci vediamo Ciao Rufus Vogliamo veramente parlarci con Nod? Eh no No L'ambiente perfetto per rimorchiare tre volte C'è una candela Ehi molla quella roba È l'unica cosa che non si spegne quando il dannato generatore si rompe Ma il gelatore che c'è sopra Ah buona sapersi Che stile Per me è perfetta Forza campione Falle vedere chi sei Cadrà i tuoi piedi Devi solo scegliere l'espressione adatta Romantica Intrepida Intelligente Dai sono curioso di vedere com'è l'espressione intelligente di Rufus Quella che gli proprio gli si addice Vediamo Ah Ottimo Che bella faccia di merda Fatto Carisma alla massima potenza La prima fase è cruciale Rufus Che ne dici di... L'intelligenza fatta a persona Mmm Dai Un attimo Con qualsiasi di queste tre Una ragazza normale ti prende a sberle Ehi bambola Che cazzo sei punto primo Come va piccola piccola Allora dici al tuo gatto forse posso offrirti un drink Non bevo ti risponde Forse la terza è la meno peggio Ecco dai Anche secondo me Sì una frase è infallibile Respira a fondo Rufus All'opera Ah ancora tu Non ti arrendi mai non è vero? Ma il drink non glielo offriamo quindi? Shhh Tu ce li hai i soldi? No Eh nemmeno Forse era inteso in quel mugugnare C'era anche ti offro un drink Ce lo siamo persi Perciò è qui che ammazzi il tempo Credimi preferirei essere nel viale dei giardini rotatori Elysium è splendido in questo periodo dell'anno E invece mi ritrovo in questo buco a bere Cos'è sta porcheria? Bava di cammello ovviamente Delizioso Ah no La bava di cammello è finita ieri Quello è l'unguento che mi hanno prescritto Per l'infezione che ho sul vento Hai messo i tuoi lerci artigli A mollo in questo beverone? Proprio così Ma bevi pure Non mi dispiace Rufus Ti odio Ce l'hai con me per caso? Perché dovrei? Per il sequestro O per il trauma cranio encefalico Il sequestro sembra ancora il reato minore Che abbiamo fatto Dobbiamo andare da doc Per farvi continuare a giocare con la mia testa Esattamente Se vuoi posso giocare con il resto del corpo Senti Rufus I miei vestiti puzzano Ho i capelli da pazza E sento come se mi avessero aperto la testa Con una sega elettrica Questo non lo puoi dimostrare E per di più sto morendo di fame Lasciami in pace Se vuoi ho delle noccioline dell'ultimo torneo di lotta nel fango Ma ci sono dei peli? Ah quelli Sono ceppi della febbre suina Ti conviene non inalarli Non inalarli E l'hanno presi noi Ma ci siamo incolati noi il cibo per gal Dobbiamo andare da doc La tua operazione non è andata come previsto Cosa intendi dire? Ti piace il numero 3? I tre porcellini I tre moschettieri Le tre personalità di gal Irrimediabilmente separate Cosa? Tranquilla Me ne occupo io Dai vieni con me Ti prego Non se ne parla Piuttosto preferisco morire di fame In questo tugurio Sai bene che non resisterai al mio fascino in eterno Ho detto di no E se fossi un gentiluomo Capiresti il significato di questa parola Ma Rufus non lo è E continua imperterrito Cosa devo fare per convincerti a venire? E innanzitutto cercheresti la parola no sul vocabolario Fatto Poi? Fatto ed ignorato E se ti invitassi a cena? Dici sul serio? Non mi dire che c'è un pizzico di nubiltà d'animo sotto quegli stracci È un sì Hai già scelto il ristorante? In realtà stavo pensando di offrirti una razione extra di noccioline Sono gratis no? Sì Se non contiamo la visita medica Perfetto Ah era troppo bello per essere vero Lascia stare No caccia l'avevamo quasi fatta Abbiamo più cose in comune di quanto tu creda Nessuno dei due dovrebbe stare su questo pianeta Siamo d'accordo Io dovrei essere a Elysium E tu? Confinato in una cella No volevo dire che siamo due anime gemelle Come ti viene in mente? Io sono colta Sofisticata Beh siamo in due Rufus Mi lasci davvero senza parole L'importante è crederci no? Chissà che qui sono una serie di smerdate una dietro l'altra queste domande Comunque proviamoci Cadere dal cielo deve far male Non sai quanto Eh? Credo di sì Credo anch'io Fortuna che ci resta Kuvak Rufus Sì Sparisci Sembrava tipo Pippo Sì Vai in bagno Ma non devo andare in bagno Vai in bagno Ah camera caffè Quanti bei ricordi Cosa ci fa una ragazza come te in un posto come questo? Niente Passavo da queste parti E un idiota mi ha fatto cadere dalla capsula di fuga Far cadere Salvare Dipende tutto dal punto di vista Non è vero Bozo? Che importa Tanto non mi dai mai retta Lo vedi? Ho dei testimoni Mi arrendo Consentimi di dubitarne Torno subito È una promessa? Certo Bene Questo aumenta le possibilità che tu stia lontano da me Ah che donna Che ne dici di cambiare la sua personalità col telecomando? Sì Volevo proprio farlo Ah proprio punti domanda punti domanda A me piace il blu Pillola verde o pillola blu? Cosa ci faccio qui? È quello che chiedono tutti E di solito a nessuno piace la risposta Che spiritoso Questa è la gal bambina Vai dai almeno sorride Quanto è dolce Per me è perfetta Ma questo fa di Rufus un pedofilo? Che? Ah sei tu Che piacere Che piacere Ehi bambola vai Ora il rimorchio deve funzionare a tutti i costi camper Ehi bambola Ah ah Che scemo Cosa ci fa una ragazza come te in un posto come questo? Dà nomi alle porcherie che trova sul bancone Donni Dì ciao a Ronnie E alla principessa Zoppa Cosa ha la principessa? È triste perché si sente sola Cosa fai? Ora Ronnie è il principe Zoppo Oh che tenero Ah tutto questo è molto cringe Fortuna che ci resta Kuvak Rudy sei tu? Ah lascia stare Che minchia è Rudy? Zerbi? Dobbiamo andare da Doc Sono malata? No Oh sì Mi sento male No no non sei malata Credo di avere la febbre E mi fa male la gola Controllamela Ah Gal non sei malata No meno male Ma devi andare da Doc Cosa? Sono malata? Sarà una lunga giornata Ma dì di sì Dai vieni con me ti prego Dove? Da Doc Chi è Doc? Hai sbattuto la testa? Non lo so Stendiamo un velo pietoso Non ricordi niente? Sì Che non ricordi proprio niente Meno male che ci sei tu Rudy Forza Gal Facciamo in fretta Dobbiamo evitare che l'Organon distrugga Deponia Ho sentito bene? Non starai mica con quei buoni a nulla della Resistenza Resistenza? Di cosa si tratta? Sì I ribelli di Janos Janos? Gli ho già detto mille volte che non voglio riunioni cospiratrici nel mio bar Cominciano con morte all'Organon E finisce che mi ritrovo a togliere resti di noccioline dal jukebox Hai sentito Rufus? Sono i ribelli Quelli veri Sì sì Grandioso Ma dobbiamo andare da Doc E ora di mettere a posto questa testolina Ora non possiamo Dobbiamo unirci alla Resistenza Sì Cosa? Vuole diventare una ribelle? È il sogno di ogni bambino Sì ma adesso andiamo da Doc Ma come possiamo pensare a noi in un momento del genere? È in gioco l'intero pianeta Per salvare noi devo prima salvare te Non sai nulla della lotta per la libertà Dobbiamo sacrificare le nostre necessità per il bene comune Io credevo che fossi un ribelle Come Janos Gal ha ragione Bisogna sempre mettere da parte il proprio io Il proprio essere A favore della libertà E tutte quelle cose positive che piacciono alla gente in Genova come Gal Io lo faccio spesso, te lo giuro, io lo faccio sempre Sì infatti lo so benissimo Non ci credi? Esempio lampante qui davanti a noi camper Di uno che mette a parte se stesso per il bene comune di tutti voi ragazzi Ditegli grazie camper nei commenti per favore Il mio cuore è nobile Cosa devo fare per convincerti a venire? Ne sai qualcosa di magia? Naturalmente, posso far sparire qualunque cosa Peccato che non ci sia tempo per fare trucchi Dobbiamo unirci alla resistenza Come Janos Ti riempirò di trucchi piccola Janos mi ha già rotto le palle Io avrei provato con le caramelle Come i pedofili Cos'ha quel Janos che io non ho? È quello che mi chiedo anch'io Era una domanda retorica Non fai altro che parlare di lui Davvero? Sarà un ragazzo intrepido Eh io gli ricambierei personalità Perché questa non mi piace Torna subito Sì Non ci può discutere Ok, cambiamo di nuovo personalità Quella di prima era la galla raffinata Raffinata Un termine per dire Ha le sue cose E rompe il cazzo in continuazione Clicchiamo sul verde Questa è la galla alcolizzata È la galla a battaglia Ancora tu Cosa vuoi? Beh dai Due su tre ci odiano Potrebbe andare peggio Sì Quella che non ci odia ama un altro E ci dice di unirci alla resistenza Siamo da capo Spiegatelo anche a lei Che devo andare da doc Non ti chiedi neppure come sei arrivata qui? No Qui ci sei tu Cosa che mi suggerisce qualche idea Dobbiamo andare da doc Dobbiamo? Ma anche no Ma c'è in gioco la tua salute? Tranquillo Sto benissimo Ma se non vieni Cosa? Mi spunteranno dei lividi? Mi dislocherà un braccio? No ma Se continui a insistere Tutto questo succederà a te Insistere 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 Rufus? Che c'è? Un consiglio Mai provocare una donna di carattere Credimi Lo so per esperienza Fatti i fatti tuoi Come volete Dove eravamo? Mi pare stessi per spaccarti la testa con lo sgabello Ah già Coraggio Ehi Niente risse nel mio bar Che peccato Dobbiamo andare da doc La tua operazione non è andata come previsto Potrei dire la stessa cosa della tua nascita Ascolta il tuo chip è danneggiato Sei palloso Ti prego gal devi venire con me Costringimi Coraggio Sono curiosa di sapere come ti arrangi senza braccia Ma io le braccia le ho E quelle me le chiami braccia Pensavo avesse infilato degli spaghetti nel tuo giubbotto Guardale bene Perché non le vedrai quando ti sculaccerò Rufus? Stai giocando col fuoco Nah sta per crollare Ti sta rivelando difficile Cosa devo fare per convincerti a venire? Potresti cantarmi nella vecchia fattoria Un gioco da ragazzi Nella vecchia fattoria Ia ia Quante bestie a zio tubia Ia ia Pornito rinco Rinco Ri ri rinco Contenta? Che tipo mi fai morire? Lo vedi? Non ci credi neanche tu Ma tu ti rifiuti di ascoltarmi Non è vero ti ascolto Canterai Nella vecchia fattoria Ia ia Non la so Com'è che faceva? Facile Nella vecchia fattoria Ia ia Quante bestie a zio tubia Ia 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 Pornito rinco Rinco Ri ri rinco Dai vieni con me ti prego No Ma No Quanto sei cocciuta Visto? Ti avevo detto che in questo modo non avresti ottenuto un bel niente Se posso darti un consiglio No Ma No Come vuoi Dobbiamo fermare l'organon Me la vedo io Ah sì? E come? Gli strapperò le barbe meccaniche Che donna Acazzotti Perciò è qui che ammazzi il tempo Quindi? Devo forse chiederti il permesso per andare dove mi pare? Ehm Effettivamente non sarebbe una cattiva idea Ti piacerebbe? Non so nemmeno come ci sono arrivata qui Ma già che ci sono Che almeno mi diano qualcosa da bere Ehi aspetta Tranquillo paga Rufus E il liquido del mio accendino Che schifo Un altro Questa è tosta in questo caso Questa finisce che le nostre gambe diventano piedi Nostri piedi diventano gambe E ci gira il cranio in due Ehi bambola Stai cercando di rimorchiarmi per caso? Povero illuso Non si può più neanche salutare? Magari mi stessi salutando Devo dire che sei proprio forte Siamo fatti l'uno per l'altro Nemmeno nei tuoi sogni più belli smilzo La tua bocca dice no Ma i tuoi occhi dicono Oh sì E invece vuoi sapere cosa dicono i miei pugni? Magari più tardi Faccelo vedere di prego Ok sto zitto L'ha capita da solo incredibile Cosa ci fa una ragazza come te In un posto come questo? Cerca di non addormentarmi Con le tue patetiche frasi Ti porto a letto quando vuoi Ed eccone un'altra Ha detto quando vuoi ha detto Sì L'ha detto davvero L'ha detto davvero L'ha detto davvero Attenzione abbiamo un vincitore Del premio stupido dell'anno Ti farò tremare come un budino piccola E io ti farò scoppiare come un popcorn nel microonde Che donna Che donna Torno subito Non mi piacciono le minacce Ok Direi quindi ripassare al piano camper Primo passo Attiviamo la galla innocente Pops mi sa che mi sono addormentata Tranquilla Finché non appoggi la faccia sul bancone andrà tutto ok Che spiritoso Ora Direi che potrebbe essere una soluzione E drogarla Gal tieni Devo prima portarla da doc Avrò tempo di pavoneggiarmi Ah Peccato Niente piano camper Io lo dico sempre Perché se durla quando puoi sedarla Avevamo tutto il necessario nel nostro giubbotto Beh forse bozza un consiglio da darci Cos'è che mi volevi dire? Qualcosa su un abbordaggio speciale? Di che cosa stai parlando Rufus? Andiamo A me non la fai Siete tutti uguali voi pirati Una donna in ogni porto eh? Magari In realtà Lo vedi? La mia bambola vive qui Ma a dire il vero siamo stati insieme solo due giorni Non sei riuscito a farla felice? Non riuscivo ad abituarmi ad avere una pistola sempre puntata addosso E tu ti reputi un pirata? È lei Bozzo si è fatto la tipa dell'armeria Attenzione bozzo bomberone Epic bozzo Credo di piacere alla gal spavalda Spavalda? Sembra che la gal incazzosa sia stata salvata in un chip Che genio Stai attento Rufus Conosco bene le donne di carattere Un passo falso e tirano fuori gli artigli Dovrei regalarle un tiragraffi? L'unico modo per domarle È scegliendo le parole giuste A me bastava una frase Per trasformare la tigre in un docile gattino Ah interessante Dimmi qual è la frase magica per domare una tigre Lascia stare Rufus Non voglio riaprire vecchie ferite Ma ci serve? Non esagerare adesso Le vuoi vedere? Una spalla Una gamba Una alluce Dannazione Dicci le fattute parole bozzo Dimmi com'è fatta la tua bambola Ah È la donna più focosa che abbia mai conosciuto Ha un'armeria nella piccola Venezia Ormai è tanto tempo che mi ha rubato il cuore Fortuna che Doc ha sempre qualche organo di seconda mano Abbiamo avuto modo di conoscerla? Già Gli ha rubato il cuore Letteralmente Povero bozzo Credo che sia il momento che tu riveda la tua bambola Che? Ah non se ne parla Dai Sembra davvero irresistibile Rufus Quella donna è pericolosa Ma che razza di pirata da quattro soldi sei? Per l'ennesima volta Non sono un pirata Non sono un pirata e non ho alcun bisogno che tu metta il naso nei miei affari La mia vita era così tranquilla prima che arrivassi tu Passeggiate al tramonto Passeggiate al tramonto Esposizioni di giardinaggio Abbordaggi Ammutinamenti Saccheggi Tesori Decapitazioni Dannazione Rufus Non intendo andare da lei Certo che sì No Ti dico di sì Dammi retta Ho detto di no Sì 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 Al diavolo mi arrendo Ah sei ancora pazzo di lei Andrò a trovarla Ti aspetto nell'armeria della piccola Venezia Avrò bisogno di supporto morale e assistenza medica Questa non me la voglio perdere L'abbiamo convinto? Insistere con Bozzo funziona sempre Con Gala a quanto pare no Ehi Che vuoi? Non hai intenzione di scusarti Per cosa? Per la mazzata Apri bene le orecchie bello Io faccio parte del crimine disorganizzato E questo cosa c'entra? È così che gestiamo le cose Fico Cos'è questa storia del crimine disorganizzato? La tipica banda di criminali Ma senza organizzazione Ah quindi picchiano random Senza una ragione Ma sì dai È un po' come gli Ultras no? E cosa ne pensa l'organon della vostra organizzazione? Sei al mercato nero galleggiante Qui non ci importa un fico secco Di quello che pensa l'organon E che mi dici dell'ufficiale organon dietro di te? Eh? Molto spiritoso Lo so lo so Beh non sembrano essere troppo svegli Ehi e il tuo collega? Chi? Wink? È di guardia alla base E pensa che è cieco dall'occhio destro Mi chiedo come mai E lui sarà cieco dall'occhio sinistro? Suppongo di sì Posso unirmi a voi? Sono il re dei disorganizzati Ah tu? E cosa sei capace di fare? Nulla! Perfetto! Sei proprio quello che cerchiamo! Sono un tuttofare Dimmi cosa sai riparare? Invertitori di potenza Capsule di fuga I chip di memoria oppongono ancora resistenza Ragazzo questa è roba per gente temeraria Non è quello che serve Punto Spento? Sono incredibilmente resistente Posso precipitare da una nave Senza farmi neanche un graffio Ricordami di chiedertene una dimostrazione Quando vuoi Come faccio a dimostrarti la mia insuperabile audacia? Facendo qualcosa di insuperabilmente audace Come rasare il gatto di donna Il nostro capo Un gioco da ragazzi E il peggio è che ci crede davvero Gatto tosato in arrivo Spero vivamente che donna non sia il capo dell'armeria Presto sarò uno dei vostri Vedrai Aria D'accordo Ah qui Bozzo ha lasciato la zuccheriera In realtà è del bar E avevo nessun diritto di incularcela Ma ormai il danno è fatto Il tappo sarà svitato? Certamente Com'è giusto che sia? Ultimo posticcino Porta del bagno Chiuso Buona sapersi Niente E qui sopra c'è un lost individuo Garlef O Garlef Garlef secondo me Perché io ho studiato molto etimologia delle parole di Deponia e Garlef Brutto come nessun altro Senza offesa Andiamo a parlarci Posso sedermi? Preferisco stare solo grazie Beh non sempre si ottiene quello che si vuole Cos' Cos' Che faccio da cazzo? Ehi Non ci siamo già visti io e te Mi starai confondendo con qualcun altro Sì Tu e il tuo amico urlavate morte all'organon Morte all'organon Chi mai direbbe una cosa del genere? Anche se devo ammettere che è uno slogan brillante Ah È uno di quei due che abbiamo trovato vicino alla caldaia fuori dall'ufficio di Doc Ho sentito che sei un membro della resistenza Chi te l'ha detto? Si tratta di informazioni confidenziali Ah Non lo sapevo E credo neanche i tuoi seguaci Contro cosa lottate esattamente? Contro l'oppressione dell'organon Morte all'organon E a te cosa hanno fatto? Mi hanno oppresso E questo mi fa incazzare Posso unirmi a voi? Impossibile E se tu fossi un agente segreto? E come lotterete contro il nemico se non reclutate nuovi membri? Facile Tramite la resistenza passiva Vale a dire senza fare niente Studiamo continuamente nuovi piani Cercando di resistere in modo ancora più passivo È chiaro Che schifo Non c'è niente di meglio della resistenza passiva per spaventare la gente Permettetemi di unirmi a voi Voglio far colpo su una fanciulla E credi che questo funzionerà? Ovvio Le donne impazziscono per i tipi coraggiosi Come quelli che hanno il coraggio di entrare nel bagno di una taverna Ah Mi riferivo più che altro a quelli che lottano per una buona causa Allora dai questa chiave a Gulliver A me non serve più Ah abbiamo tutta una chiave? Cosa ci fai qui da solo? Aspetto un degno rivale per sasso, carta o forbici Qui? In una taverna? Ti viene in mente un posto migliore? Mmm No Quindi sei un giocatore professionista di sasso, carta o forbici? Proprio così La mia specialità sono le forbici Sono anni che le perfeziono Tutto sempre più ridicolo mi sembra Però Che cazzo Però ci vorrei giocare in questo momento Io voglio giocare D'accordo Hai le dita? Ah beh l'ultima volta che ho guardato erano lì Sì ci sono Bel tentativo amico Ma senza una mano regolamentare non puoi giocare Giusto Sono onestamente confuso Di cosa stiamo parlando? Sembra che stiano parlando in codice Io lo intendeva probabilmente da droga Magari in tutti i linguaggi in codice per lo spaccio Devo andare Ci si vede Giocatore professionista di sasso, carta e forbice Guarda un attimo l'inventario Abbiamo la chiave del bagno Pensare che c'è stato un giorno in cui ho avuto la chiave di una città Che ricordi Vabbè riportiamola a Gulliver Te la puoi tenere Non uso più quel bagno E chi mette la carta igienica quando finisce? Alcuni ci hanno provato In pochi sono sopravvissuti Che minchia vuol dire? La dentro secondo me è un dungeon di mostri marini Dai Rufus Gambe in spalla Sono io o fa più freddo? Cosa è stato? No No Quello no Tanta ferraglia Aiuto No è tornato vivo Ma che cosa c'ha lì? Tutto bene? Ho visto bagni peggiori E quei rumori? Diciamo che la carta igienica potrebbe essere più soffice A proposito Ne hai un pezzo attaccato alla suola Interessante Perché abbiamo raccorto della carta igienica? Io pensavo fosse una mappa del tesoro Non la carta igienica Strana carta igienica Estremamente ruvida Che ricordi Sta a vedere che hai carta vetrata Che schifo Come quella volta che mia madre decise di comprare la carta igienica ecologica Quella bio Quella un po' marroncina Perché l'ha fatto? Era carta vetrata Ha detto madre Torna a comprare quella a 16 veli Che chi se ne frega dell'ambiente Che quando mi asciugo il culo Voglio che sia perfetta Vabbè E' tempo di andare all'armeria Ah è tornato lui Non volevo deviare ancora Però è tornato Vabbè Armeria Quella Attenzione Bozzo in tenuto elegante E' cominciato il carnevale di Eponia Che stronzo Ah Rufus Finalmente Indietro vigliacco Sono io Bozzo Ma come sei conciato Volevo dire Come stai bene Mi sa che il cappello mi fa la faccia paffuta E mi sento fungere all'altezza del cavallo Perfetto Perfetto per un appuntamento Cos'è? Dopo barba? No E' spray anti lupi Ah buona idea Avanti bussa alla porta Rufus Credi davvero Che sia una buona idea? No Mai nella vita Ma certo è un'ottima idea L'ultima volta che l'hai detto sono rimasto intrappolato su una sgogliera E del panorama che mi dici? Ma come ho fatto a lasciarmi convincere? Creature del demonio Quante volte devo dirvi che non sono stata io a sparare a vostro nonno È stato un incidente Cosa? Bozzo? Sei tu? Ehm... No Entra! Non vorrei essere costretta a fare fuori un altro ufficiale di controllo dell'inquinamento acustico Entra! Dove diavolo sei stato tutto questo tempo? Ecco vedi stavo andando a... Ehi... Cosa ci fai con quel macete? Oh merda Dai calmati adesso Non sei felice di vedermi? Andiamo, bambola Sai esattamente cosa succederà Non appena dirò la frase magica Quello cos'è? Mi scoppia la testa Per il troppo cantar Non sarebbe grave Se non cantassi Orrendamente mal Oh sole mio La 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 Non ci posso credere Non sento nemmeno i miei stessi pensieri Credo sia ora che tu te ne vada Ma... Fuori! Visto te l'avevo detto Santa Ferraglia Quel gondoliere è un pericolo pubblico Ah... Oddio Sono successe troppe cose Dobbiamo ricapitolare I due stavano amoreggiando Si con le lame e le pistole e le scimitarre Ed è intervenuto il gondoliere A cantare completamente a caso Però siamo pure accordi che i nostri tubi magici qualcosa hanno combinato Perché la voce del gondoliere finiva nella piazza grande Cosa però alquanto inutile Si mi sembra anche a me Non lo so Se maneggiamo ancora un po' con quei tubi laggiù Forse può cambiare qualcosa però Torniamo dunque al mercato Allora La voce del gondoliere usciva dal tubo rosso Proviamo a veicolarla O nel verde o nel giallo Quindi dai Abbiamo il 50% no? Giallo o verde spawn? Verde perché giallo era quello iniziale Non mi fido io Ok Vediamo adesso cosa cambia Ah il verde guarda Finisce qua C'è davanti la cassa con airbag per le gondole Che magari Con il gondoliere Avrebbe a che fare O al massimo mettiamo il gondoliere nella caldaia Malle che va Vabbè vediamo adesso Bozzo Sei pronto? Ci sta odiando secondo me Non che sia una buona idea Minchia un botto Tutto qui? Getti la spugna? Rufus Cosa vuoi che faccia? Andiamo Non essere smidollato Povero Bozzo Lo volete capire o no? Non voglio comprare niente Se ci tenete alle vostre gambe Io al posto vostro Ancora tu? Entra Vedè lo fa sempre entrare Entra Certo che hai una bella faccia tosta Bambola Ascoltami Voglio solo parlare con te Andiamo Bambola Non possiamo saltare questo passaggio? Devo solo dire le paroline magiche Mi scoppia la testa Mi scoppia la testa Per il troppo cantar Non sarebbe grave Se non cantassi Orrendamente mal Per nessuno quindi Di nuovo no In questo modo è impossibile concentrarsi Io lo trovo romantico Fuori No non possiamo aver canato i 50 e 50 tutte le volte A quanto pare Mettiamo sul giallo Adesso dovrebbe essere quello giusto Riproviamo Da capo Non sarebbe grave Ave Se non cantassi Orrendamente mal Da nessuna parte Anche se quegli occhietti lì a destra Fuori Oh Una mezza idea che non so se funzionerà Dimmi Ti ricordi quando mi avevo incontrato per la prima volta al gondoliere? Abbiamo tirato un calcio alla gondola E scopriato l'airbag E lui si è tuffato in acqua Perché doveva andare ad aggiustarlo da doc E in quel frangente Se non è nella gondola Non può neanche arrivare E magari riusciamo a far dire A bozzo le parole magiche Ha senso Però non capisco Cosa c'entrino i tubi in tutto questo Eh Niente Torniamo dal gondoliere Tu faccia di merda Adesso ti spacchiamo la gondola Ancora Cretino Cretino Sono fatto così Adesso devi correre velocissimo camper Prima che torni Non c'è problema Allarmeria Brigati Bozzo Bozzo buttati adesso Sì 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 È una bellissima idea ora Ma no Stroncio Faccia di merda Ok A questo punto Mi viene un'altra idea Corrompiamo il gondoliere Devevo far affondare quella fottuta gondola Io lo so Ancora Cretino Vattene Bene Devo un cacciavite no Cominciamo a usarlo Il vandalismo è divertente solo se c'è qualcuno a guardare Un altro airbag Quante riserve avrà Doc Eh Ci ho pensato anche con la cassa Sul manometterla e farci qualcosa Questo spiegherebbe molte cose Forse lo incontriamo pure da Doc È qui che il gondoliere fa scorta Mi chiedo a cosa servirà un airbag se è la prima cosa che si rompe Sì beh Abbiamo a che fare con Rufus Camper È un coglione Parliamo con Doc va Magari avrà dei suggerimenti per noi Hai riparato l'airbag del gondoliere? Certo E al molo Già un altro ricambio Per ogni evenienza Vorrei sapere cos'è che ha fatto azionare l'airbag E pensa che gliel'avevo pure detto al gondoliere Se bevi Non navigare Quindi Doc glielo giusterà sempre l'airbag al gondoliere Mannaggia Mannaggia Torniamo a fare due chiacchiere con Bozzo Non sai come rimorchiartela Certo che lo so È colpa del gondoliere I suoi ululati hanno rovinato la magia del momento Magari lo mangiassero i granchi della discarica Un'immagine idilliaca Sono una vera calamità Lo sapevi Tu concentrati sulla tua bambola Che del gondoliere me ne occupo io Mi hai fatto venire un'idea Oh grazie Bozzo Oh sole mio Parliamo col gondoliere Mi dispiace per l'airbag Non ti preoccupare Mi son socio del club gondo mobilistico Doc o elga sempre una riserva parmi Mannaggia al club gondo motobobilistico O che cazzo si dice Cosa c'è in quella scatola? È il nuovo airbag Sì sì Fortunatamente il doc o elga sempre un ricambio Parli sempre con questo accento buffo Sì altrimenti mi ritirerebbero la patente dell'associazione dei gondolieri Ah è vero devi fingere di essere veneziano Allora Ah vandalizzagli la gondola mentre c'è lui Così vuole farlo Sai che lui dice sempre Non voglio vandalizzare la gondola quando non c'è gente Per favore Come vuoi Poi però non chiedermi di truccartela Allora mandiamo via il gondoliere E dobbiamo riuscire a mettere i granchi nella gondola forse O fare cose del genere Il leggio Il leggio Il leggio Potremmo imbrattarlo con qualcosa ma cosa Svitalo svitalo Come svitalo? Per quanto incredibile possa sembrare Il tipo ne sa di solfeggio Ci servono dei fottuti granchi secondo me Come ho detto bozzo Pescatore Yuhu Sparisci Spaventi i pesci Ma largo Guarda un po' Barattolo con ami E secchio con esca Cos'era che non volevo rifare con un barattolo di ami? Metterci la mano Come quello di Tony ti ricordi? Sì esatto Ora abbiamo un amo Ci manca la lenza E qui cosa c'è? Secchio con esca Non li voglio neanche regalati Niente a che vedere con le mie leggendarie acciughe fosforescenti Ah ok prova a collegare l'acciuga con l'amo Quello l'ho già agganciato No Vabbè abbiamo un amo ci manca la lenza Come possiamo interagire con i granchi che passano sempre per di qua? Ora Non vorrei Però nel jukebox nei vari titoli scritti in aramaico Uno parlava di granchi Non so se la fiava del pifferaio magico sia l'equivalente del jukebox con i granchi Sei sicuro? Dacci un'occhiata Ah la ballata del granchio Però il jukebox non funziona giusto? Eh c'è riscritto di interagire con la saracinesca Uff Impossibile E' avvitato Easissimo Basta svitarlo Ma che ci fa un nano dentro il jukebox? Questo spiega ogni cosa Non proprio Ai ho Ai ho Cerchi grane? Dai fatti avanti Canta con me Sei fortunato che io faccia botte solo con gente delle mie dimensioni Giustamente C'è un problema Il jukebox è rotto Oliver Il jukebox è rotto Perché lo dici? Gira sempre la stessa canzone Sei sordo amico Ogni canzone è diversa dall'altra La mia preferita è la ballata del granchio Ma solo quando la porta è chiusa ovvio Ho già abbastanza lamentele per pizzicate di granchio Abbiamo una via da percorrere Allora la ballata del granchio la mette solo quando la porta della locanda è chiusa Siano ovviamente i granchi arrivano e ammazzano tutti Perché sono degli esseri cattivissimi Perché i granchi sono delle persone orribili Come i cavalli Dobbiamo in qualche modo riuscire a tenere aperta questa porta Che è chiusa E' una di quelle che si apre a scorrimento secondo me non a mano Quindi quando ci passi davanti si apre e poi si chiude subito Dici? Se no la gente la lascia l'abbia aperta E non mi pare Però si chiude da sola Boh comunque sono dell'idea che centri in qualche maniera il generatore Cioè ragazzi è solamente questo Non vedo l'interruttore Beh non è un problema con il mio dominio della tecnologia Spenditi Certo Non funziona così Rufus Hai provato col cacciavite scemo Non funziona con combustibile biodegradabile E quindi? Quindi se mettiamo dentro combustibile biodegradabile si rompe Mettici le noccioline Non funziona con combustibile biodegradabile Mettici Zucchero Zucchero faceva male o bene al motore? C'è un solo modo per scoprirlo What the fuck? Ehm Completamente a caso Eccola mia risposta No non va neanche più in segna che lampeggiata della locanda Abbiamo staccato la spina alla locanda Ottimo Capito Cosa? Lui ha degli spartiti E anche quello che suona la barata del grancho è gli spartiti Non deve suonare a lui la barata del grancho Deveva inculargli lo spartito È proprio un antro Non si vede un tubo Meno male che brillo della mia stessa luce A qualcosa doveva servire tutto quel mercurio che ho inalato da piccolo Dai spero che si faccia male sulle scale Sì Era prevedibile Non è successo niente Ok Ballata del granchio? Sì Perché il nano è svenuto? Ma va a corrente quel nano Lo sanno tutti i campi Perché i nani funzionano a corrente 118 Qualcuno chiavi un po' il 118 La ballata del granchio Prendiamolo spartito Delicatamente Presa Yes Yeah baby Si ma era difficilissima sta cosa Un botto E un'ora e trenta minuti di registrazione raga E mo riprende il generatore da solo Vabbè Ce l'abbiamo ancora nella giocheriera? Sì Quindi possiamo romperlo tutte le volte che vogliamo Quindi Per l'ennesima volta Ancora Cretino A questo punto Scambiamo gli spartiti La ballata del granchio Ok Torniamo all'armeria Ora Riflettiamo un attimo Il canto attira i granchi Ma qui non ci sono granchi Però c'è il tubo rosso Che ha nel cato L'abbiamo collegato col tubo giallo Che se non erro Dove arriva? Arriva nella caverna Dove ci sono Tutti quei mostriciattoli Che presumo a questo punto Siano granchi Sì Dovrebbe essere corretto quindi Dai provaci Dai ragazzi Non funziona adesso Avete capito Che stiamo facendo? No perché noi ci stiamo ragionando Peggio del detective Conan Dai 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 Voglio vedere Ormai sono fomentato Rufus Credi davvero Che sia una buona idea? Obviously Andiamo Eccolo Bambola Non possiamo saltare questo passaggio Devo solo dire le paroline magiche Che senti? Ascolta quei granchi Arrivano in tanti E sono fastidiosi E molto noiosi Il suono Che fanno Mi fa uscir di senno Nell'orologio ballano E ridono di me Cliccate 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 Madonna Ma entra proprio nel tubo Ma questi granchi Sono geneticamente modificati Di nuovo No In questo modo è impossibile concentrarsi Ma io Io lo trovo romantico Fuori No No ce l'avevo quasi fatta Porca miseria Regà ma Svita Apriamo la valvola Vi ho beccati Vi piace la vostra nuova casa? Aia Fermi Sembra che gli piacciono gli ululati Si vede che gli mancano le orecchie Ok i granchi quindi sono incastrati qui adesso E se scaviamo i tubi Magari possiamo farli finire in luoghi diversi E magari ci svoltano un po' la trama Tipo farli finire sul verde Quindi tu vuoi collegare il tubo rosso col tubo verde? Esatto Che è l'unica che ci avanza Perché i granchi sono nel rosso E li facciamo cadere anziché nel giallo di nuovo Che è la loro caverna Nel verde Dove sono gli airbag di Doc E magari tipo fanno un po' di vandalismo Spaccano l'airbag Non ha più airbag il gondoliere E quindi non si può più muovere Ma il tubo rosso e il tubo verde sono collegati Il tubo rosso sbocca nella piccola Venezia Quello verde nella zona industriale E quello giallo nel vicolo buio A proposito Ci siamo mai stati nel vicolo buio? E' quello dei granchi giusto? E' il giallo Si No? Perché abbiamo sempre scelto alto o basso Non c'entro Ragazzi Time out Voglio andare nel vicolo buio Siamo curiosi Tu tu ta Tu 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 da Ru rufus Ru rufus Ru rufus Ru rufus Fico forte questo ru rufus Che sballo questo ritmo Cosa sta dicendo? C'è una cassa Vuoto Eccetto tutte quelle bestie Ma cosa sta facendo? Ma si droga? Non sto capendo E quella porta? Un bel posto per una porta Cosa ci sarà dietro? Probabilmente un film horror Non aprite quella porta E infatti lo faremo più avanti Ergo torniamo al nostro piano Si Non dobbiamo troppo sviare dalla trama principale Se no ci perdiamo tutti Ecco qua E' tempo di isprire questa valvola Correte siete liberi Ah Bene Oh si Torniamo dal gondoliere Si si Canta 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 finché puoi Ma ci divertiamo Ancora Cretino Spronzo A questo punto Dovrà cambiare l'airbag Prenderà la cassa con i granchi E morirà In maniera atroce Chissà che ci canterà gli intervalli Tra i vari capitoli adesso Dai Bozzo Gambe in spalla Credi davvero Che sia una buona idea Questa fila di Bozzo Sarà la volta buona Andiamo Non essere smidollato Quante volte devo ripeterlo Non voglio cambiare Fornitore di gas Appena trovo la mia pistola Ti Ancora tu Entra Entra E diciamo che non lo cazzo di casa Nonostante le 36 volte In cui Mi ha bussato Hai una bella faccia tosta Bambola Ascoltami Voglio solo Parlare con te Andiamo Bambola Non possiamo saltare questo massaggio Devo solo dire le paroline magiche Li senti? Che senti? Ascolta quei granchi Arrivano intanti E sono fastidiosi E molto noiosi Il suono Che fanno Mi fa uscir di senno Nell'orologio ballano E ridono di me Clicchete 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 Cracca Bumpa Ratatatazoom Btang Ratatatazoom È un po' più lunga del solito E in fretta Più lenti Non mi danno pace Si agitan su e giù Nel nostro orologio e non smettono più Aspetta Ci sono Comincio a capire Non sono qui per me Ma per trovarsi tra di loro Granchiette Si stringono le chele Nuotan già nel miele La stagione dell'amor Dolcezze Abbracci e un gran batticuor Guarda come si strusciano Fan rima con l'amor Di nuovo? No! Ah, eccoli! Oh, cazzo! Forza! Dillo, stupido! La cosa si fa interessante Tu, io Manette Panna montata Domande Oh, bozo! Il Sadomaso è la soluzione Per tutta la sporcizia Che gran frase E l'ha tenuta per sé Tutto questo tempo No, raga È successo Di tutto Di tutto Abbiamo ucciso il gondoliere Tanto per cominciare È veramente ucciso? Eh, ma vabbè Di sicuro non si rianima E la frase magica È una frase È una frase del Sadomaso Io non so Andiamo a dire una frase del Sadomaso Alla gal sbagliata E prende la doppietta E ci fa saltare la testa Ok Prova a bussare alla porta Non voglio disturbare Cosa sto dicendo? Uffa, non mi sentono Sono occupati Ci danno dentro troppo forte C'è modo di prendere un osso Un cappello Qualcosa No? I granchi Il loro dovere l'hanno fatto Ma quello spartito posso prendere? No, nemmeno lo spartito Ora possiamo andare a conquistare Gal C'è idea di non perdere altro tempo? Finally Gal Apre le tue gambe Cosa? Bisogna attivare la gal spavalda Sì, sì, sì Posso che ho proprio paura Di dire questa frase a gal spavalda Come? Tutto bene? Fantastico Un altro Io, te, letto Manette, panna montata La cosa può finire male in due modi O ci prende a cazzotti e moriamo O il gioco diventa improvvisamente Peghi 18 E addio monetizzazione Tu, io, manette, panna montata Domande Cosa hai detto? Tu, io, manette, panna montata Domande Dovrei ridere? Mi trascini fin qui E ora cerchi di fare il simpatico? Non ti ha passato per la testa Che magari sono arrabbiata? Tu, io, manette, panna montata Domande? Aia Ehi Niente risse nel mio bar Questo è un altro pacifico È stato lui a cominciare Io non ho fatto niente Ha ragione Girare come un imbecille non è reato Ehi Ed essere un imbecille non lo è Ehi Sei fortunata ad essere una donna Come dici? Se fossi un uomo ti avrei già dato una bella sculacciata Cosa aspetti, gallinella? Oh, eh Oddio Le controversie si risolvono in modo civile E sarebbe pure ora che vi affrontiate in un combattimento di ornitorinchi Bellissimo Cosa? Non ci credo Ma come cazzo L'arconciata? Oh mio Dio Ma io volevo gli ornitorinchi veri Non vestirci Da ornitorinchi Direi che coglione è lufus Non ci credo Dio a campi bisogna combattere Che bisogna fare? Oh regà Tekken 7 è diventato il gioco Oh 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 Clicca su di lei Lo devo fare? Eh, devi decidere dove colpire È un colpo per uno E tu puoi difenderti Devi decidere dove difenderti camper Siamo morti Adesso ti spiego come si combatte Scusami Mi sto godendo il momento Ah, tu volevi farlo morire Che sia chiaro L'ho lasciata vincere È anche vero che Un po' di allenamento Non mi farebbe male Scusa Una volta che piccano un ufus Devo anche farlo vincere magari Facciamo allenamento Un fantoccio più brutto no Poco male Lo farò a pezzi con più voglia Facilissimo Ma è meglio che per i bambini di tre anni Così impari I miei riflessi sono quasi all'altezza del mio intelletto Dovremmo chiedere la rivincita a Gal Ho capito come si combatte Vedi qui le istruzioni Quando lei attacca guarda in una direzione E tu devi parare basso, medio, alto Quando tu attacchi devi decidere se attaccare basso, medio, alto Comunque gli ha fatto bene prendersi una lezione a Rufus Ci sta Mo' dobbiamo ricombatte Hai capito come si fa? Sì sì Fidati di me Confido Non puoi farlo rimorire perché le ha prese abbastanza Non possiamo Bastardo Dove farlo morire ancora Vai vai Dai non c'è man paura Attacca Attacca No devo parare le gambe E mo' la testa Ma mia sono un fenomeno Facilissimo Ah me l'ha parato No Mi l'ho parato sì all'ultimo No hai perso metà vita No la gamba Hai uno di vita camper Ok Attaccare la ficca Il busto il busto La ficca la ficca Lei fa più danno Sei attento Clicca a caso Veloce BAM Rocket block Headshot bitch Buono camper mi piaci Vai sulle gambe Correttissimo Ha uno di vita gal Ma ti fa la mostra finale No la Rai Jordi Tekken questa Porca troia basso No ancora lei attacca Alto Quante volte attacca Alto Oh ma basta Alto E ci sembra meno tempo per quello Medio Ma tocca a noi Attenzione Mossa finale Super Saiyan ragazzi La scimmia di Goku Eh Cosa ha fatto Sei innamorata Cosa Che scarica di adrenalina Forse non sei proprio così idiota come sembri La gente non nota mai la mia vera grandezza Ora devo solo convincere le tue due sorelle So che ce la farai Più che altro perché parliamo di parti di me stessa In realtà mi sei piaciuto fin dal primo momento Assomiglio molto a Kletus Ma senza la sua insopportabile altezzosità Ci puoi scommettere dolcezza E poi emani un'aura di abbandono Che risulta estremamente attraente Un po' come i cani Grazie Ti aspetto qui mentre convinci le altre due Devo ammettere che sono un po' gelosa È una vera follia vero? Passiamo a quella raffinata Raffinata Ovvero quella perennemente con le sue cose Che è successo? Avrò perso i sensi E a giudicare dal pozzo di questo posto Non mi stupisce affatto Tranquilla Quando i polmoni cominceranno ad abituarsi ai funghi Tornerai a respirare normalmente E se ti invitassi a cena? Dici sul serio? Non mi dire che c'è un pizzico di nubiltà d'animo Sotto quegli stracci È un sì? Hai già scelto il ristorante? In realtà stavo pensando di offrirti Una razione extra di noccioline Sono gratis no? Sì Se non contiamo la visita medica Perfetto Era troppo bello per essere vero Lascia stare Ok quindi abbiamo una vaga idea Di quello che sarebbe per convincere Gal raffinata No trovare un buon ristorante Perché le noccioline che abbiamo in tasca Proprio non le vuole Niente a che vedere con i frutti secchi di Lonzo Ed io che pensavo di aver visto tutti i batteri di Deponia Allora dove stanno i ristoranti in tutto questo? In farmacia no Nel vicolo buio no Bellevue Beh il nome francese Romantico Non siamo mai stati Dai Ah qui era bloccata la porta Questa zona era bloccata Comunque Ma sì la senti la musica francese proprio Una bella cenetta lì a lume di candela col tramonto Mi sa Come si fa ad aprire questa porta? Controllo olfattivo d'accesso Un sensore olfattivo brutto come la fame Next level Ha annusato l'ufus e non lo fa passare Ha fatto un ding che sembrava corretto Poi la luce era rossa Potremmo fargli annusare la sardina No Prendi i farmaci li apri Fai la polverina Fai una riga E la fai sniffare al naso Vai ci sta No ma come? Che altro abbiamo? Eh noccioline Eh sono salate Yes Ah l'abbiamo ammalato Ah i batteri è vero Ah ha respirato tutti gli acari e i batteri E adesso ok Comunque guarda c'è un uovo in ogni zona E in tutto questo dove sta il nido? Boh Prima o poi sicuro ci toccherà raccogliere tutte le uova e fare una frittata Magari per cena Eh ecco cosa gli prepariamo La frittatina Comunque ti prego cammina sul corrastrello Ti prego fallo L'ha fatto Il ritardo Dannata trappola mortale Eh prendiamolo Ma allora è stupido Beh comunque è divertente io continuerei Ragazzi potrei stare qui tutto il giorno ve lo dico Ah è qui Il nido Casetta per uccelli Ah Vuota A parte qualche cacatina Mettici la mano dentro Rufus Qui ci sono solo cacchette Mi ricorda tanto la coperta del peschereccio di Bozo Ma cosa? Ah ah no È qui il nido Che nido orribile Che schifo Non voglio neanche sapere come sarà il padrone Di qua si va al lato destro Di qui punto di domanda Andiamo verso l'ignoto Uh qui si mangia È vero c'è il ristorante qui Che culo Che top Ornitorincologo Forte il suo cappello No è orribile Ragazzi a 17.000 mi piace compriamo un cappello d'ornitorinco E camper farà il prossimo episodio con un cappello d'ornitorinco in testa Ma anche no Benvenuto al paradiso dell'ornitorinco In cosa posso esserti utile? Che razza di posto è questo? È un negozio di souvenir Abbiamo tutto quello che un turista potrebbe desiderare Cartoline con ornitorinchi Caramelle di ornitorinco Cappelli di ornitorinco Grattaschiena di ornitorinco Magliette Peluche Statuette Abbiamo persino chip musicali con suoni di ornitorinco Impressionante Comunque, ah non ho le visioni Guarda in quest'angolo La cosa? Il pennuto? Il piccione? No c'è un vittorinco che vola Ma porga di quella Ma che cazzo Perciò sei un tipo da ornitorinchi? Proprio così Sono la mia vita Se sai come trovarmi Puoi fare una fortuna Vendendo grattaschiena ai turisti? Ah? Non capisci un cavolo Sono l'unico fornitore di ornitorinco del ristorante Dirigo il club dell'ornitorinco E scrivo persino poesie a te Scrivi poesie sugli ornitorinchi Esatto Principalmente per le cartoline Hai qualcosa che non sia fatta con un ornitorinco? Beh, le statuette sono fatte di argilla Anche se sono ricoperte da una mano di cera di ornitorinco Sono un po' come gli uomini di Neandertal Non buttano via niente Con la pelle ci fanno i vestiti Con le ossa e le capanne La carne se la mangiano La proboscide Se la finita in culo Sei il rifornitore di ornitorinchi del ristorante? In persona? Non immagini le richieste che ho E se ci fosse scarsità di ornitorinchi? Sarebbe una catastrofe Il ristorante dovrebbe cambiare il menù Dal primo all'ultimo piatto Ma questo non succederà mai L'isola è piena di nidi non protetti Frittata di ornitorinco is coming! Cosa vuoi dire con nidi non protetti? In ogni generazione c'è un ornitorinco guardiano Che protegge il nido Ah, e cosa fanno? Ti mordono le dita? Sono creature malvace, credimi Potrebbero mordermi se indosso dei guanti? Sì, e se porti la conchiglia pure Uff Vedo che l'argomento ti interessa I membri del club hanno accesso all'enciclopedia dell'ornitorinco Pico No, per nulla Parlami del club dell'ornitorinco In qualità di membro Sarei puntualmente informato Sulle ultime scoperte sul nostro animale preferito Sarai il primo a conoscere i suoi riti e le sue abitudini Compreso l'appassionante mondo della riproduzione dell'ornitorinco E ti spunteranno delle piume sulle chiappe Gli ornitorinchi non hanno né piume né chiappe Se fossi membro del club lo sapresti Ognuno riceve gratuitamente un tomo dell'enciclopedia dell'ornitorinco Ho nascosto varie tessere di socio del club Nei biscotti della fortuna del ristorante Mi piace che sia la dea fortuna a scegliere i membri Il fatto che la dea fortuna si è impegnata in simili trivialità Spiega la mia infinita sfida Sono contento che l'ornitorinco sia una specie in via distinzione Te lo giuro Guarda come trinco, ornitorinco A dopo, anatra senza scopo Che rime sono Ah, è questo l'enciclopedia, vedi? Fottitela Fermoli Quel libro è per uso esclusivo dei membri del club dell'ornitorinco Ok Ci servono i biscotti della fortuna Che sono proprio quelli Sotto il bancone, vedi? Questi, sì Sì, 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 sì Proprio quelli Servono solo piatti di ornitorinco Dubito che Gala apprezzerebbe molto Ma secondo me invece Raffiniata com'è Le piacerà tantissimo Ti dici guarda Un animale rarissimo In via distinzione E l'ornitorinco Può accompagnare solo la nostra cena Sono subito da lei Minchia Ma l'ha scherzato col wireless Col bottone comunque Oh, grande onnipotente Mactulu Il suo fedele servo Sta per consegnarle un nuovo sacrificio Moginox aprixidur dubidon padrex Paradur Extra di mozzarella Sì, sì E' colpo sto Eccomi da lei In cosa posso esserle utile? Ma questo qui sacrifica Che cosa esattamente? Ornitorinchi mi auguro Non lo so Cosa si mangia qui? Il menù riguarda il ristorante Questo è lo sportello per il take away Serviamo hamburger di ornitorinco Spero non siano troppo grassi Questo corpo statuario ha bisogno di una certa cura Aspetti un momento Cosa fa? Che bello che sono solo gli occhietti che si muovono Oh, saggio Mactulu Il sacrificio vuole sapere se i nostri hamburger lo faranno ingrassare Il sacrificio? Bene Tutto questo è molto ambiguo Posso assicurarle che usiamo ingredienti di primissima qualità Come può vedere abbiamo tre menù Scelga quello che più le piace E se lo desidera può personalizzarli Come indica il cartello? Che posto romantico Dice? La prezza e il panorama Mancano solo dei bambini che giocano Un momento signore Credo sospetti qualcosa A seconda dei bambini scomparsi Borondeos satinam Blablacadabra Estranguladopulos Oh signore dell'oscurità A volte mi fa venire i brividi Eccomi Posso fare qualcos'altro per lei? Quanto costano i biscotti della fortuna? Un momento Vado a controllare D'accordo Che palle Il sacrificio chiede dei biscotti mio signore Medior panzux ex Padinumurror bidaduna La paridox dumentur Proprio quello che ho pensato io Eccomi di nuovo I biscotti sono gratuiti Se ordina qualcos'altro Sono offerti dalla casa Con qualsiasi menù Fico Vorrei ordinare Prego Come può vedere Abbiamo tre menù Ma noi abbiamo soldi? No Fai il menù 3 Che c'ha due biscotti della fortuna Dove è il tasto paga? E' questo il suo ordine? Sì perché? Se lo può permettere Senza offesa No Mi spiace Colpa mia Stavamo ordinando senza soldi Perfetto In cosa posso esserle utile? Beh Prenotiamo Così paga Gal dopo Volevo prenotare un tavolo per due Per due? Un momento Credo che potrebbe esserci un secondo sacrificio Come devo procedere? Porto nomine nasur Modena Confucius Limon fadamon giusto antes D'accordo Riferirò Qui si che sanno come trattare i clienti Temo che per oggi siamo al completo L'unico tavolo libero è stato prenotato dal governatore Ma porca di quella miseria Quale governatore? Dovevo andare a cercare il governatore che non abbiamo mai incontrato in tutta la nostra vita? Servite qualcosa che non sia ornitorinco? Vado a controllare Un momento Mi chiede il menù Che gli dico? Molesto Nimen Polidur Pollux verito Aha No signore Finché il nostro fornitore sarà disponibile L'ornitorinco sarà la base di tutti i nostri piatti Credo di non avere fame Come preferisce E Ci ho provato mio signore Non c'è stato verso di fargli calpestare la trappola Noctus Boren Pastifidur Sì Anch'io penso che tornerà Un servizio eccellente Quindi ho idea Che dovremmo fare questo percorso In qualche maniera Comprare il menù con i biscotti Ottenere la tessera per il club dell'ornitorinco Ergo Ottenere l'enciclopedia A quel punto Andare a caccia di uova Raccogliere tutte In modo tale che il nostro amico E non possa più fornire di carne o di dorinco O ristorante A quel punto potremmo cambiare il menù Ah O salvare il mondo In qualche maniera Secondo problema Il tavolo è occupato dal governatore Che secondo me abita Di là sulla destra Perché c'è il giardiniere E solo un governatore può avere un giardiniere Effettivamente Andiamo almeno a socializzarci col governatore Ah dici quindi che questa è la casa del governatore Beh Può essere Può essere Fagli calpestare la rastralla un'altra volta per sport Ah Ah hai già scherciato Sì Dai Rufus Che lontano E parliamo col giardiniere prima Lasciami in pace Ok Chi usa una palla per ammucchiare le foglie? Guardate bambini Tarantino L'ognomo da giardino Tarantino 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 Un cretino sei Da quando abbiamo il coro? Lo so E qui abbiamo un albero Le mie nozioni di botanica Mi dicono che questa è Una pianta Acuta osservazione Il nuovo Sherlock Holmes Ehi Non ti azzardare a toccarlo Io? Non ho stoccato niente Semmai ho calciato Vedi? Ci ammazza Io spero usi la palla Oddio Oddio Sì Guarda sotto la palla Che è successo? Perché ho come la sensazione Che qualcuno mi abbia tatuato Sulla schiena Con un rastrello La parola vendetta Sarà lo stress Ma noi siamo caduti Da lassù Camper Lo so Porca miseria Che volo Frenzonati Dal giardiniere Ah guarda Non c'è più il rastrello Se l'hai preso il giardiniere Perché effettivamente Ci ha da lavorare E ha messo qui la palla Credo Questa palla sì Che sa come comportarsi Non come altri utensili Che conosco Ne prendiamola no? Ora prima E' entrare in casa Del governatore Posto che sia La casa del governatore Quella Ti può buccare Qui dentro Ah proprio così Senza Bussare Wow che casa Ciao Che ci fai tu qui? E fammi il favore Di pulirti gli stivali Sul tappetino Beh stavo facendo Due passi E un momento Papà Cosa? Papà Sei il governatore Rufus Gli stivali Ah scusa Non ci sto credendo Che figata la tua villa E poi è troppo forte Il tappetino in vero tasso Non è un tappetino Rufus È il mio cappotto Ah Avanti Dimmi cosa vuoi E torna dai tuoi amichetti Ho molte questioni Di cui occuparmi Ma 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 lui non era finito Su Elysium Su Elysium Come ci è arrivato Al mercato nero galleggiante? Non sei contento Di vedermi? Certamente Ma sono molto occupato In questo momento Se fai il bravo E mi fai lavorare Forse più tardi Ti porto a mangiare Un hamburger No grazie Ho di meglio da fare Allora se non ti dispiace Rimandiamo questa conversazione A più tardi Perché ho come la sensazione Di essere tornato A quando avevo otto anni Beh L'età cerebrale È sempre quella Più o meno Tu non eri andato A Elysium? A Elysium? Così mi avevi detto È per quello Che mi abbandonasti Non dirmi Che non te ne ricordi Ah Sì Certo Ora ricordo Ma lo sanno tutti Che è impossibile Fuggire da Deponia Ad ogni modo Io ero un sognatore Ma ora so Che non vale la pena Per seguire l'impossibile Quando avrai la mia età Mi capirai Non se ne parla Io non sarò mai così vecchio Muore prima Lifehast Dai young Insomma Io l'ho un Non lo sa nessuno Che hai un figlio? Non è mai venuto fuori L'argomento Cose di politica Ma non andare in giro A dire che sono tuo padre Intesi? Ah Avemmo un'ottima arma di ricatto Quindi Papà Perché mi parli in questo modo? Non sono più un bambino Dunque ora fai l'uomo maturo Eh? Sì Na 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 Allora immagino che avrai una casa tua E un lavoro decente Beh ecco Sono un tuttofare Avevo un'officina a Kuva Non ti riferirai all'officina giocattolo Che ti ho regalato Per il tuo sesto compleanno Sono comunque più maturo di te E beccati questa Non ti interessa neppure sapere Cosa ne è stato di me In tutti questi anni? Non c'è bisogno di chiederlo Quale disastro hai combinato stavolta? Hai dato fuoco a qualcosa? Hai distrutto la casa di qualcuno? Sì sì Vedo che le notizie Se Rufus è così Comunque è colpa del padre L'ha cresciuto storto Devo impedire che l'organon Faccia saltare Deponia Non essere ridicolo L'unico in grado di far saltare qualcosa qui Sei tu Ah non capisci niente Dimmi Rufus Qual è stata l'ultima volta Che l'organon ha fatto saltare qualcosa? E quante esplosioni hai causato tu Nell'ultimo mese? Ecco io Che c'è? Hai perso la lingua? No stavo ancora contando Ci avrei scommesso Devo andare dalla mia fidanzata Sì come no Come si chiamava? Jenny? Si chiama Gal Ed è una vera Elisea Davvero? Non te l'aspettavi eh? E tu porti un'Elisea in questa squallida isola? Non ti ho proprio insegnato nulla No Sei stato un padre eccezionale Dimmi che non l'hai lasciata sola Tranquillo È nella taverna di Gulliver Santa Ferraglia Devi essere adottato È evidente che non sai come trattare una donna Spero che almeno tu l'abbia invitata a cena Una scodella di noccioline conta? Sto parlando di un appuntamento Rufus L'unico posto adatto sarebbe il ristorante del Belvedere Ha un panorama mozzafiato Ma temo che servano solo ornitorinco E qual è il problema? È un animale infimo Rufus Vive circondato di immondizia e si nutre di immondizia Devi fare in modo che questo sudicio animale sparisca dal menù del ristorante Credi di poterlo fare? Sarà un gioco da ragazzi Quando ci sarai riuscito ti permetterò di prenotare un tavolo a nome mio Ok Oh buona Ora abbiamo una strada da seguire Ma per estinguere gli ornitorinchi sa che ci serve l'enciclopedia E per ottenere l'enciclopedia che ci serve? Dobbiamo trovare nel biscotto della fortuna la tessera per entrare nel club Esatto Proviamo a ordinare Vorrei ordinare Prego Come può vedere abbiamo tre menù Sì ma noi interessano solo i biscotti Che sono dati in omaggio con i panini Quindi ci tocca prendere tutto un menù completo? Esatto Però non abbiamo un euro noi Da quello che ho visto nell'ultimo episodio possiamo scambiare le pietanze Vedi? E magari Dobbiamo per esempio scambiare il succo di ornitorinco con un panino E possiamo scambiare il panino con due panini più piccoli E i panini più piccoli con cosa? Ah tu vorresti fottere il sistema E beh ovvio Ok scambia anche quello con due panini E? E poi ora Con uno lo fai diventare un cheeseburger Eh diventa come prima Ok fai la riga sopra Che è successo? Ci abbiamo perso un panino Sì What the fuck Adesso ho due panini e due bibite Come stiamo arrivati a questo? Noi con otto euro abbiamo Ah abbiamo due volte il menù tre Con due biscotti della fortuna in meno Camper non mi hai convinto 20 minutes later I due panini cosa possono diventare? Farlo diventare un ciccione E il ciccione una bibita Fermo siamo riusciti ad avere a 3 euro il menù 2 Però con la bibita maxi E un biscotto della fortuna in più E un panino in meno Ah So much later that the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new one No Dai Prima eravamo in una bella situazione Più bella di così? Un euro Una bibita di biscotti Non possiamo Non ce l'abbiamo un euro cazzo Non ci credo Ma come faccio io? Le bibite sono anche quelle di tre dimensioni Le bibite vedi? E la puoi downgradare Fino al nulla Ricominciamo col menu 2 Allora I panini piccoli nel ciccione Il ciccione E la bibita Ok abbiamo due bibite Portiamo le due bibite a quello piccolo Poi possono diventare due panini Oh 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 Ok Possiamo selezionarle entrambe E farle diventare due panini piccoli E i panini piccoli possono dare un panino Il panino può diventare? Una bibita grande Sì 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 E la bibita grande costa un euro e cinquanta E la puoi vendere tutta sul niente E questo è il suo ordine? Sì perché? D'accordo Sono zero slot Sei meritato una bella mancia Diciamo del 30% Che te ne pare? Molto generoso Tenga il resto Mi hanno perso mezz'ora Con sto indovinello qui Beh ti dai qualche di soddisfazione comunque Sei un botto Allora abbiamo qui il nostro biscotto della fortuna Ora se questo fattuto biscotto non contiene il biglietto Quello facciamo all'infinito Spaccalo Vediamo cosa mi riserva la dea fortuna La felicità si nasconde sul sorriso degli altri Bella cazzata No No Da capo? Siamo seri? Pendine un altro No ragazzi non voglio rifarlo di nuovo In cosa posso esserle utile? Voglio ordinare La stessa cosa di prima Che c... Vorrei ordinare la stessa cosa di prima Arriva Ok Riprova Non c'è miglioresca che la pazienza Bella cazzata In cosa posso esserle utile? Ridarci il biscotto Questo è il terzo Deve essere una volta buona dai Amici gratis Salute dipende Per tutto il resto c'è... Ornicard Bella cazzata Secondo me in uno di questi c'è un fogliettino con un indizio decente Che non sia la felicità sul sorriso degli altri o l'ornicard In cosa posso esserle utile? Vorrei ordinare la stessa cosa di prima Arriva La fortuna tende nella tasca di un pescatore Bella cazzata La fortuna tende nella tasca di un pescatore? Eh E la fortuna è quella che ci serve E noi conosciamo un pescatore? E c'è il pescatore che non ci vuole parlare e ci odia Però magari c'entra qualcosa lui? Prendiamo un ennesimo biscotto Andora, dov'è il porto? Per di qua Eccoci qua al molo Un tipo noioso con un hobby noioso Teoricamente il fortunato è lui Ehi ehi Sparisci Spaventi i pesci Prometto di non fare rumore È irrilevante Per caso hai visto qualche pesce con le orecchie? Ciò che conta quando si pesca è la fortuna Eh ma largo Ah ah vedi E lui Lui è sculato come Come quelle cose cringissime di Bonolis Che la gente gli vuole toccare il culo Per quando deve aprire i pacchi e deve chiamarli E lui è lo sculato di Deponia Tieni allora E vedi di portarci fortuna E quello cos'è? Un biscotto della fortuna Vediamo se questa fortuna di cui tanto ti vanti esiste davvero Ah dai qui avanti Ecco Ho vinto Davvero? Ora sono un membro del club degli avanti dell'ornitorinco Che emozione Dammi quel bigliettino il biscotto è mio Eccoti il tuo dannato bigliettino Sfigato E per tutte le discariche lasciami in pace Bene Ok Ok Ora possiamo avere finalmente la nostra minca di enciclopedia Per sterminare gli ornitorinchi Tessera identificativa E pensare che la giornata era cominciata così bene E tutto a un tratto mi ritrovo membro del club dell'ornitorinco Quella volta in cui Entrai a far parte del club dell'ornitorinco A me quell'animale faceva pure schifo Torniamo alla belle view Ehi amico Vieni Sono un membro del club Congratulazioni Ora dovrò raparmi i capelli e portare la tunica No Ma ricevi questa enciclopedia in regalo Non posso rifiutarla vero? No Un giorno potrebbe salvarti la vita A posto Voglio leggerla Voglio attingere la fonte del sapere Enciclopedia dell'ornitorinco Vediamo Interessante Pare che in ogni generazione ci sia un ornitorinco guardiano che protegge il nido Le uova dei guardiani vengono nascoste dalle loro madri Ci sono quattro tipi di ornitorinco Perciò ci saranno in tutto quattro guardiani Ma certo Devo solo trovare le uova E aprirle con la delicatezza che mi contraddistingue Addio piatti a base di ornitorinco Benvenuta a cena con Gal Eh sì ma in che lingua è scritto? Non importa Tanto dobbiamo semplicemente rompere delle uova Dai allora lì ce n'è una già Dove? Ah qui Prendila Ah ma un minigame bellissimo E acchiappa la talpa Cosa? Clicca Fermati Non credo di poterlo fare senza strumenti E se usassi queste pietre e il ceppo? Ok Quali pietre? Quali ceppo? Queste per terra Ah uno Due Ok Quelle pietre devi tappare i buchi Secondo me tipo certi Dobbiamo un po' imparare però la sua routine Il suo giro Ok Fa la mossa del cavallo di scacchi Dici Boh Sprova Ok Ok da qui a lì non penso sia Quello mi sembrava un alfiere Riprova adesso Ok lì Quindi se mettiamo un sasso qui E una trappolina qui Ti ho beccato Easissimo Ma che facile ragazzi Abbiamo recuperato l'uovo di ornitorinco di terra La mia collezione sta crescendo E qui che gli ornitorinchi di terra covano le proprie uova Un esperto come me sa riconoscere le differenze E quindi? Ah perché la letta sull'angicobedia faceva un po' il fenomeno Ma non ha capito un cazzo Dunque primo uovo recuperato Ne mancano altri tre Io due so dove sono Anch'io Dal tizio con la gondola e davanti a casa di Doc No Il più vicino sai dov'è? Al bel vedere Guarda qui Ah ok Questo presumo sia l'uovo di ornitorinco da aria Vedi che vola col colbione Pirla vola Come l'occhiappiamo? Da qui si vede appena Fortuna che ho una vista da falco È il falco cieco che ha rubato i miei occhiali per vendicarsi Eh? Se le fa e se le dice Possiamo salire per di qua Tiriamo lo stenditoio E ce lo grabbiamo Fessura con manovella Oh ragazzi Ma dove l'aventano da quella manovella? Al bar? Casissimo Una manovella Rufus sei un vero genio Dai Un fenomeno Minigame qua dove sta? Nessun minigame Uffa mi stavo divertendo Sembra un uovo di ornitorinco volante Un altro ancora per la mia collezione Esatto E siamo a due Il terzo se non sbaglio stava al porto Vicino al gondoliere Let's go Sì è lì sotto Questo è easy da prendere dai Opla Un ornitorinco d'acqua Tre su quattro Bene ma non ancora benissimo Anche l'ultimo Ok è tempo di tornare da dock Sì Ci divertiamo È lì nel comignolo E mi sa che tutti quei tubi lì Saranno il nostro minigame Cioè lo spero Perché invece penso Che la soluzione sia la caldaia? È tutto collegato Dobbiamo dar fuoco a qualcosa? Dobbiamo mettere qualcosa nella caldaia Scaldare e far salire tutto? Beh facci parlare con quell'uovo Le uova non parlano fino a prova contraria Saliamo dai Dai Rufus Potresti prenderlo e basta no? Oh cacchio Di qualcosa di utile Oh cacchio cosa? Non ci arriva mortacci sua Dobbiamo mettere qualcosa nella caldaia Hai ragione Beh abbiamo una pala La Bibbia mettiamo nella caldaia E enciclopedia Mi basta pensare al fuoco E già sento il solletico Ci serve del combustibile Che non abbiamo al momento? Credo che dovrei covare l'idea un po' più a lungo Già qui lì è carbone esaurito ormai Quindi non funziona più Più che altro è carbone da nido Non è carbone da caldaia Un po' più sfilettato Magari Doc sa qualcosa Anche perché presumo che la caldaia sia sua Doc Sganciaci e il carbone Ehi ehi Rufus Ci sono progressi? Sì figa un botto Niente di utile Ci vediamo Rufus Altre idee? Beh c'è una zona ancora inesplorata della mappa Ma abbiamo bisogno di più caldo di un consiglio Secondo me Il Papi ne aveva uno per ogni occasione Ma sì Torniamo dal Papi Ciao papà Cosa vuoi stavolta? Non vedi che tuo padre è impegnato? A fare cosa devo ancora capirlo In quanto all'appuntamento Vai al sodo Rufus E stai dritto con la schiena Che devo fare per convincerti a farmi prenotare un tavolo? Eliminare i piatti di ornitorinco dal menù del ristorante Appunto Affare fatto Ma promettimi che non farai del male a nessuno durante il processo È un po' tardi per questo Lol Aspetta Cosa? Ma c'era proprio del carabone o roba che bruci e basta? Roba che brucia presumo Tutti quei libri Bruciamo quelli Ci serve un accendino poi e basta Guarda Sì che puoi Possiamo interagire? Librerie con porte segrete volume primo Librerie con porte segrete volume secondo Che spreco di spazio Un vero gentiluomo apprezza una buona lettura Qualsiasi cosa tu dica questo scaffale è orrendo E con questo buio non si legge un tubo Ah vero Un giorno di questi dovrò comprare una lampada Ma fino ad allora mi arrangerò con delle candele Comprare Candele Prendi Rufus Lascialo nella cassetta della posta della servitù quando esci Ma chi si crede di essere? Tuo padre? Ok è mio padre ma non sono mica il suo lacche Mi risponde ormai Promemoria candela Comprare candele Ho capito Questo qui lo metti nella cassetta della posta Così gli portano le candele Così abbiamo le cose per poter accendere il nostro carbone barra cosa che troviamo da bruciare Ti gusta? È un piano un po' complesso Non che gli altri piani Sì Siano meno eh Tornando ai libri Vediamo Librerie con porte segrete per imbranati Estrarre il libro Tirare per aprire la porta segreta Forte Adesso si gira come a Frankenstein Eccolo Che straminchia è Un aspirapolvere Piglialo quello Se serve per pulire Non mi interessa È vero però che ho sempre avuto un debole per gli apparecchi rumorosi Ecco appunto prendi Buono E qui Botola Filtro Filtro Sembra un filtro Ah ok E che ci faccio? Per ora nulla Prova a salire per curiosità che ormai voglio dire Le abbiamo viste tutte Abbiamo fatto 30 facciamo 31 C'è una scala che fai non ci sali Eh voglio dire Film horror c'è un bivio che fai non ti dividi con il tuo unico compagno Ha messo apposto il bivio C'è una calza maglia che fa da segnavento e ti fa capire dove tira il vento Manica a vento Il punto più alto dell'isola e lo adornano con quegli orribili pantaloni Prendili Dovrei arrivarci ma preferisco restare a metà strada Aspirali con l'aspiravolvere Ok è una stronzata però fallo Dovrei arrivarci ma preferisco restare a metà strada Mi piaceva l'idea che li facesse così e si attaccassero all'aspiravolvere Benvenuto al pantastendardo Per calare a mezz'asta inserisca ceneri umane Che sballo Ah ok possiamo mettere la bandiera a mezz'asta inserendo ceneri umane O di ornitorinco Che magari bruceremo Non si può dire So che comunque l'avete pensata E poi ci freghiamo i pantaloni Che dobbiamo ancora capire cosa servono Vabbè sai che facciamo? Ce lo appuntiamo e ce lo teniamo per la volta che ti servirà Aspetta che lo scrivo nelle migliaia di cose di cui non me ne frega un cazzo Torniamo nella villa Che c'è altro che ci siamo persi? Tipo tutto vedo Le piante Ah guarda quell'acquario che figo Che villa del cavolo Ha persino dei parassiti Quello è il mio acquario Colleziono pesci esotici E minuscoli Cosa che mi ricorda che devo dargli da mangiare Comprare pane Ah ma qui c'è un bigliettino per ogni cosa? Perché ho l'impressione che dovremmo collezionare Una mirile di bigliettini Per poi dargli fuoco nella caldaia Mi ricorda l'inizio di Fuga da Deponia Con i bigliettini di Tony Esatto sì che continuiamo a prenderli Rufus non è cambiato quindi presumo che il modo sia lo stesso no? E queste erbacce? Sono fiori Rufus Questi cespugli sono fiori? Spero che li stiano innaffiando come si Sì sì Bigliettino Dane acqua Acqua Si è inceppato Ha scritto acqua un po' troppo lungo secondo me Altro? Sì La finestra Che è chiaramente sporca Comprare vetril Lì manca un pezzo di parete È una finestra panoramica Rufus Una rietta niente male Ora che lo dici credo che i riscaldamenti siano spenti Comprare carbone Questo ci serve Ma tu da solo non sai fare niente? È per questo che ho la servitù E ti puliscono pure il sedere? Ora che lo dici? Comprare Con tutta la spolcizia Tu ma che non ti assomiglio per niente Puoi dirlo forte Basta guardare gli stracci che hai addosso Ah questo mi ricorda Comprare Comprare filo Che top Andiamo a cercare la cassetta delle lettere adesso e le ficchiamo dentro tutti Il punto è Dove minghia sta la cassetta della posta? Allora e non so tu dove la tenga ma sicuramente non è in casa Perché se no il postino ti finisce in casa Io ce la servi tu Sarà all'uscio Direi che abbiamo fatto tutto quindi usciamo Faccio vedere io dove è la cassetta delle lettere Questa cos'è? Casetta per uccelli Bene ma non benissimo Aspetta fanno se al vecchio Beh lui il servo Sì alla servitù dove andare mica al postino ora che ci penso Ehi vecchio dacci il carbone Ha un rastrello ha delle foglie Dovrebbe essere felice No Non ci sta ad avere un calcio Ce l'ha dato Santa Ferraglia sono svenuto di nuovo Ma questa? Punto di domanda Uh non l'abbiamo vista Quella sarà la Dependance forse Ma scusami Ma veramente non l'abbiamo mai vista? Ma secondo me è apparsa adesso che abbiamo sbloccato i foglietti Prima non potevamo andarci Perché cioè siamo proprio scemi se non l'abbiamo vista Vediamo che ce sta Che è sto albino? Parliamoci Toc toc Tu chi sei? Mi chiamo Rufus Io sono Crane Ma tutti mi chiamano Il poeta È la prima volta che sento questo nome Perché non frequenti i miei stessi giri Quelli che circondano il tuo ego Proprio quelli Attenzione Lotta di chi è più egocentrico tra Rufus e Crane Mi sa che comunque vince Rufus La tua baracca è piuttosto austera Ho tutto quello che mi serve Sì tranne il buon gusto Oh oggi Rufus ha la risposta facile incredibile Conosci il governatore? Ti riferisci al deficiente che ti serve? Occhio a quello che dici bello Stai parlando di mio padre Da quando ci fai d'accordo? Tale padre tale figlio Riconoscilo Sei invidioso del governatore Io? Affatto Non ho bisogno di nulla Di ciò che lui anela Hai detto che non hai bisogno di nulla Di quello che il governatore anela Giusto? Proprio così Adesso se la gioca E quindi non ti servirà il carbone Visto che lo vuole il governatore Non ti servirà il fido Il pane e la candela Che tutto in questa casa Mi sembra di vedere Dove lo vedi? Eh guarda Qui c'è la candela Dietro Rufus il carbone Il pane Ah Il filo qua dove c'è la piantina Sì sì è lui l'uomo giusto Posso prendere una cosa in prestito? No Se cerchi qualcuno Che abbia roba in abbondanza Parla con il governatore Io ho solo quello che mi serve Ma anche quello che serve a noi Sei solo un povero diavolo Ma sono ricco di spirito Non è forse la stessa cosa? Dai i bigliettini Partiamo con la candela Quello cos'è? Ho un messaggio di sua eccellenza? Tienilo pure Non ho bisogno di nulla Di ciò che lui adela Forse il messaggio potrebbe interessarti Vediamo Comprare candele Gli servono delle candele Lo vedo E vedo che tu ne hai E? Beh Ok Non mi serve Prendilo tu A me Yes Vive la candela E mo passiamo al resto Prendiamo tutto qua Ma pure l'acqua Gli rubiamo l'acqua da bere Ho un altro messaggio del governatore Questa storia non mi piace affatto Comprare acqua Prendilo tu Tutto tuo Yes baby Dice che ha solo ciò di cui ha bisogno Ma la sua roba è piuttosto inutile No no Tranquilla E ora il carbone C'è posta per te? No ti prego Comprare carbone Sì sì Sono tutte tue Oh manco fossimo gli esattori delle tasse È arrivata Equitalia Si pagano le imposte Opla Stiamo per riempire il nostro inventario completamente Credibile Mai successo E ora il pane Scommetto che non sai che cosa ho qui Un altro messaggio? Bingo Comprare il pane Mi serve solo il mio talento Tra una settimana torniamo qui Lo troviamo morto Uno scheletro lo troviamo Opla E l'ultimo Il filo Ciao di nuovo Portati via tutto Sono stupido Voglio solo piangere in santa pace Ah non mi serve neanche il biglietto? Ok inculiamoci tutto Dove è il filo? Eccolo qua Cosa è il filo? Guarda lì Yes baby Beh Hai detto che possiamo parlare di tutto no? Fai l'urna L'urna Cos'è questa? Cos'è sta roba? Le ceneri della mia defunta madre Ah mi spiace Spiace più a me Ce le prendiamo Le mettiamo nel serbatoio Per abbassare la bandiera Giusto Servirò a quello Che fai? Hai detto che potevo portarmi via tutto? Ma quella è l'urna di mia madre Ma minchia gli ruba la madre Spiacente ma faccio solo quello che mi hai chiesto Così Senza rimorsi Mi piace oggi Rufus Toc toc Di nuovo qui L'organon vuole distruggere Deponia Pipico Fanno sempre quello che vogliono Ma mi stai ascoltando Vogliono distruggere ogni cosa Non vuoi fare nulla per evitarlo? Certo Scriverò un poema di denuncia Giusto E creerò un hashtag drammatico Che ne dici di morte all'organon? Attenzione qui sono gli spiriti rivoluzionari Hashtag morte all'organon Partendo col presupposto che le opere Prendono valore una volta morto l'artista Siamo freschi che lui Fino a domani non ci arriva Ragazzi hashtag morte all'organon nei commenti Per salvare Deponia Povera gente Anche se conoscendovi Volete far esplodere tutto Giusto così Ok prima di tornare alla caldaia Voglio un attimo giocare con l'inventario Perché secondo me il filo si può combinare con l'amo Appunto Poi dicono che non ne so niente di pesca No tranquillo non ne sai niente di pesca Rufus Ok torniamo alla caldaia Abbiamo il carbone no? Butta il carbone Forse devi combinarlo con la pala? O lo butta proprio a mano? A mano Mi basta pensare al fuoco e già sento il solletico Ok ora accendiamo Ah ma la candela è spenta Prova a metterla così Magari lui ce l'ha l'accendino nella manica Lo farei Ma non è accesa Oh come l'accendiamo? Se non ti ricordi male camper Nel mercato nero fluttuante C'è un luogo In cui se salta la corrente Hanno sempre una candela accesa Ed è più vicino Ed è più vicino Hai ragione Di quanto pensassimo Dobbiamo tornare alla locanda Ah Madonna sei un genio Meno male che te lo sei ricordato Se no stiamo mezz'ora a brancolare su questo gioco A cercare una fiammella Esatto Accendi accendi Mira quando mettitela in tasca dopo eh Sì giusto così Bisognerebbe portare sempre del fuoco nel giubbotto Dimmi che prende fuoco no Perché non muore Torniamo alla caldaia va Cazzo ma era più difficile di quanto pensassi comunque Sto ornitoringgo di fuoco Yes Madonna se brucia L'uovo è salito Un altro ancora per la mia collezione Dai che si brucia i bani Yes baby Ah maledizione Ed ora l'uovo si è ficcato da solo nelle tubature Devo tirarlo fuori di lì Perché continuare ad andare quel coso? Eh devi defiarlo Come? Oh mio Dio Dai che ce la facciamo Siamo fortissimi Dove partiamo? Allora dobbiamo farlo uscire di qua Salvi col mouse così Allora di qua Bisogna cambiare questo Cambia quello perfetto Quindi su di là Su Lì Lì devi attaccarlo Così Così Prova a cambiare qua Questo qui Il 4 Quindi fa la curva così Cambia questo qui Questo qui cambia E c'è il ben fatto 10 100% Yes Io da Bodigia Io da Bodigia Ce l'abbiamo fatta What the fuck è nato Ma 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 no L'abbiamo covato un po' troppo col calore Ma che cazzo Prendi lo voglio domesticarlo È bellissimo Che tenero No Non ci credo Ci siamo presi un ornitorinco Rufus è appena diventato mamma Mettilo nel nido poverino Dovrei portarlo nel nido Prima che mi incendi il giubbotto L'ho detto prima io Rufus Andiamo amichetto Proteggiamo ciò che è tuo Ma Noi non dovevamo sterminare gli ornitorinchi Ne abbiamo appena fatto nascere uno Ora possono eliminare questo ornitorinco dal menu Non sto capendo Eh questo ornitorinco fa la guardia incazzoso Quindi non prendono più le uova di ornitorinco Quindi dobbiamo far schiudere anche le altre tre uova Ovviamente gli ornitorinchi a guardia delle proprie casette Ma ti prego dimmi di no Ma scusa ma l'enciclopedia ci dirà qualcosa L'uovo di ornitorinco di terra si schiude alla prima gelata dell'anno Non posso aspettare fino all'inverno Dobbiamo schiuderli Ah guarda qua sotto Cosa? Quello di aria lo prendiamo con la rete L'uovo di ornitorinco volante si schiude in caduta libera dal punto più alto del suo habitat Ok Hai detto niente Abbiamo una strada da seguire Rete Chi è stato a progettarla? Questa rete è davvero pessima Ok ragazzi so come procurarmi la rete Visto che sto proprio con i pantaloni lì Allora Torniamo qua sopra Abbiamo guarda caso Le ceneri di una madre morta Mettiamole nel tubo Se riuscissi a tenderlo sarebbe una catapulta perfetta Non devi usarlo per quello Usa l'amo con l'anello Devi attaccarlo al lamo e così si tende Bella idea Ora devo solo fissare l'altro estremo per ottenere una catapulta Vabbè qui sull'anello Rufus T'ha posto? Ah ok Non è successo niente Chiaramente Come sempre Uovo di ornitorinco volante 130 si vola Martin Garrix La trovo malsana come idea però Io la trovo molto divertente Sgancia La catapulta è quasi pronta Devo solo tenderla in qualche modo Minchia più tesa di così Dobbiamo riportare la bandiera non più a mezz'asta ma su in cima Dici? Eh sì Aspira le ceneri In questo modo non le tirerò mai fuori Ma sembrava una bella idea Anche a me tutto sommato non dispiaceva A me sembrava tesa Benvenuto al pantastendardo Per calare a mezz'asta inserisca ceneri umane Che sballo? Per alzare, levarle Eh forse con l'acqua No secondo me c'entra l'aspirapolvere assolutamente Prova In questo modo non le tirerò mai fuori Dove porta questo tubo? Eh secondo me è esatto Ciupo il filtro Il filtro era per questo È vero Vuoi vedere? Guarda Guarda le ceneri che ho versato prima Mi serviranno a qualcos'altro E ora quindi Aspiriamole Voglio chiarire una cosa Sto solo mettendo alla prova la capacità di aspirazione di questo aggeggio Che delusione A saperlo prima avrei aspirato il mio giubbotto A questo punto chiudiamo il filtro E saliamo Oh guarda qua Tesa in maniera perfetta Catapulta pronta Devo solo sciogliere il nodo E poi Ta ta Ah non ci riesco Chiunque abbia fatto questo nodo è un vero genio XD l'ho fatto io Guarda che trovi un inventario Tipo la pala Spacca Tutto Trancia Ah non ci riesco Ci serve una forbice Bella grande O comunque un coltello Guarda il manuale degli ornitorinchi Ah Ma se passassimo alle altre uova nel frattempo Si potrebbe L'ornitorinco d'acqua cova le proprie uova nella bocca di un pesce zebra vivo Un pesce d'acqua dolce a quanto pare Adoro le sfide Dobbiamo quindi mettere l'uovo di ornitorinco d'acqua nella bocca di un pesce Un pesce abbastanza grande che ci sia un uovo Beh c'è quella da Locanda no? Si Diciamo non è un pesce zebra e non è neanche di acqua dolce Però l'ornitorinco non è studiato Rufund eppure magari funziona Se no al massimo andiamo a chiedere a mister pescatore Eh si Allora facciamo prima un salto dalla Locanda ok? Let's go to Locanda Eccolo qua Pesce lama Più lo guardo più mi viene voglia di radermi Però metterci dentro l'uovo D'acqua è quello? Questo lo pescherò con le mie stesse mani No Interagisci Buono pesce Buono Ah maledizione Deve avere un sensore di movimento Ah magari non serve adesso Però potremmo staccare la corrente e incularci il pesce Non abbiamo lo zucchero infinito con cui rompiamo il generatore Tanto ormai nella nostra giacca c'è dentro di tutto Un pesce alto 2 metri che problema darà Vai di zucchero Torniamo alla taverna Prendiamoci il pesce Sì Oddio Pesce lama Prova a combinarlo adesso con l'uovo di acqua Gli ornitorinchi d'acqua covano le proprie uova nella bocca di un pesce zebra vivo Potrei dipingermi delle strisce e provarci Ma preferisco non tentare la sorte Temo dipingere la strisce il pesce lama e cavargli il naso Comunque Io chiederei un'opinione a mister pescatore Sì pure io Questo sarà incazzato come una bestia Ehi ehi Ora smamma E se volessi pescare? Tu ma ti sei visto? Sei uno sfigato non c'è dubbio E uno sfigato non può essere pescatore Allora ti dimostrerò che ne capisco Come no Largo Ah beh Aspetta Abbiamo un pesce Dimostriamoglielo Guarda cosa ho qui L'hai pescato tu? Tu che dici? Forse mi sono sbagliato sul tuo conto Qual è il tuo segreto collega? Oh Beh chiaramente è la fortuna del pescatore È la fortuna del pescatore Senti bello Tu porti sfiga Si vede lontano un mì Se non intendi dirmi il tuo segreto Puoi cominciare a filare Ho capito Uso delle esche speciali Gli dai l'uovo come esca speciale Il pesce se lo mangia E ben ce l'abbiamo fatta Non so come si faccia a mettere un uovo come esca E come faccia ad affondare Però questa è la mia idea Uso delle esche speciali? No di nuovo con Esche speciali hai detto? Dici sul serio? Mi stai chiamando bugiardo per caso? No se mi fai vedere l'esca Ed io cosa ci guadagno? Che ne dici di un pesce tigre? Mi prendi in giro? Bene ma non benissimo Sei davvero pessimo Pessimo Come vuoi Se un giorno ti servirà un pesce tigre Sai a chi rivolgerti Largo Allora un pesce tigre In cambio della nostra esca Che in questo caso Non penso sia l'uovo Quindi ma proprio il bastoncino Con la sardina Ah si chiama esca E diamogli alla nostra esca allora E quello cos'è? La mia esca speciale? Vediamo Sembra vero D'accordo Eccoti il tuo pesce tigre Rubiamogli le esche Ehi stai fermo Ah cavoli Mi prendi in giro? Non lo volevo Aveva un attacco epilettico Come dici tu? Ecco tieniti la tua esca Se un giorno vorrai un vero pesce me la porti Ah ci hai dato l'esca Ah dobbiamo riuscire a non farlo scappare il pesce Come? Eh boh Non potevo muovermi io Eh guarda che abbiamo l'inventario Ma secondo me perché ha pescatto il pesce sbagliato Lui vuole il pesce zebra Non il pesce tigre Ah Che c'è qui? Secca con esca? Niente a che vedere con le mie leggendarie acciughe fosforescenti Secchio Salvare il mondo? Riparare il cervello della mia fidanzata? No Meglio esaminare questo secchio Prendiamocelo A qualcosa servirà Prova dagli l'uovo allora come esca L'uovo di un teorinco d'acqua? Sì Allora se da iniziale E quello cos'è? La mia esca speciale Perché sono un pescatore di prima categoria La mia da iniziale era quella giusta Un pescatore di prima categoria Saprebbe benissimo che questa non è un'esca Va uffa io ci credevo Ok Ora abbiamo di nuovo Pesce lama comunque Scusami Cioè è autoesplicativo Il nome dice tutto Dovrebbe essere una cazzo di lama Ne avrò da tagliare la catapulta Che magari è la volta buona Ora forse funziona È giunta l'ora Sì Sì Una parabola impeccabile Nice Abbiamo schiuso l'uovo di un teorinco volante Guardalo lì Domanda Come lo prendiamo? Fin qui tutto ok Devo solo catturarlo e portarlo nel suo nido Pure? Solo Abbiamo un retino? Un arpione ci serve No un retino E non abbiamo nulla del genere Camper con un arpione non fa tanta guardia dopo eh Ma guarda non è problema mio Come lo tiro giù da lì Ok Passiamo alle altre uova Di nuovo Enciclopedia L'uovo di ornitorinco di terra si schiude alla prima gelata dell'anno Non posso aspettare fino all'inverno Potremmo sempre metterlo in un freezer Che ne dici? Sì Quello di Doc con le sardine congelate Io non l'avevo pensata così Non mi era una battuta Ok mi piace la cosa Andiamo da Doc La nostra avventura è cominciata qui Con un freezer che non so come cosa servisse E guarda adesso che tutto si ricongiunge Congelatore apriamolo A posto Uovo di ornitorinco di terra Divertiti Gli ornitorinchi di terra covano le proprie uova in terreni ghiacciati Ora manca solo la terra Ah Doviamo mettere sin dentro la terra nel congelatore? Doc ci ammazza Ok però siamo sulla strada giusta incredibilmente Serve la terra Che c'era nei nei vasi a fianco alle tane degli ornitorinchi di terra Grandioso Ancora sporcizia Prendiamola Ho già abbastanza sabbia nel mio giubbotto Sarebbe meglio trasportarlo in un recipiente Vabbè Abbiamo un secchio Abbiamo un secchio Ma quello è un recipiente Non volevo dirtelo Potrebbe essere solo un po' di terra Ma ho cose ancora più assurde nel mio inventario Yes baby Quindi se prendiamo l'uovo e lo mettiamo nella terra Yes Vai così Rufus Abbiamo un secchio con terra e uovo Torniamo da Doc Proviamoci Ciao piccolino Ehi Così giovane e così aggressivo Mi piace È una vera pazzia Vieni da papà Anatra mutante Ehi Così giovane e così aggressivo Bisogna calmarlo Le droghe No Sì Dorghiamo l'ornitorinco No E' tranquillante E' giovane e aggressivo Le pillole scadute L'ammazzi Ehi No Non mi sembra d'accordo Io ero sicurissimo Potremmo scioglierle nell'acqua le pillole Le mie cose vanno bene così Cerco di agevolare un'operazione cerebrale Non di aprire una gelateria Eh Non ho capito Gelato gusto ecstasy Da Rufus Una domanda La palla l'abbiamo già usata? No Dagliela in testa Ehi Cosa dobbiamo fare? Diciamo che questa è Il terzo uovo lasciato un po' a metà E proviamo con quell'altro No no Con questo ci possiamo arrivare Oh Oh ma c'è un interruttore Possiamo congelare vivo L'ornitorinco Scongelare Non sarà un ornitorinco d'acqua Ma nuota bene Ah Congeliamolo adesso Ok No Quel blocco di ghiaccio Non verrà via Senza l'aiuto di un utensile Tranquilli Abbiamo una pala Credo che con questo potrò liberarlo Yes baby È bello vedere Povero È bellissimo Gli ha lasciato i buchi per il naso Così respira Che tenero Andiamo a metterlo nel suo nido dai Andiamo amichetto Proteggiamo ciò che è tuo Ah ok Ah si è sciolto È incazzosissimo Fa troppo brutto Ora possono eliminare questo ornitorinco dal menu Nice Mancano gli altri due Quello d'acqua e quello volante Quello volante Basta catturarlo Quello d'acqua è ancora da schiudere Riproviamoci con l'oritorinco d'acqua Allora, torniamo al porto Riproviamoci Giusto per capire Eccoti il tuo pesce tigre Cosa fa lui? Ehi, stai fermo Cavoli Il pesce non sta fermo Lui non usa la nostra esca per pescarlo Perché se la tiene da parte per pescare Il pesce lama gigante come il nostro Lui la piglia dal suo sacchetto Dal suo cestino Hai visto bene? No, onestamente no Eccoti il tuo pesce tigre Lui la scambia con un pesce tigre l'esca Non la usa per pescare il pesce tigre Vedi che prende le sue Ah, prende dal suo secchio E poi il pesce salta giù come al solito Perché è troppo irrequieto Proviamoci con il pesce Con i tranquillanti Quello d'oritorinco non andava Ah, dici di mettere le pillole nel secchio delle esche Prova Vuole pace e tranquillità Tutto per lui E quello cos'è? La mia esca speciale Vediamo Sembra vero D'accordo Eccoti il tuo pesce tigre Che è completamente rincitrullito Ah, mio Congratulazioni signor pescatore Ora dammi l'esca Non lo so Questo pesce è piccoletto Ok, ok, prendi Gli ornitorinchi d'acqua Covano le proprie uova Nella bocca di un pesce zebra vivo Questo non è vivo Ma a strisce squame Ma non è manco un pesce zebra È un pesce tigre Proviamo Oh Niente Come niente? Ma gliel'ha ficcato in gola Non capisco Ho seguito le indicazioni Con il pesce senza vita sbagliato Comunque il fatto che l'ovo non si possa più tirare fuori dal pesce Ci fa capire che siamo sulla strada giusta Assolutamente L'idea più malata che mi viene in mente È di verniciare il pesce di bianco o nero E farlo diventare un pesce zebra Ok Dove lo troviamo un barattolo di vernice? Tu ti ricordi? Negozio di Cianfrusaglie Vediamo qui? Più che qui Proviamo il negozio di Cianfrusaglie Ma Scusa L'ho notato tipo adesso L'uomo intrappolato che grida Non l'avevi visto? No Benvenuto nel paradiso delle Cianfrusaglie In cosa posso esserle utile? Che tipo di oggetti vendete? Abbiamo gli apparecchi più incredibili di tutta Deponia Si accomodi di un'occhiata al nostro negozio Può provare qualsiasi marchi ingegno Ma ricordi di lasciarlo al suo posto Prima di andar via Per chi mi hai preso? La mia CPU ha calcolato una probabilità Dell'86% Di un possibile tentativo di furto E su cosa si basa? Su vari fattori Per esempio Indumenti Odore corporeo LOL Sei un robot? Il padrone del negozio mi ha fabbricato Per dargli una mano E dove si trova adesso? Questa informazione è irrilevante Sono completamente autonomo Lo vedo Vorrei sapere cos'è successo al proprietario Non abbiamo la più pallida idea Sono mesi che lo cerchiamo Attenzione Oh Dio Io e sua moglie siamo molto preoccupanti No Se la fa con la moglie Dunque il padrone è sposato Si Camilla è una donna meravigliosa La vedo tutti i giorni Cerco di tenerla su di morale Se la fa tutti i giorni Non deve essere facile per lei Dovrebbe dimenticare l'uomo che l'ha abbandonata La vita continua Gli uomini sono tutti uguali È quello che dico a Camilla tutti i giorni Finalmente comincia a credermi Dice che i robot invece sono molto affidabili Perché quella piattaforma è vuota? Non lo è È solo che non vede l'oggetto che c'è sopra Il mantello arcobaleno dell'invisibilità Il marchigegno più potente di Deponia Lo voglio Il mantello arcobaleno dell'invisibilità? È probabile che le sia difficile crederci Ma è proprio lì È un oggetto sorprendente Di un potere inimmaginabile Ma è vietato toccarlo Non so se potrò resistere alla tentazione Lo farà Altrimenti ci spara coi raggi laser Beh io voglio toccarlo Tanto sono le mani di Rufus che usiamo È ora di andarmene È stato un piacere averla qui Piacere nostro ma non suo Minch ma c'è una marea di roba Fanculo gli ornitorinchi Oggi voglio giocare con le cianfrusaglie Radrizza banane Ma cos'è radrizza banane signori? L'hai inventato il tizio perché non so di se aveva la moglie Era ora che qualcuno lo inventasse Qui cosa abbiamo? Calzini antigravità Calzini antigravità A Gal piacerebbero un sacco Ma pure a noi All'opera Rubiamo tutto Occhiali dell'eterna oscurità Che cosa non fa un po' di vernice nera? Sono degli occhiali da sole Scendiamo Non rimetterli a posto Bravo Tienteli No No Ma dai Ma dienteli Ma gli occhiali ben tenuti Sì ma che ci servono? Cappello spremitore Un cappello spremitore? Mi starà sicuramente da dio? Ottima scelta signore Non dimentichi di riporre l'articolo al suo posto Prima di andar via Sì sì Entra alla perfezione in questa tasca 86% di furto insomma eh Comunque è rimasto uno scompartimento vuoto Ah forse dobbiamo sostituirlo con qualcosa così il robot non se ne accorge Ma cosa? Mettici il pane che sembra un cappello Ma non mettiamoci nulla Trituratrice Ideale per la mia villa di Elysium Nella camera principale starebbe da dio Mentre Gal legge io trito Ehm no Ah questa era tipo quella che aveva Tony nel suo negozio anche Lot o Matt? Vincere alla lotteria non è questione di fortuna Basta un sistema infallibile E sembra che questo aggeggio non capisca il mio sistema Ma che cazzo sta dicendo? It's time piglialo Mantello arcobaleno dell'invisibilità Persino più bello di quanto avevo immaginato Che imbacille Mi scusi signore il mantello è solo da esposizione Non può provarlo Non l'ho neanche toccato Mi stavo solo stiracchiando Ok ok No ma dai Non fai mai quello che ti dicono Rufus Ma prendile e basta Prendile e fuggi Dobbiamo Accecare il robot in qualche modo Sì ma non penso che Comunque stiamo svarionando tantissimo La nostra missione Ok sapete cosa? Non vedo vernici Quindi usciamo dai È stato bello ci torneremo Mi scusi signore Nessun oggetto del campionario può abbandonare il negozio Non so di cosa tu stia parlando Ok ok Nooo Ve l'ho detto che dovevi metterci lì il panino Così sembrava lo spremi agrumi Sono contrariato Vernice 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 Dove cazzo sta una ver... Ma siamo dei coglioni? È vero Secchio di pittura Che tipo abbiamo visto nel primo episodio Tra va a toncarci il pesce Sì deve essere questo sicuro Tombola un pesce zebra Oddio dopo mille anni ce l'abbiamo fatta Eccolo Frankenfish Gli ornitorinchi d'acqua covano le proprie uova Nella bocca di un pesce zebra via Ora devo solo resuscitarlo Ma che cazzo? Ma nulla di più facile insomma Dobbiamo resuscitare un pesce Ma dargli dell'acqua? Non basta? Maledizione è morto No È proprio morto Caput Non si ribiglia con l'acqua Una mezza idea ce l'ho Hai visto anche tu quella zona? Yes L'anticamera Del laboratorio di Doc Se non erro Aveva appunto Due elettrodi Ma dai Una condensa Tecno Flusso Quello sì Un classico di sempre L'esperimento riuscirà perfettamente Non credi? Un classico esperimento da Rufus Avrà elettricità Via le zampe dalla mia attrezzatura Rufus O hai intenzione di creare un varco spazio temporale? Ok Mettiamoci il pesce Certo Un paio di stimoli elettrici ben orientati E il pesce tornerà in vita Non so per quale legge fisica Rufus Mettila di mettere le mani tra le mie cose Il generatore si sta sorriscaldando Il flusso di energia è all'esterno Sta cominciando a fletter Esagerato Un attimo Forza pesciolino Tieni duro Coraggio È vivo Schifinato Rufus Sì Può Vare Non so come ci sia riuscito Ma è stata una figata pazzesca E ora dovrei mettere questo pesce zombie in un po' d'acqua Dai mettilo nel bicchiere per ora Prima che muoia Resisti Frankenpesce Ah No Comunque abbiamo aperto due varchi spazio temporali lì a destra e a sinistra Sembrava portal Volevo entrarci io Uffa Comunque ho già l'idea di come salvare Deponia Quando ci attaccheranno quelli dell'Organon Noi assorbiremo il raggio nel varcho spazio temporale E distruggeremo tipo i dinosauri Perché probabilmente li riporterà a quell'epoca Entra da una parte e esce dall'altra Senza acqua dolce non sopravviverà Non poteva essere acqua salata No Comunque allora nel mare non possiamo lanciarlo Acqua dolce L'acquario del parenti Rufus Eh sì Diciamo che il lavandino non è il top Quindi la tua idea di acquario non mi dispiace O la pittura Sicuramente non è acqua salata Go fast C'è qualcosa che si muove nel mio giubbotto Oh oh Sembra che Frankenpesce non si senta bene E ora dovrei mettere questo pesce zombie in un po' d'acqua Sbrigati Rufus non c'è tempo da perdere Non si muove più nulla nel mio giubbotto Quindi non ho più un animale domestico zombie Ma è morto di nuovo Maledizione è morto Dobbiamo rianimarlo di nuovo What? Come facciamo a farlo durare così a lungo? Che palle Forse dobbiamo prendere uno di quei due varchi spazio temporali E arriviamo direttamente nell'acquario e lo mettiamo dentro Non credo Comunque da capo Certo Rufus Smettila di mettere le mani tra le mie cose Un attimo Forza pesciolino Tieni duro Coraggio E' vivo E ora dovrei mettere questo pesce zombie in un po' d'acqua Dobbiamo fare o una gara contro il tempo Oppure non ho idea Oh oh Sembra che Frankenpesce non si senta bene Metti nel bicchiere adesso Resisti Frankenpesce Yes Devo fare in fretta Devo portarlo in qualche posto in cui possa covare in pace Ok ho capito Ogni volta che si sentirà male il pesce dovremmo dargli un po' d'acqua Giustamente Un po' come le balene spiaggiate no? Che gli lanciano spari secchiali d'acqua Devo arrivare alla belle view Brigati Ehi C'è qualcosa che si muove nel mio giubbotto Oh oh Sembra che Frankenpesce non si senta bene E io che speravo fosse un alien Magari moriva Rufus Devo fare in fretta Devo portarlo in qualche posto in cui possa covare in pace Uh ci siamo Ci siamo Metti il pesce nell'acquario Rufus Che stai facendo? Non cercare di fermarmi Devo salvare la vita di un pesce Ma no Dai loro la vita e guarda come ti ripagano Idiota Porghi subito quel mostro dal mio acquario Se l'hai mangiato Troppo bella la scena comunque Bellissimo ragazzi Bellissima sta scena Ok ora dobbiamo prenderlo Come minchia lo prendiamo Adesso sfondiamo l'acquario con una pala Ah non c'abbiamo più la pala Che merda la vita Vieni da papà Ah easy proprio Come? Lui è mansueto camper Non ci vuole mangiare È sazio Dovrei portarlo nel nido Prima che mi non di l'inventario D'accordo Dove è che stava il suo nido? Al porto Dove c'era il gondoliere Ok ora Era qua sopra Si Come lo lanciamo là sopra? Beh scusami Se mi sia fatto un nido là sopra Saprà anche arrivarci da solo Penso Dici? Eh si Andiamo amichetto Proteggiamo ciò che è tuo Eh hai visto? Bravo Ora possono eliminare Questo ornitorinco dal menu Nice Ci manca l'ultimo ornitorinco adesso Quello volante Allora ci serve o un mega retino O una fiocina O una fionda Una fionda Non mi vengono altre idee Un fucile Un arpione Un metagliatore Un gatling No? Un raggio laser della morte Un caccia bombardiere No camper Caccia bombardiere no Allora Vediamo un attimo l'enciclopedia Non dice un cazzo No aspetta Non dice un cazzo Però vedi che è volante Eh Dobbiamo fare una calapia ornitorinco Quella sembra tipo la nostra pala E quello sembrano i calzoni Proviamoci dai La pala non ce l'abbiamo più Sei sicuro? Sì Però ho un'idea Ho una fottuta idea Allora saliamo Possiamo panacella sui pantaloni? Sì Potrò di sicuro usarlo di nuovo Fa vedere l'inventario Proviamo a combinarlo con l'aspirapolvere Una mezza idea Potrò di sicuro usarlo di nuovo No Ok La cenere possiamo ancora usare La cenere è per alzare Eh però usarla Eh La metti la cenere qui dentro Un tubo Certo Ho capito Sicuro dobbiamo metterci qualcos'altro qui Un'esca Sì Un'esca Ok Non ci si può mettere comunque più nulla sull'asta Come non detto Andiamo a riprenderci le ceneri va Bah Questo l'ho già risolto Ah E abbiamo perso le ceneri Vabbè a quanto pare non servivano dai Eh vabbè Ah Ci vorrebbe qualcosa per indirizzarlo a terra Tipo presente quei cosi all'aeroporto Sì Si chiamano I pastoggini glitterosi per la terra Eh esatto Forse qualcosa del genere Però non abbiamo nulla di tutto ciò Sai che ti dico? Ah Che ci sono zone ancora non esplorate Sì è vero Ce ne sono almeno due Uno è il vicolo buio Ah è vero E l'altra è la piccola venezia Secondo me andiamo alla piccola venezia Perché le chiavi per aprire il vicolo buio Non ci abbiamo Andiamo alla piccola venezia allora Ok È proprio una zona bella nuova Sommergibile Guarda lì Mano regolamentare Era la mano che serviva al giocatore d'azzardo Ti ricordi? È vero Quello dobbiamo entrare a prenderla Ok Diciamo che sappiamo cosa fare in questo episodio perlomeno Che c'è sta qui? Un'antenna Chi è stato a montare questo? Che pasticcio Così Ups Io e le antenne abbiamo un rapporto complicato No Tu e il mondo avete un rapporto complicato Specifichiamo Un po' diverso Lufus Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Allora l'antenna L'andiamo a mettere sul tubo dove abbiamo ficato le ceneri Così Non si può mettere niente sul tubo No sul tubo delle ceneri L'asta lasciamola perdere perché non possiamo usarla Però proviamo a metterla lì Prende energia tipo in maniera strana Dal generatore di sotto Che è intasato con la cenere Quindi si surriscalderà Tempesta elettromagnetica Colpiremo l'ornitorinco E riusciremo stordito a metterlo nel suo nido E a finire la nostra trama Mi sono perso a tempesta elettromagnetica Fai quello che ti dico io Sarò la tua guida Tu puoi essere anche cieco adesso Vabbè torniamo indietro Tentar non nuoce Vai 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 Vedi che anche lì c'è un'antenna Eh e quindi? Quindi stiamo parlando di antenne? La colleghiamo qua allora Ho capito Eh no lì non puoi No di sopra di sopra di sopra Ma dove? Lì nel tubetto Ma non si può Ce ne sono due Mettevo da una parte e dall'altra Qui? Sì Funziona solo con ceneri umane Sotto Con la mia incredibile abilità potrei riuscirci Ma non voglio sembrare presuntuoso Eh? Non sto capendo Eh L'antenna o te la metti nel culo Oppure non si può mettere qui eh Ho una mezza idea Proviamo direttamente a guidare l'ornitorinco con la Con l'antenna Sì ma non c'è l'elettricità Non mi aiuterà a intrappolarla Ci ho già provato Niente Aspetta Casetta per uccelli L'ornitorinco volante è un cazzo di uccello Quello è una casetta per uccelli Cosa mangiano gli uccelli? Le briciole di pane Vai prova a mettercelo dentro Secondo me è molto più semplice di quello che pensassimo L'antenna non serve per questo probabilmente Vieni da papà Ecco appunto Guardate cosa vi ha portato papà Rufus Ci credo Capito? Era molto molto più semplice Fin qui tutto ok Devo solo catturarlo e portarlo nel suo nido Vieni da papà anatra mutante? Uff Stupida bestia Eh? È troppo alto Ma com'è troppo alto? Prendilo coi pantaloni O infilzalo col pesce sega Mi piace più questo No cappe stavo scherzando Scommetto che quelle bestie mangiano solo molliche di pane Prendilo coi pantaloni Di sicuro si può sfruttare per qualcosa Una rete per ornitorinchi volanti? Mmm no Aspetta sì Sì Il retino gigante Che c'è anche nell'enciclopedia Eh Devevo fare un cazzo di retino Sarà un bastone metallico Miscola con le cose che abbiamo Con il cacciavite O un'antenna Sì forse l'antenna è un po' meglio Sembra la rete che appare nel libro su ornitorinchi Meno male che sono un genio Lascerò ai mediocri la prova e l'errore Una rete Sì Ok ottimo catturiamolo Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta Non ci credo Ti ho preso Fa vedere cosa va nella zaina Ornitorincovolante Che bello Dovrei portarlo nel suo nido prima che si affezioni a me Ma smettila Oddio ce l'abbiamo fatta Vai 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 Raga non ci credo Veloce al nido Dopo non so quante puntate Portiamolo al nido Andiamo amichetto Quindi Proteggiamo ciò che è tuo Ora possono eliminare questo ornitorinco dal menù Ok non resta che tornare dal padre e dirgli la buona notizia Cioè dacci il tavolo Ci sono riuscito La parola ornitorinco è scomparsa dal menù Era ora Hai dovuto cercare le uova di ornitorinco vero? Eh sì Cazzorini Un'esperienza delirante Ora posso prenotare? No Come no? Come no? L'appuntamento richiede molto più di un ristorante con una bella vista Questo non vuol dire quello che credo voglia dire Devi colpire la fanciulla con i tuoi modi Bruciature, piaghe, morsi di ornitorinco e mi dici di no? Che ne dici di un poema? Morsi, bruciature e piaghe Non dire di no ti prego non farlo Per la fanciulla Rufus Non credo che una poesia la convinca Posso immaginare il sole riflesso nella sua coppa di champagne Che risalta la lucentezza dei suoi capelli dorati Io direi più che altro arancioni Arriva il dessert e io recito il poema Vorrei dire che io lo recito Sì, certo Ebbene, sei portato per la nobile arte lirica? Sì, qualunque cosa sia Non hai ragione di preoccuparti Sono un maestro del verso Ma devo cercare il poema adatto Papà, non c'è tempo La pazienza è la più grande virtù di un romantico, Rufus Niente poesia, niente tavolo Mi occuperò io di trovare un poema Parola di Rufus Fortuna che conosciamo un poeta Che ci odia a morte però Ah no, gli diciamo Il governatore vuole un poema E tu nei tanti non ne hai bisogno Dacci anche quello, tipo Proviamo a rubargli pure quello Andiamo dal poeta Toc toc Di nuovo qui? Eh già Immagino che padroneggi l'arte della poesia Che razza di poeta sarei altrimenti? Era un sì o un no? Ti prego, non dirmi che ti serve una poesia Mi serve una poesia No, per una fanciulla D'accordo L'importante è che le parole ti vengano da dentro Della rima che mi dici? Inutile E la metrica? Il jolly dei falsi poeti Coraggio Provaci Gal della mia vita Gal del mio cuore Ti sei bevuta il latte del mio rosso tazzone Niente male È sincero E sentito Bravo Cosa? Vai a conquistarla Qualcosa mi dice che cercava solo di liberarsi di me Arguto Riparlagli Ho bisogno del tuo aiuto con questo poema Non essere modesto C'è un poeta in ognuno di noi Coraggio Provaci Non c'è proprio voglia di aiutarci La tua pelle è come un tappetino di tasso Perché non poggiarla sul mio materasso? Bella rima Mi piacciono le metafore È persino un po' erotico Bravo È pronto Cosa? Vai a conquistarla Vai con l'ultima L'ho conosciuta in una discoteca nell'isola di Portafisco Le ho preso la mano e lei mi ha dato un morso Cosa? Niente male È bella metrica E le storie d'amore di vampiri vanno di moda Bravo Vai a conquistarla Non posso farlo E io ti dico Certo che puoi E a te chi ti ha mai dato retta Quindi non vuole aiutarci Questo può essere un problemino Ci vediamo Grazie Adoro la solitudine Altre idee? C'era un altro che si spacciava come poeta Chi? Quello che faceva le poesie sugli ornitorinchi Ah Sì beh Non abbiamo scelta vero? Parliamo con lui Erano cringissime le sue poesie Ornitorinco me lo trinco era giusto? Esatto Ciao di nuovo Mi piacerebbe tanto ascoltare uno dei tuoi poemi D'accordo Preparati per un classico Torneranno gli oscuri ornitorinchi Ah Mi sento così Ispirato Commosso Stordito Ma è una merda Come non detto Ok ho un'idea Abbiamo detto tre poesie al poeta Una ce l'ha detta lui Secondo me andiamo dal padre Con queste quattro mezze poesie E lui ce la combina Dici? Eh lui c'ha la passione Vediamo Papi Conosco le parole magiche per sorprendere Gal Ti renderai ridicolo Rufus Troppo tardi Ok Mi sa che ci manda a fanculo con tutte e quattro Sarà divertente dai Gal della mia vita Gal del mio cuore Ti sei bevuta il latte del mio rosso tazzone Lascia che sia tuo padre a occuparsi di questo Ah il padre le prende secondo me E ci fa tipo gli anagrammi Ok diciamo di dire tutte Torneranno gli oscuri ornitorinchi Lascia che sia tuo padre a occuparsi di questo So che sono capace di farlo senza il tuo Ma no Come vuoi tu Rufus Hai quello che ritieni giusto E quindi? Nessuno di queste va bene? Secondo me dobbiamo trovare altri poeti in giro per la mappa Torniamo dal poeta va Potremmo minacciarlo sai? Sembri affamato Non ho bisogno della tua elemosina Ho già tutto quello che mi serve Per caso ti ho offerto qualcosa? Era una minaccia non era un'offerta Ho bisogno del tuo aiuto con questo poema Non essere modesto C'è un poeta in ognuno di noi Coraggio Provaci Oh Ah c'è pure quella che ci ha consigliato l'ornitorincologo Forse è una volta buona Torneranno gli oscuri ornitorinchi Tutto qui? E... E comeranno alle 5 Mi prendi in giro? E' terribile Mi duole ammetterlo ma... Credo che tu abbia bisogno del mio aiuto Mi darai lezioni? Non se ne parla? La tua è una causa persa Mi viene in mente solo una cosa Il trucco della mandorla rosa Che? Sarò il tuo suggeritore Suona davvero male Prendi Un auricolare Ah ora capisco Mettitelo nell'orecchio No quella è un'altra causa persa Andiamo al sodo Inseriscilo nell'orecchio Ed io ti suggerirò le parole magiche durante l'appuntamento Fico Minchia Quanto si vendica Quanto si vendica Quanto si vendica Ok Abbiamo quindi un piano Torniamo dal padre? Deve darci il tavolo Ok la poesia non è il mio forte ma ho questo Cos'è del cerume? No un auricolare Sarà il poeta suggerirmi le parole magiche Quel povero diavolo che vive sotto casa mia? Non farmi ridere Anche se ormai non importa Ho trovato il poema perfetto No lo farò da me Con l'aiuto del tuo amico? Il morto di fame? Come preferisci Se lo dici tu Prenoterò il tavolo Prendi questo Cos'è? Un invito per Gal Non appena lo vedrà sarà entusiasta del nostro appuntamento Il mio appuntamento vorrai dire? Ehm Esatto E ora permettimi di darti qualche consiglio Ci fotte la donna? Che gentile Mi ha persino prestato un vestito Ma si vuosco fare gala al posto nostro? Bastardo Beh mal che vada Facciamo una grassa risata no? Ora cosa vuoi? Ecco a te Un invito ufficiale ad una cena romantica Davvero? Mh Niente male Devo riconoscerlo Mi hai sorpresa Sei una scatola piena di sorprese Vuoi vedere cosa c'è dentro? Rufus Non rovinare tutto Ah Mi ha dato buca Come? Cosa che dimostra quanto mio padre ne sappia di donne Ma come ha dato buca? Ah il diavolo e il romanticismo Vediamo cosa mi dice il governatore adesso Papà? Che sta succedendo qui? Fiori? Champagne? Che bastardo Se è quello che sembra presto oltre a piromane sarò anche parricida Ci ha fottuto la donna? Che figlio della merda Che bastardo E questo? Comprare una radio Perché mai il vecchio vorrà una radio? Aspetta un attimo Non contento di avermi rubato l'appuntamento vuole anche rubarmi l'idea Che imbecille Ok E' tempo di andare a fare un casino Ora ne ho abbastanza Guardali Come ti permetti di fregarmi la ragazza? Sono tuo figlio Come? Sei il padre di Rufus? Questo è quello che crede lui Ma non è così Sei davvero un... In realtà lo adottai quando ero il sindaco di Kuwak Lo trovai nell'immondizia Avvolto nel sudiciume Sei un bugiardo Adottato Accettalo Non sono tuo padre Rufus E me lo dici solo adesso? Non hai proprio scrupoli vero? Senti chi parla Gal tu non capisci Quest'uomo è... Elegante? Sofisticato? Il governatore sa come trattare una donna Ma... Hai sentita? Rufus non costringermi a chiamare le guardie Maledetto vigliacco me la pagherai Dove eravamo rimasti? Al dessert mia cara Mi fa venire il volta stomaco Ma non finisce qui Parola di Rufus Signori Colpo di scena Ma questa è la trama dei porno In cui c'è il patrigno e il figliastro Che si fanno l'amorosa del figliastro Che se la fa col patrigno Poi fanno un mega trisome Tutti felici e contenti 92 minuti di applausi signori Guarda dove rubano le trame questi qua Il fetente ci ha fottuto la ragazza Dovremmo trovare il modo di fargliela pagare Che abbiamo? Un pesce rama Potremmo slamarlo e basta Facciamo un singolar tenzone a cavallo Ci dobbiamo infilzare Rufus vorrei che questa fosse una festa gradevole L'hai sentita? Comunque se dai una spintare dal papi Fa un volo di 800 metri più o meno giù da lì Ok piano camper Mactulu In cosa posso esserle utile? Ma come? Ma uffa Ma sbalanateli Che altro abbiamo? Ah il promemoria Comprare una radio Più che comprare ce la faremo dare dal poeta Amicone Ah si guarda lì la radio Crane Impertinente Poeta maledetto Insultori Figlio di tua mamma Vediamo chi dice la radio Papà? Rufus giù le zampe dalla radio Subito sto aspettando un messaggio importante Ci siamo intesi? Ah hai capito figlio di puttana Anche lui si è messo d'accordo col poeta Per farti suggerire le frasi romantiche Altro che ci penso io alle tue Dobbiamo trovare il modo di sabotare il suo appuntamento Beh noi ne conosciamo un altro di poeta Ma se provassimo a dare la radio al nostro poeta ornitorincologo Direi che farà sicuramente colpo su Galle il nostro papaino Con le frasi che gli suggerisce lui L'happy ending può accompagnare solo Ehi Tu sei un poeta no? Certo Il diario ornitorincologico ha pubblicato alcuni dei miei versi Perfetto Prendi Una radio? Sì ne avrai bisogno Per una questione romantica Parliamo di una storia d'amore tra ornitorinchi? E ora mia cara La ciliegina sulla torta Una poesia dedicata a te Cominciamo La poesia Chiedo scusa La poesia Tocca a te amico poeta Ne ho una perfetto Quando ti penso di santo Non ho neanche lo stinco Perché sei più sexy di un Ornitorinco Ornitorinco Ma cosa? Aspetta Io Io non Avevi ragione Rufus Sigal è un idiota Sei stato carino A cercare di mettermi in guardia sul suo conto Grazie Cosa? 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 Partono le limonate Faccia le mani sul culo Cosa? Cosa? Rufus Ti devo delle scuse Il tuo padre adottivo è un perfetto idiota Cosa? Finalmente te ne sei resa conto Devo solo convincere il tuo alter ego La verità è che mi sei sempre piaciuto Assomigli molto a Cletus Cazzo allora Ma tu sei odace e lui è un codardo Puoi dirlo forte ma non dirgli che l'ho detto Aspetterò fin quando non avrai convinto le altre due In realtà sono un po' gelosa E' una follia vero? Ok La seconda è fatta Lol Dai cominciamo la bambina Senza di Leo? Eh ci tocca ormai Eh lo teniamo nella seconda parte Leo quella in cui rimorchiamo pesante Ci abbiamo piegato tre episodi se non quattro Penso a rimorchiare la galla raffinata Quindi figuriamoci con la galla bambina Galla innocente Oh mi sono addormentata di nuovo Mi sono persa qualcosa No Evviva Dai rinfreschiamoci un po' la memoria Cosa devo fare per convincerti a venire? Dobbiamo unirci alla resistenza Come Janos Ti riempirò di trucchi piccola Ok è vero Bisogna unirsi alla resistenza Che sembra molto come Cosa devo fare per conquistarti? Unisciti all'esercito Vai a combattere i miracchi e muori Torno subito Sii Allora Se mi ricordo bene Lui Un membro della resistenza Era quest'uomo qui Garlef Membro della resistenza passiva Ricordiamocelo Quelli che si mettono a 90 e lo pigliano Ok Per resistere E altra cosa Era un giocatore professionista di sasso carte e forbici Ma Senza una mano regolamentare Non si può giocare E dove stava la mano regolamentare? La sommergibile che abbiamo visto nello scorso episodio Esatto Quindi sappiamo cosa fare Siamo alla piccola Venezia Lesti Guardala lì Prova a fare raccogli Pugni fuori Ha ha Ho perso elasticità Non è mister fantastic Dei fantastici quattro Sembra una vera mano regolamentare Devo salire a bordo di quel sommergibile Sicuro lo facciamo partire Finiamo in culo al mondo Eh Ah ecco quell'altro Che diavolo fai? Io? Sì tu O ti sei portato il tuo amico invisibile? Di invisibile basto io Che mi muovo sinuoso Come un ninja tra le ombre Picchialo Ah Amico Sei così imbranato Che ti vedrei anche se indossassi Il mantello arcobaleno Dell'invisibilità Un ninja non ha bisogno di marchi ingegni Posso sparire nel giro di qualche secondo Avanti E non tornare In tesi D'accordo Quindi ci ricolleghiamo alla trama di Due episodi fa a sto giro Yes Negozi di Gianfrusaglie Sai cosa mi è venuto in mente infatti? Che potevamo mettere A quel carnocchiale Gli occhiali scuri Con la vernice Hai presente? Vero Vero Se riusciamo a rubarli Gli li mettiamo davanti Così non ci vede teoricamente Sappiamo quindi come fare Torniamo al negozio di Gianfrusaglie Allora Sì ciao amico Ormai Siamo a bf Qui c'è il mantello Come prenderlo Senza farci uccidere da quel robot Bella domanda E facciamo quello che siamo riusciti a fare l'altra volta Ok In maniera molto rapida Uno Mettiamoci un cappello inutile Due All'opera Aia E tre Occhiali dell'eterna oscurità Indistruttibili Se riuscissimo a portarceli fuori Potremmo inibire la sicurezza E entrare nella botola O semplicemente potremmo inibire il robot Ah Quella di sicurezza Anche se mi sembrava troppo piccoli Ottima scelta signore Un aggeggio completamente inutile Non li voglio neanche regalati Pagherà con organi E poi sono veramente brutti Ehm Ok Non ce li fa comprare Prova a mettere L'aspirapolvere tipo in uno scompartimento Perché? Perché così lui non vede Vede che gli scompartimenti sono Sempre occupati Sono occupati E ci lascia uscire Meglio di no Sembra ci sia un ladruncolo a bordo Pare che ci sia un ladro Che si aggira liberamente Per il negozio Che brutto coglione Oppure Dobbiamo tritare qualcosa? Secondo me si Servirà anche la trituratrice Cosa possiamo triturare? Il pane? Guarda L'abbiamo giattato all'ornitorinco volante Ah già è vero Trituriamo l'enciclopedia Eh sì Quella è veramente inutile Muoio dalla voglia di provarla Ma non con quello Ma come? Ma sì è vero Metti gli occhiali distruttibili Perché? Perché sono indistruttibili Così distruggiamo la trituratrice Ah Che facciamo il crash test? Vai Mi scusi Signore È vietata la distruzione Di eccettivo Il campionario Perché? Qui dice che sono Indistruttibili Proprio così In quel caso Eh beh Proprio indistruttibili Oh no Non possiamo più metterli davanti al Alla Perché l'abbiamo fatto? Ti furto Indistruttibili Ah Non se Rufus È nelle vicinanze Ma quindi adesso possiamo uscire Con gli occhiali rotti Se sono rotti Non li riguarda mica indietro Ok ok Ah Ma Ah Cosa? Scusate Non ho capito Eccoli lì Vai a fare il reclamo Facciamolo al cliente incazzato Pagherà con organi O in Contanti E poi sono veramente brutti Ma quindi abbiamo distrutto questi occhiali per cosa? Come possiamo fare? Ok Usciamo Non so cosa fare qui dentro Usciamo Ma a me ci manca qualcosa Eccoci qua La piazza centrale Ma se andassimo nel vicolo buio Ah è vero Esploriamo questa zona a questo punto C'era questa porta misteriosa da esplorare Apri la Questa non è la parola d'ordine Come no? La parola d'ordine è questa Sfigato Me l'hai appena detta Allora ripetila D'accordo Posso entrare adesso? No Aspetta Non era questa Questa è la vecchia parola d'ordine Cosa? Sì Anche a me piaceva di più Era più facile da ricordare Ma adesso è cambiata E com'è? È segreta No maledizione Che presa per culo È nascondito dei rivoluzionari questo Eh già Dove si riuscì la gang 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 Parliamo col farmacista dai Sì penso che sia l'unico personaggio rimasto inutilizzato Cioè gli abbiamo rubato i tranquillanti Cioè le medicine scadute Però con lui non abbiamo fatto niente Salve Cosa? Chi è? Vorrei comprare qualcosa Dimmi pure Cosa c'è in quella bottiglia? Etanolo concentrato Con anticongelante Delizioso Lo bevevo spesso Ma è il carburante dei trattori Quando non son più riuscito a trovare la bottiglia Hai qualche sedativo? Hai la ricetta del medico? Ecco a te Ottimo tentativo amico E grazie per il bottone del tuo ciucco Non hai qualche campione gratuito vero? Certo Ho dei campioncini di una nuova pianta allucinogena Non è ancora stata testata sugli umani? Pericolosa Illegale Imprevedibile Fico eh? È gratis vero? Sì ma... Allora ne prendo tre Calma amico Se vuoi un cucumis agnizio Ti serve il coupon dell'offerta del mese Cucu... cosa? Cucumis agnizio Noto anche come cetriolo della chiaroveggenza Il principio attivo è contenuto nel suo succo Sfortunatamente la buccia è durissima Buono dentro, duro fuori Proprio come me Voglio il cetriolo Mi daresti un cetriolo? Solo se mi porti il coupon Ah e dove diavolo ne trovo uno? Nella mia rivista mensile È gratuita Non vedo nessuna rivista da queste parti Neanch'io però non mi lamento Ora che lo dici Stamattina ho provato un nuovo lassativo Quello che è successo dopo è stato così rapido Che non lo ricordo Mi stai dicendo che ti sei portato la rivista in bagno? È possibile Nella taverna di Gulliver manca sempre la carta igienica Oddio Ma quella carta igienica che abbiamo noi? Sì Momento, momento, momento Quindi vuoi dirmi che quella non è carta igienica ruvidissima Ma è proprio il coupon omaggio Strana carta igienica Estremamente ruvida Ah che ricordi Questa è proprio portata in quel bagno lì È ruvida perché ha il codice Brian Sì perché è della rivista Percechi giustamente Tagli quella Eccoti la ricetta Posso? Sembra sia scritta in braille Appunto Anche se i caratteri si sono stinti Aspetta è uno dei miei coupon Te lo sei meritato? Un campione non testato Cucumis Agnizio Noto anche come cetriolo della chiaroveggenza Fanne buon uso Forte Yes baby Il cetriolo della chiaroveggenza Il cetriolo della chiaroveggenza Un nome bizzarro e una buccia notevole Ma come diavolo spremo il suo succo Possiamo spremerlo nello spremiagrumi Quello che usiamo come cappello È vero Allora torniamo al negozio di cianfrusaglie Non ci credo ce l'abbiamo fatto dopo 16 giorni e mezzo Lo spremiagrumi è qui Possiamo combinare col cetriolo Oh cetriolo della chiaroveggenza Rivelami i tuoi segreti Cosa? Oh mio dio Oddio parte il trip I funghetti Questi indistruttibili occhiali dell'eterna oscurità Sono una fregatura La prego di descrivere il motivo della sua insoddisfazione Sono rotti Mi permette di vedere l'oggetto difettoso Prendi Ma hanno solo qualche graffio Questi occhiali sono pienamente operativi Non sto capendo Lo vedi Sta vedendo il futuro Ingegnoso Devo fare in modo che mister Latta indossi gli occhiali Che storia Ci ha fatto vedere il futuro il cetriolo Ragazzi E' un trip assurdo questo gioco Vai vai Lamentiamoci per davvero ora Questi indistruttibili occhiali dell'eterna oscurità Sono una fregatura La prego di descrivere il motivo della sua insoddisfazione Sono rotti Mi permette di vedere l'oggetto difettoso Prendi Ma hanno solo qualche graffio Questi occhiali sono Qualche graffio Operativi Lo vede Piantala di fare lo scemo Sono rotti Chiedo scusa È ancora lì Non riesco a vederla Che incredibile tecnologia Per non parlare dell'esperienza unica della cecità Ehi c'è qualcuno Come fa a non vederci più? Ma c'è un occhio libero Ma che cazzo sta facendo quel robò? Il mantello? Sì ho capito Prendiamo il mantello Va bene però Questo ci sta parlando per il culo Ci vede benissimo Dai vabbè Prendiamo il mantello va? Ehi Gli occhiali funzionano o no? Certo che funzionano Infatti non vedo un tubo Maledizione Ora che ho ritirato questo articolo Perfettamente funzionante Posso chiederle cosa ci fa lì? Ammiro il mantello dell'invisibilità È indescrivibile La odio Signori abbiamo il mantello arcobaleno dell'invisibilità Quindi direi di infilarcelo e andare Ovvio Dov'è il mantello? Devo averlo lasciato da qualche parte Perché abbiamo i ritardati? Ah no se l'è me Gli è caduto? Cosa? Era convinto di averlo e gli è caduto Oddio Non è che ci ha finito sulla scalinata del negozio Mentre uscivamo Ma com'è possibile? È chiuso la porta Si è incastrato E è rimasto lì Torniamo al negozio Perché è inciampato? Avrò calpestato qualcosa Ehi Il mantello arcobaleno dell'invisibilità Perciò è qui che l'avevo perso Facciamo che ce lo mettiamo subito Così stai insicuri Funziona Sono invisibile Che sta combinando? Siamo diventati invisibili Possiamo uscire quindi? Mettilo Dov'è il mantello? Devo averlo lasciato da qualche parte Il mantello non può uscire dal negozio a quanto pare Quindi mi viene da pensare Che il mantello serva per rubare tutto il resto Si Cominciamo Cominciamo col cappello spremitore Ah per tutta la sporcizia Non è per niente facile Quando non riesci a vederti le mani No eh Occhiali Ah gli occhiali li abbiamo presi Ma sono rotti Però abbiamo la lente Magari la lente può tornare utile Ah che altro c'è da fregare qui? Nient'altro Cosa fa questa macchina? È raddrizza banane Questo non fa altro che allungare banane Ti sembra poco? Direi che forse dobbiamo raccogliere appunto questi tre pezzi Forse quelli sono la nostra chiave di volta Vabbè usciamo va Quindi abbiamo gli occhiali indistruttibili Dell'eterna oscurità rotti Prova a vedere come si chiamano le parti Frammento sinistro Frammento destro Lente dell'eterna oscurità Prova a combinarli col cacciavite Fare cose Prima dovrei decidere da che parte mettere la lente Ho capito Dal cannocchiale laggiù ci guarda l'amico di Nod Nod era cieco da una parte E l'amico era cieco dall'altra Quindi a noi serve solo una lente Esatto Andiamo a capire Nod da che parte ci vede Allora Nod ci vede solamente dall'occhio destro Quindi l'altro lo mettiamo sul sinistro Ok Ok Torniamo al sommergibile Dobbiamo oscurare il periscopio Dovrei prima ricomporli Ah uniscili ancora Ricomponiamoli Vediamo se mi vede adesso Vai proviamoci Yes baby Ce l'abbiamo fatta E questo è all'interno del sommergibile È un po' rosa Porta dell'armadio Guarda Guarda Sembra una radio Questo cos'è? Sembrano diapositive Saranno del crimine disorganizzato Vediamo cosa stanno architettando Ma che? Sono solo scarabocchi Qualcuno le ha coperte di vernice Ma è Wink? Ci sei? Rispondi? Oh oh Wink Parla Quella voce non mi è nuova Wink Hai intenzione di rispondere o no? Sono Cletus È lui Pare sia sopravvissuto all'incidente della capsula Ma cosa avrà a che fare con il crimine disorganizzato? Lo scoprirò Cletus? Wink Ma che voce hai? Tranquillo Questa è la normale voce di Wink O forse non te ne accorgi? Piantala di dire stupidaggini Arriviamo al dunque Avete trovato la mia fidanzata? Ex fidanzata vorrei dire Parlo di Gal La mia fidanzata Ho la foto che mi hai chiesto Puoi stamparla come diapositiva? Ed ecco una foto del chip con i codici Al solito questo tipo è davvero palloso Come dici? Al solito questo tipo è davvero palloso Assurso Sapevo che avresti aperto gli occhi anche tu prima o poi Dimmi Ti serve qualcos'altro? Oh sì Un botto di cose Dove sei? Perché lo chiedi? Bella domanda Per lo scambio? Non mi viene in mente una risposta migliore Mi trovo a bordo di una nave corrotta a porta fisco In una torre di detonazione per l'esattezza Proverai le coordinate della prossima diapositiva Ma avvisami prima di venire Non credo che l'organon gradirà la tua visita Ci siamo intesi? Perché dicevi che vuoi i codici d'ascensione? Te l'ho già detto Devi migliorare la tua edizione Te lo dirò ancora una volta L'ultima nave abbandonerà Deponia tra una settimana Se entro domani non riuscirò ad avere i codici d'ascensione Non potrò tornare a Elysium in tempo E questo sarebbe disastroso Esatto Per motivi che non ti riguardano Devo informare Elysium che Deponia è disabitata Ulisses non scherza Se il mio rapporto non arriva in tempo Sarà lui a fare in modo che Deponia resti disabitata Cosa? L'organon ha i mezzi per trasformare il mare di ruggine in un enorme deserto Se domani non avrò quei codici Lanceranno una bomba dalla torre di detonazione E se ciò accadesse Verrà annientata ogni forma di vita su Deponia Questa diapositiva ne contiene la prova Ma allora moriresti anche tu? Vedo che cominci a capire la gravità della questione Dovete portarmi Gal Passo e chiudo Aspetta E ora cosa faccio? Se Gletus non ottiene i codici Qualsiasi forma di vita su Deponia verrà sradicata E se li ottiene Il pianeta intero verrà distrutto Devo ostacolare i suoi piani E per farlo ho bisogno di convincere Gal Il futuro di Deponia dipende dal mio fascino Lo chiamano Rufus Perfetto Deponia è in ottime mani Una cosa Ma sbaglio o questa è la musica di Mission Impossible? Sì Allora io ho già delle supposizioni leggendari già fatte da me Parto ridere dalla mia mente Vedi qua che c'è il proiettore per le diapositive Dovremmo usarle per convincere Gal Cioè la porteremo qua e diremo Gal guarda qua Vogliono distruggere Deponia e la convinceremo E lì forse possiamo recuperarle con le diapositive Se torniamo Ah le ha già recuperate a mano Allora Sanno già tutto loro A proposito Cos'è questo pulsante? Un gattino Kitty Deve essere il gatto del capo dei criminali disorganizzati Ti ricordi che la sfida per entrare nel crimine disorganizzato era rasare il gatto di donna? Ah Dobbiamo radere quel gatto per entrare nel crimine disorganizzato Anche se non so a cosa potrebbe servire Vabbè abbiamo un pesce lama Rasiamolo Taglia le corde perché non può radere un gattino? Un unico ostacolo mi separa dalla mia carriera come criminale disorganizzato Il pelo di un micetto E questo è un peluche Dove sarà il vero Kitty? Vabbè La troverò Cos'è? Oh oh Aia Aia Eh Gli oggetti li abbiamo ancora? Che hai fatto? Questo non piacerà affatto al capo Lo vedremo Capo Capo Arriva Come stanno i miei capelli? Perfetti Come sempre Che? Chi? Sul serio? Quella pazza è il capo? Ho beccato un intruso Ops Povera Kitty 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 Questo girino ha rasato Kitty Di lui cosa ne faccio? Proprio quello che ho pensato Ma se non ha detto niente Certo che in quanto a Tic non si può lamentare Tic Ora si che l'hai fatta incazzare Vuoi dire qualcosa prima di Ci siamo capiti? Siamo finiti in una situazione un po' di merda Cosa ha detto? Non l'hai capito? Chi mi perdona? Chi mi perdona? Lo perdonerai? Sul serio? Mi hai quasi convinto Cosa intendete fare di me? Esatto Abbi pietà di me Esatto Voglio fare un patto con Donna Forza Sputa il rospo Posso procurarti i codici d'ascensione Donna dice di no Ci le siamo giocata tutte Facciamola finita Camper Uccidiamo Rufus È l'unica E vabbè Capita Facciamola finita Preferisco una morte lenta e dolorosa Piuttosto che continuare con questa farsa Donna è d'accordo Ehi aspetta Possiamo ancora essere amici? Di addio Rufus Che gentili gli abitanti di quest'isola Cosa cazzo appena successo? Siamo usciti da un tubo Perché Rufus non è finito nella pancia di uno squalo? Anche questa volta il nostro eroe non muore Ci abbiamo provato ragazzi Stavolta eravamo quasi sicuri Torniamo al sommergibile No Ah era un minigioco Ah E perché veniva saltarlo? No Ma che donna Vedi quello che vedo io? Sembra che non ne abbia avuto abbastanza Di lui cosa ne faccio? Di nuovo? Esatto Proprio quello che ho pensato io Stavamo giocando e manco lo sapevo Quindi forse prova a fare qualche frase random Vediamo di intuire come ha fatto il minigioco Che mi perdona? Lo perdonerai? Sul serio? Mi hai quasi convinto Ah i gesti che fa lei sono Abbi pietà di me No La donna dice di no Così vuol dire invece no Ah no Ok abbiamo capito che il colpo con la testa è un no Cosa intendete fare di me? Esatto Ok Questo gesto qui che fa con la testa indicando il basso E' un Buttati Buttati Ah forse lei dice sempre le stesse cose Cioè fa Si no Si no Ah lei alterna i gesti Esatto Dobbiamo riuscire ad arrivare come risposta Del abbi pietà di me Il Si Che se non sbaglio è questo gesto qui Che fa L'occhiolino Blink Si l'occhiolino Lo riproviamo dai Voglio fare un patto Sul serio Forza Sputa il rosso Ah questo è si Ottimo Quindi adesso provo a fare e lascia stare Lascia stare Mi rifiuto di trattare con dei criminali Come vuoi Non ha fatto alcun gesto Abbi pietà di me adesso L'abbiamo sfasato di uno Ah è vero Dice no Poi E se no è no E poi dice si secondo me provaci Abbi pietà di me No Donna dice di no Di nuovo cosa intendete fare di me? Oh Prendiamoci arriviamo eh Calma Cosa intendete fare di me? Si Esatto Ok Quello Cosa diavolo significa quello scentillio? Indovina Fai la parte masochista ora E sarò cibo per gli squali? Si Yippee Quindi Il prossimo sarà un no Perché ha fatto un Impasto agli squali Poi un si E mo un no sarà Si Quindi se le facciamo Ah Facciamola finita Facciamola finita No No Vai provaci Facciamola finita Preferisco una morte lenta e dolorosa Piuttosto che continuare con questa farsa E dice di no Anna dice che no Lo perdonerai Sul serio Si Si Ora si che sono confuso Dici sul serio? Ha detto di si Hai visto? Non posso crederci Dunque Sei uno dei nostri Benvenuto tra noi Rufus Giusto Nice Ce l'abbiamo fatta ragazzi Andiamo a prendere la nostra mano regolamentare Da quale parte? Ah Per di qua Prendila prendila Finalmente La mia mano regolamentare Ora esci di lì Prima di uscire però Vorrei parlare con donna Ora capisco perché si chiama crimine disorganizzato Si sono davvero bevuti i cervelli Si L'hanno frullato Ehi donna Hai qualche lavoretto per me? Temo che dovrà attendere Va bene A posto così Torniamo alla taverna Mo giochiamo a carta forbice sasso Spank lizard Spock Spock Spank E' lo spank E' stato un parto comunque Si decisamente E ora non so perché ho l'impressione che giocare a carta forbice sasso con quello sia ancora più difficile Ma vabbè Ah caro garle Fai tempo di giocare Posso sedermi di nuovo? Ti interessa quello che dico? A dire il vero o no? Io voglio giocare D'accordo Hai le dita? Esattamente Sono due dita regolamentari Come si gioca? Da dove comincio? E' un gioco complicato Le forbici tagliano la carta La carta avvolge il sasso E la pietra rompe le forbici Ok E' indispensabile portare una mano regolamentare Qualsiasi tentativo di caricare le dita verrà penalizzato e perderai la sfida Ah perfetto Che vuol dire caricare le dita? E cosa ci giochiamo? Il vincitore di ogni sfida sceglie due dita della mano rivale Cosa? Si gioca per dita Il primo a rimanere senza dita e a perdere una sfida Perderà la partita Sono pronto Allora alza la mano Uno due tre Ehm Ok noi abbiamo quattro dita e lui ha quattro dita Perchè abbiamo quattro dita e non cinque? Non lo so Che cosa vuol dire? Start Aia Ha vinco io Devi darmi due dita Cosa? Di cosa credevi si trattasse? Avanti La mano sul tavolo Era evidente E ti avevo pure avvisato Vuoi la rivincita? Ma 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 Quelle non Cap non facciamoci domande Prova a pigiare il tuo pesce Non sto capendo Il pesce vuol dire esco il pesce sega e ti uccido secondo me Fallo Ah così abbiamo forbici Vi gioca sempre forbici E dovremmo giocare a sasso Ah quindi Tagliare altre due dita Però senza tagliare a lui No aspetta però Lui si è preso due dita nostre Quindi mo ha carta Ah E Fabrici vince Esatto Ok Ah hai capito Ma lui ha main forbici Vedo che impari in fretta Dovrò cambiare strategia No è stato forbici contro forbici Togliamo due dita Si Rats It's stuck Improvvisamente Rufus è diventato inglese Però non le abbiamo perse due dita No Usiamo il pesce lama Esatto Cosa ho appena fatto Cos'è sta roba Ah così dovrebbe bastare Forse abbiamo un po' imbrogliato Però starta ora Ehi I blef penalizzano Devi darmi due dita Ottimo Tanto abbiamo un sasso adesso Vai giochiamo a carta forbici Sasso senza dita Facile Sasso di nuovo Stai cercando di fare il furbo Ma cosa? Ok campro ho capito Ora abbiamo una mano senza dita Però possiamo aggiungerci due dita Quando vogliamo Ma lui giocherà sempre forbice Quindi teniamoci il sasso ancora Non metterle Ok Vai Gioca così Papapam Hai vinto Pensare che ho usato la mia mano fortunata Vabbè Mi resta ancora qualche dito Ah Questa non me la fai Pronto? Ok Ah Vedi il punteggio Esatto Quattro dita ne abbiamo quattro Ma lui cosa giocherà sempre? Corbici Di nuovo sasso Sasso di nuovo Stai cercando di fare il furbo Scusa L'ultima volta Sasso contro forbici Vinciamo e tanti saluti Sasso di nuovo Abbiamo vinto Con tutte le dita abbiamo Sai che ti dico? Vuol fare un altro round lui E senza dita E giocare a sasso Metti la carta Ma che facile ragazzi Ma che facile Non può essere Hai vinto Te l'ho detto Nessuno la fa Rufus A quanto pare Ti ho sottovalutato E visto che sono Una persona di parola Questa è la parola d'ordine Per bussare alla porta La ricorderai? Puoi ripeterla? Sì Ma ricorda che è segreta Perfetto ragazzi Abbiamo la password Per accedere Al nascondiglio Dei ribelli Vediamo se funziona Garle Hai già la nuova recluta? Certo Finalmente una faccia nuova Pianosce rimarrà a bocca aperta Ed è anche una donna Nessuno riderà più di noi Va bene Ora fammi entrare Ma lui Cinque secondi fa Era nella locanda È più veloce di noi Rufus Sei un fottuto lento di merda Entriamo Gal rimarrà scioccata Quando le dirò Che adesso facciamo parte Della resistenza E perché non entra? Dobbiamo andare a dirglielo Dobbiamo andare a parlare Con Gal probabilmente Che palle Siamo della resistenza Dolcezza Davvero? Certo So persino la parola d'ordine Per accedere alla base Wow E cosa aspettiamo? Dobbiamo andare da Janos Per ricevere istruzioni Scemo che arriva ultimo? Chissà quale mai Suppongo Sia Rufus lo scemo Aspetta Oh cacchio Rufus è un imbecille Potevi fermarla Era una cazzo di bambina Poteva tranquillamente Portarla da Doc Dire sì sì È qui la resistenza Te lo giuro Invece no Bisogna complicarsi la vita Doc stranamente Si sarebbe chiamato Janos Dai Ricorriamola È già entrata Penso di sì Mi sa che ci hai azzeccato Era ora Ma non ne sono Sicuro Non ricordo mai La parola d'ordine Puoi usare di nuovo Quella vecchia Non si sa mai E mo basta però Se sei uno dei nostri La conoscerai Ho una memoria prodigiosa La ricorderò di sicuro L'ho usata prima Ok No aspetta Sbagliato Che peccato Ah Non posso crederci Sì ma se io non se la ricordo Non è colpa nostra Torniamo da Garlef va Fantastica imitazione Ma concentriamoci I have to find goal Non mi fa tornare indietro Rufus English dice no I have to find goal You fucking autistic Questa la sappiamo solo noi due Sì la situazione è che capiranno in pochi E vai nella cassa Qui Entraci E Esci Uffa Non c'era niente di utile Vuoto Eccetto tutte quelle bestie Cosa abbiamo nell'inventario Un cazzo di niente Perfetto Cacciavite Questa serratura La forza in un batter d'occhio Che Non c'è la serratura Beh dobbiamo continuare a bussare Tutta Tutta No aspetta Questa non è la parola d'ordine Mi sono un attimino confuso Tutta Tutta No Non era così Sparisci Cacchio Con quella dannata musica del mercato Non riesco a concentrarmi Oh dei del suono Potete zettire quell'orribile melodia Di quale melodia sta Dei del suono Siamo noi dei del suono Ma sta parlando con noi? Veramente devo Abbassare la musica Cioè Rufus è così imbecille Che io devo mettere la musica a zero Ragazzi siamo d'accordo che è già bassa la musica Noi lo usiamo al minimo perché dà fastidio Devo abuzzittirla Eh sì perché fuori non possiamo fare altro Prova Mi sa che ci hai azzeccato Ma non ne sono sicuro Puoi usare di nuovo quella vecchia Non si sa mai Ebbene Non mi costringere a venire a cercarti Ho capito Nasconditi Ebbene Non si può fare altro Non dovevi bussare Può bastare Ora posso uscire Cos? Eh? Non c'è nessuno? Non è così Libold Ho dimenticata di nuovo Ah hai capito Possa usare quella vecchia E va bene Ma solo per chi sei tu Ci sono Che stronzata colossale Uno più scemo dell'altro in questo gioco Eh almeno ce l'abbiamo fatta Dai Rufus Giusto Certo che lo è E cosa aspetti? La porta è aperta Che? Sì voglio riattivare la musica Grazie Io entriamo Oh mio dio Ma quella è Garlef Memaviglioso Un'altra recluta E va ora Il nostro progetto rivoluzionario Suscita l'interesse e rispetto che merita Il vostro cosa? Progetto rivoluzionario Oddio Oddio Non stavai ridendo di me vero? No no Smettila Anzi no Non smettere Che la smetta o non la smetta di fare cosa? Ignoro cos'è che trovi così divertente Bravo No dai Ora sul serio Che razza di posto è questo? Il circo? E dove? Ti trovi al cospetto della resistenza vivelle Giusto Il circo c'è stato la settimana scorsa Oddio Santissimo Questo personaggio lo adoro Sai chi mi ricorda? Giulio Cesare Del film Brian di Nazareth Ragazzi Per chi non avesse visto Brian di Nazareth Non è blasfemo Me l'ha fatto vedere a religione Ma poco ci manca Io allora di religione ho visto Brian di Nazareth E proprio sento guardiamo questo finché fa ridere Salve recluta Tutto in ordine? Si dice recluta Con la R Perché io cosa ho detto? Recluta Con la R E vi fate chiamare cellula della resistenza? A me sembrate una banda di sfigati Ma quella è solo la prima impressione In realtà siamo dei ribelli terribilmente pericolosi Janos Chiedi al tuo amichetto se vuole un succo d'arancia No mamma grazie Dove proviamo? Dicevi di quanto siete pericolosi Giusto Perlomeno abbiamo un progetto E qual è il vostro progetto? Ecco ci riuniamo Chiacchieriamo Fate schifo E ci arrabbiamo immensamente contro l'oppressione dell'Ovganon E esattamente Cosa pensate di concludere facendo così? Concludere? E perché dovemmo concludere qualcosa? Beh io pensavo che facesse parte del piano del movimento antisistema Oh certo certo Ecco vedi? Certo che abbiamo intenzione di concludere Non stavo parlando dei propositi dell'anno nuovo Oh certo Fantastica questa resistenza Il vostro progetto è una cazzata Tanto per cominciare non sai neanche dire la parola progetto D'accordo Se al signorino viene in mente un progetto migliore Che lo esponga Ricerca tutte le parole con la R Cessina si impegna proprio Sono venuto a prendermi Gal Sarò chiaro? Non se ne parla È responsabile di compiti estremamente importanti È cosa? Responsabile? Ma hai le ovecchie tappate da tanta ceva o cosa? Gal deve essere operata urgentemente La resistenza richiede grandi sacrifici E se per questo subisse un danno cerebrale irreparabile Sarà un danno cerebrale che servirà per un progetto da table grande Quanto è scemo questo Non ci credo Sono spade di cartone Certo Siamo contro la guerra Da non credere Ho un progetto Ripeti Non ho capito Un progetto Un piano Ah Un progetto Mi era sembrato di sentire un progetto Ma vedo che ti definisci a un progetto Sono molto interessato Inserisci le diapositive nel proiettore di progetti Ora vado La tua letta è sopra vicino all'ingresso Viva la rivoluzione Ah prima di mettere le diapositive nel proiettore Parlerei un po' con gli altri Ok Capito? Gnavo della compa Proprio una rivisitazione di Pokémon Scouse Edition Dai Gal Non mi piace affatto come guarda Janos Il suo cervello sembra più danneggiato di questo Sembra abbia visto una madonna È tiltata Ehi Rufus Anche tu ti sei unito alla resistenza? Sai come sono fatto dolcezza Sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato Andiamo Questo posto mi annoia Ma Janos mi ha detto di restare E lui è il leader Janos è un deficiente Dice anche che bisogna essere deficienti per affrontare l'organo Allora lui è l'uomo giusto Io sarei un leader di gran lunga migliore Ma lui ha un gran piano Bah Ma se non sa neanche parlare Perché ha un problema alla lingua Dice che è una vecchia ferita Che non si è mai cicatrizzata Troppi peperoncini? 25 in un minuto Che coraggioso Noi ci dobbiamo levare proprio Sì io sicuramente Il mio piano è di gran lunga migliore del suo Sì? Lui dice che il suo è il migliore Aspetta e vedrai Emozionante Quale piano? Tra parentesi Quale dei duemila fallimentari che ha sempre voluto fare? Cosa devo fare per farti venire? Mi dispiace Rufus Finché Janos sarà il leader Non potrò andare via E dai retta ad un tipo che non sa neanche parlare I veri geni riescono sempre a farsi capire Ma no Gal Stavamo parlando di qualcos'altro Non farti tornare a casa Farti venire Mi sembrava di essere stato chiaro Ma è in gioco la tua salute Doc deve riparare il tuo chip cerebrale Janos dice che un vero ribelle Si sacrifica per il bene comune E lui? Cos'è che sacrifica? Sono sicura che darebbe la sua vita per noi Sul serio? Anche per me? Adesso? Torno subito Non preoccuparti Con Janos mi sento protetta Certo che Janos ha riunito un gruppetto niente male A dire il vero ci siamo offerti volontari Le sue incomprensibili arringhe hanno suscitato la nostra curiosità Giusto Popolo di Hoan Oddio voglio Voglio cercare un doppiace di Aragorn con la R-Mosh Discorsi epici con la R-Mosh Ho avuto uno spazzolino da denti più ribelle di voi E perché non li hai portati? Parliamo con Leibold Avete qualche programma imminente? Venerdì abbiamo un karaoke Intendevo un'azione contro l'Organon Beh la settimana scorsa Janos ha distribuito dei volantini incendiari Uh che paura Vabbè meglio di niente Peccato però che ne abbia stampato solo una copia Comunque mi sa che dobbiamo diventare noi leader Piazza delle Diapositive Diventiamo Er Capo Vufus Vufus Che succede? Da questo momento sarò io ad occuparmi di ogni cosa Volete fermare l'Organon? Anch'io Ma vi serve un buon leader Un tipo coraggioso Carismatico Certo certo E sappia parlare bene Certo Per farla breve Qualcuno che abbia il coraggio di affrontare l'Organon Senza l'aiuto di nessuno Cowboy Dodo Quello della radio locale Ha un certo carisma Parlo di me idioti Cowboy Dodo Non mi fa venire Perché credi che potresti occuparti di una tale responsabilità? Perché ho un progetto Sì 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 Diapositive Finalmente la cosa si fa interessante Guarda e ammira piccola Cos Ma cos'è questa roba? La diapositiva è troppo sporca per poter riconoscere qualcosa no? Uno stronzino Uno stronzino? Stronzino Non sai cos'è uno stronzino? Lo ignovo È come uno stronzo ma in piccolo Innovo cosa siano gli stronzini e gli stronzi in piccolo Come minchia ride? Non ce la posso fare Non permettergli di prendersi gioco di te Janosch Non ha nessun progetto Vuole solo prenderti in giro per il tuo modo di parlare No 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 Proprio per niente Volevo solo smorzare un po' la tensione con una battuta Janosch l'ha capita e sta ridendo dentro di sé Dentro di me? Certo 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 Cos'è va la macchia? Un pastrocchio Pastrocchio? Cosa vuoi dire con pastrocchio? E ti pigli sto biscotto? Sono un genio dell'umorismo No Ti prendi in giro di nuovo Rufus Non far risere È patetico Janosch è il nostro amico, idiota Non otterrai nulla insultandolo Prendi la tua roba e sparisci, forza Che c'è? Un ornitorinco vi ha rubato il senso dell'umorismo? Ah Andiamo di fare da capo? Sì Ok facciamo i seri dai Ehi Pensavo che fossimo stati chiari Non tolleriamo che ci si prenda gioco di Janosch Andiamo Il passato è passato no? Niente rancori ok? Sono sicuro che Janosch mi permetterà di presentare il mio progetto di nuovo Fosse solo perché farò di voi il numero uno della resistenza mondiale Siamo già in Umevi uno Numevi Unici Rufus Comportati bene o ti cacciamo via Beccato Sono serio Molto serio Certo, certo Cos'è va la macchia? Un'allegoria Un'allegovia? Misterioso Tutte con le R Sì E parole È enigmatico Ha qualcosa di leggendario Leggendario Sta zitto Libold E cosa rappresenta l'allegoria? Quello che saremo se non agiamo immediatamente Wow È incredibile Sì sì ma puoi provarlo Certamente Ecco a te Cos'è? Qualcosa mi dice che dobbiamo usare una frase che non contenga R Altrimenti Rufus comincia a ridere e ci cacciano Quindi la seconda Sì vai Quella che vedete è una base nemica Il cancelliere oscuro le ha distribuite su tutto il pianeta Che rabbia Ho paura Non capisco A cosa servono? Il nemico pianifica di annientare Deponia totalmente Cosa? Ma Sei sicuro? Al cento per cento È vero L'ordine proviene dal consiglio dei saggi di Elysium I poveretti non sanno che Deponia è abitata È inconcepibile Ma E cosa faremo? Lasciamo perdere i piani e attacchiamoli Attaccare l'organon Sei fuori di testa Non sappiamo neppure dove attaccare Certo che lo sappiamo Questa è la posizione esatta di una base nemica Quello è l'obiettivo Wow Ce l'hai messa proprio tutta Non ce n'erano diverse Perché questa in particolare? Se il nemico Lanciasse una bomba qui manderebbe Lanciasse una bomba qui Addio Ceno, Deponio E tutti quelli che in esso galleggiano Lanciasse una bomba qui Addio Oceano Deponio E tutti quelli che in esso galleggiano È una frase Non sopravviverebbe nessuno Perciò la nostra priorità sarà Prevenire questo primo disastro Ben detto È terribile E poi Che mi dici delle altre basi? Oddio che fatica Abbiamo un asso nella manica Abbiamo un asso nella manica I codici d'ascensione che Gal ha in testa Fin qui ho capito tutto Potresti riassumere quello che hai detto Io favò il viassunto No ti prego Sicuro? E se lo facessi io? No no Sono un mostro nei viassunti Aha Non ridere Rufus Non ridere Vediamo Prima diapositiva E quello cos'era? Una base nemica Il nemico pianifica di annientare Deponia interamente Lasciamo perdere i piani e attacchiamoli Ok va bene così Adesso interamente con la R Questa è la posizione esatta di una base nemica Se il nemico lanciasse una bomba qui Bye bye Oceano Deponio E tutti quelli che in esso galleggiano Ci siamo quasi Abbiamo un asso nella manica I codici d'ascensione che Gal ha in testa Hai capito tutto? Bravo È tutto perfetto Ma a cosa ci serve? Gal è arrivato a Deponia accompagnando un ambasciatore Eliseo I suoi codici attivano la nave di porta fisco Che dovrebbe riportarli a Elysium Che è dove andremo io e Gal per annunciare che Deponia è abitata E dovremmo andarci il prima possibile Ovvio Devi convincere il consiglio dei saggi Quando sapranno che Deponia è piena di dolci Deponi Non vorranno più tirare le bombe cattive Ma perché dovresti andarci proprio tu a Elysium? Perché sono identico all'ambasciatore Non ci credo È la pura verità Rufus e Cletus sembrano gemelli Che strana coincidenza Meglio ancora La nave di Argus è ormeggiata nella base che vi ho mostrato La sua missione è portare Cletus e Gal alla nave di porta fisco Nel corso dell'attacco io e Gal approfitteremo del caos per confondere Cletus E solo allora lo sostituirò Cosa ne dite? Siete con me? Sembra rischioso Ma è la nostra unica opportunità Il mio progetto è o non è una figata stellare Hashtag figata stellare Forte Lei vuole già succhiarcelo Sì Lunga vita Vufus Il nostro nuovo leader Urra Facile Sì Hai piccola Ci dai bacetti sulle guance Rufus sei il migliore Hai fatto passare Janos per un perfetto idiota È la mia specialità piccola E ora? Credo sia arrivato il momento dell'operazione È un po' triste Mi sentivo felice senza la pressione delle altre due Credo che potrei abituarmi ad uscire con tutte e tre Rufus Che c'è? Mi piace ogni cosa di te Dolcezza L'hai espresso molto bene Mi dai i chip? Mi mancano le altre due Ci vediamo nel laboratorio di Doc Quindi l'abbiamo rimorchiata senza l'aiuto di Leo È pazza di me Pensavo di vederci qualche episodio in più Che succede? Janos Ssh Vufus Sto cercando di sentire Che fanno questi? Non lo so Di sentire cosa? Che ci fai qui? Ecco vedi? Stiamo per vubare i chip Un attimo Quei chip contengono la memoria della mia ragazza Rufus Gal è un membro della Resistenza E si sacrificherà Per la rivoluzione Ma cosa vi siete fumati? Sfortunatamente Un'altra organizzazione Vuole avere i codici del suo cervello Donna? Certo Il crimine disorganizzato Si è creato una base nel laboratorio di Doc Hanno preso Gal in ostaggio E vogliono sottrarle i codici As soon as the clock strike the full hour We will just turn the premises In realtà Sava Gav le fa ad attaccare Noi manteremo la posizione Cosa? È una follia Vero Vi massacreranno Mi massacreranno Massacreranno Martirio Sacri La morte in servizio È un regalo Per i ribelli Rivoluzionario Per ora non morirà nessuno in servizio Di sicuro mi verrà in mente un piano alternativo Di sicuro ci verrà in mente un piano alternativo Ci dovrà venire in mente un piano alternativo Persino Venzel intimidiva più di questa banda Vinca ma te lo ricordi Venzel? Ehi Garlef Ciao Morte all'Organon L'Organon? Pensavo tu stessi lottando contro il crimine disorganizzato Devi guardare la cosa nel suo insieme È tutto collegato Basta solo fare due più due Se fossi in te io mi legherei i lacci Oh grazie Ciao Libold Ehi Rufus Come va l'assedio? Non male La cosa è un po' statica no? Sì E abbiamo pure finito il popcorn E io ho idea che dentro non ci sia più nessuno Ti è venuta in mente un'alternativa? In caso contrario entreremo nel laboratorio Pazienza D'accordo Aspetteremo Ma il nostro inventario? Ci hanno derubati What the fuck? Ho passato 14 episodi a riempirlo E mo' è vuoto Perché? La cosa mi urta e non poco Proviamo a entrare noi Cosa fa vai? Entrerò Ma il busto è pieno di membri del crimine disorganizzato Tranquillo non sono un problema per me Anche perché fino a prova contraria Rufus mi fa parte Apritemi sono Rufus Sì? Yuhu Posso entrare? Non c'è bisogno Presto userai il portale Ma prima devi farmi un favore Prendi Un altro telecomando? Sì per Libold Non è come gli altri ma Ehi Ora so come funzionano i telecomandi Certo come no Libold è quello grasso vero? E che non ho visto nessun chip So che ce la farai Quando avrai finito attraversa il portale E ti spiegherò ogni cosa Cosa? Quale portale? Fidati di me E non dire nulla a Janos Che tra parentesi è di che ascolta Che diavolo è stato? Allora a quanto pare Rufus del futuro c'è dato un telecomando Telecomando di Libold La voce enigmatica mi ha detto Di attraversare il portale Dopo aver usato il telecomando di Libold Ma era un altro Rufus? Ma cazzo sì Il doppiatore è quello Ah io non mi ero riconosciuto Usiamo il telecomando quindi Vorrei sapere a cosa servono Tutti questi pulsanti Premerò quello più grande Per scoprirlo Adesso gli fai spottere la testa Voilà Guarda Ho completato una missione importante Ci riuscirebbe persino una scimmia Che palle What the fuck? Corri Oh shit Era ora? Solo perché arrivi dal passato Non vuol dire che tu non debba avere fretta Eh? Letus? Non essere ridicolo Sono il Rufus del futuro Questi portali sono inclinazioni temporali Benvenuto al domani Dan 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 Lo chiamano Rufus Ehi questa musica è mia Ora non più Io sono molto più saggio e moderno di te Ah sì? Oddio Non si capisce niente Che cazzo sta succedendo? Ci mancavano solo i paradossi E avere due Rufus Uno non bastava? E io sembro molto più giovane Ecco Cosa dici moccioso? Vuoi che ti sculacci? Sei suscettibile nonnetto? Dico solo le frasi necessarie per impedire un paradosso temporale Sì certo sarà quello che dici a tutti Oddio Il mio io del futuro? Che scemenza Per tutta la sporcizia Quant'ero imbranato allora Nemmeno Rufus sopporta se stesso Perché dovrei sopportarlo io? Arrenditi Cletus Non sono Cletus Vengo dal futuro E tu sei un modello obsoleto Come mi hai chiamato? Mi hai sentito? Voglio delle prove Qualsiasi cosa Pur di farti chiudere il becco Una semplice prova Sarà sufficiente per metterti in ridicolo O mettere te in ridicolo Esatto A cosa sto pensando? Ovviamente le curve di Gal Ma tutta la vita Aspetta Ora ricordo Stai pensando a Zlii Bli Zublu Ah neanche lontanamente Zibli Zublu Non ha alcun senso Impostore Deficiente Ho dovuto dirlo per impedire un paradosso temporale Sì certo Ammetti che ho ragione Perché? Non stavi davvero pensando a Zli Bli Zublu In realtà stavo pensando Non se lo ricorda Che c'è Rufus del futuro? Te l'avevo detto Possiamo continuare adesso? Devi entrare là dentro e salvare Gal Sta bene? Tranquillo Wink e Nod sono fuori combattimento È andato tutto liscio con tutti e due Non mi sono neanche scompigliato i capelli È proprio vero che sei me E come ho fatto? Tra poco lo saprai Nel frattempo mi occuperò dei ribelli Wow È reale? No È un'allucinazione futura Certo che è reale Posso provarla? Ora no Devi tirare fuori Gal dal laboratorio Ma io voglio la mitragliatrice Non potremmo saltare questa parte? Che modino A meno che non vogliamo provocare un paradosso temporale Non mi importa voglio la mitragliatrice Santa ferraglia Se ti dessi la dannata mitragliatrice Altererei il flusso temporale Io sparirei nel nulla E tu dovresti ricominciare dal tutorial Nooo No 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 Non sia mai Dammi subito la mitragliatrice Egoista Qui l'unico egoista Sei tu O per caso hai già salvato Gal Se mi dai la mitragliatrice Lo farò con molto piacere Te la darò non appena avrai salvato Gal Perché non ci vai tu a salvare Gal Mentre io mi occupo dei ribelli? Credimi L'hai già fatto prima E se mi ascoltassi L'avresti rifatto nel tuo spazio temporale Sì certo Io ci sono arrivato al primo colpo Anch'io Che casino Non sto capendo niente Secondo me bastava non comparire Ho questa impressione Perché non lo fai tu? Perché ho cose da fare qui E perché non posso farle io? Perché non hai la mitragliatrice Vabbè D'accordo salverò Gal E lo farò molto meglio di te No Fallo bene quanto me A meno che tu non voglia tornare al tutorial Rufus Ok ok E poi mi darei la mitragliatrice Non è vero? Sì Attraverso il portale Ah già E datti una mossa L'orologio sta per segnare l'ora E poi entreranno i ribelli Che palle Doc Gal Siete vivi Che succede lì? Rufus Cosa ci fai tu qui? Niente Ammazzo il tempo Cavategli gli occhi Tranquilla capo È dei nostri Dimmi Cosa ci facevi nell'armadio dell'amianto? Ecco Non trovavo il mio spazzolino da denti E sono rimasto chiuso dentro Fai attenzione Rufus In quel modo ho perso due zie Già che ci sei Devi aiutarci Alcuni estremisti stanno cercando di sottrarci i codici di ascensione Se non se ne vanno in fretta Dovremmo farci strada a suon di colpi Tabula rasa Sparate a tutto spiano Aspettate ho un piano E cosa state aspettando? Ok È comodo stare con un piede in due scarpe Mi sembra un po' diversa Si è tagliata i capelli? Ah no È legata Potrebbe trovarla più sexy Gal Rufus Devi tirarci fuori di qui Ci sto provando E fai in fretta È tutta colpa tua Tanto per cambiare Ha parlato la gal raffinata In questo momento vorrei tanto il mio lato violento Cosa è successo qui? Sono spuntati dal nulla Doc ha cercato di proteggermi Ma non ha potuto fare nulla Eravamo uno contro tre E loro erano armati Stai bene? Non ci vedi? Ci stiamo godendo il picnic Ma dai e i pancake? Era una battuta Non so E beh Questi pancake Coglione Demente Non andartene Non pensare nemmeno di mettere quella roba Mi hai rimesso la benda Che duro Per l'ennesima volta dipende tutto da me Ah noi eroi siamo fatti così Storti? Stai bene doc Ah già scusa Meglio? Sì Molto meglio Allora posso andare? Beh Ci farebbe comodo un aiuto Capisco Cosa è successo? Sono spuntati dal nulla Beh in realtà sono entrati dalla porta Ci hanno imbavagliati E tutto per quei maledetti codici d'ascensione Dici Sai com'è? Mi hanno chiesto dove sono i codici d'ascensione Ho cercato di spiegare loro che non possiamo darglieli adesso Ma non mi hanno ascoltato E che facciamo? Siamo nelle tue mani Rufus Stanto per cambiare Magari Gal ha qualche idea Penso che le mani di Gesù siano più sicure di quelle di Rufus E Gesù ce le ha bucate non vorrei dire Credi che donna avrà un chip cerebrale? Sì Gliel'ho impiantato io stesso Perché? Credo di avere un'idea Non vuoi sentire un secondo parere? Non è che hai un telecomando per donna, vero? Certo che sì Come ho fatto a non pensarci prima? Deve essere in quel cassetto lì Ma dovrai avvicinarti a lei per farlo funzionare Lascia fare a me Perché ho scelta? No Interessante Abbiamo quindi un piano d'azione perfetto Voglio provare una cosa Incrocerei le dita ma mi viene un po' complicato Tranquillo Doc Ehi ma che... Ma cosa? No no è giusto Apriamo sto cassetto Posso? Grandioso Ciò ci acconsente Eh madonna Un po' di telecomandi qui Altri due telecomandi Forte Vediamo Qui c'è scritto donna E l'altro? Ma guarda È quello che mi ha dato il Rufus del futuro Quello che comanda Libold È ovvio che ho un piano Ma non so ancora quale Abbiamo due telecomandi di Libold quindi? No Solo uno Ok Parliamo un po' con i due fratelli qui Avete un piano? Certo Ed è già in atto Abbiamo un obiettivo In teoria Fantastico E come intendete uscire di qui? Donna sta analizzando la situazione Ottimo piano Sì signore Ehi donna Sta pensando Davvero? Sarebbe la prima volta Cosa hai detto? Eh sembra un po' sconvolta Sì Ho fame Siamo in tre È fantastico come sia capace di girarsela come vuole la frase Rufus Dai Attiviamo il telecomando Per tutta la sporcizia A quanto pare senza chip non funziona Eh Potrebbe essere un problema Che devo fare? Proviamo a uscire dalla porta principale? L'anticamera? Sì Dove vai? Donna non vuole correre rischi E allora come faremo ad uscire da qui? Donna dice di affidarci alla nostra superiorità morale E questo me lo chiami piano? Che? Che ha detto? Un piano infallibile Ok non ci vogliono far uscire dall'ingresso principale Ergo Ripassiamo da qui Dove siamo venuti Dove credi di andare? Devo trovare lo spazzolino da denti Potevi cercarlo prima Giusto Errore mio Ah Siamo fottuti Siamo bloccati qui? Già Questo è il telecomando di Leibold? Sono davvero una volpe? Pss Gal Rufus Ho trovato questo telecomando Credo sia di donna Quindi? Vedi se mi prestassi il tuo chip solo un momento Oddio Scordatelo Cosa hai intenzione di fare Rufus? Oddio Sì l'hai capito Vuole scambiare le due tipe Dammi il chip dai ti prego Stai lontano Rufus È tutto il giorno che giochi con la mia mente E c'è un limite a tutto Non riesci a smettere di pensare a me vero? Ti odio In realtà potrei prendere il chip e basta Ti avviso Rufus Che mi fai se lo faccio? Tanto per cominciare ti stacco le dita con un morso Ti stai facendo? Hai un buco nella trachea? No Ne vuoi uno? Ne vuoi Ma guarda Doc ha una bottiglia di champagne Dove? Spiacente piccola Un giorno mi sarai grata Povera Gal Combiniamolo con il telecomando di donna Eh ma usiamolo Ehi Che sta succedendo? Eh? Ma che? Ah lo vedo Anche se solo da un occhio Chissà se influirà sulla mia mira Non farlo Oh bene Sembra non influisca Oh mio Dio Magale è fenomenale Perché l'hai fatto? Avevi un'idea migliore? Sì Troppo tardi Bene Una preoccupazione in meno Ora dobbiamo solo sottomettere i ribelli E comincio a sentire l'ispirazione Sta per arrivare? Ne sento l'odore Il piano infallibile sta per atterrare sulla mia testa Tu e i tuoi piani Piccola lo so che adori il mio lato intrepido Mi sa che mi confondi con la Gal Spavalda Ora che lo dici Ma certo Ho ancora il telecomando di Libold Le cose cominciano a combaciare Il mio io passato inserirà il chip della Gal Spavalda in Libold Si occuperà di Janos mentre io mi occuperò di Garlef E così ancora una volta Rufus trionferà Di che diavolo stai parlando? Non possiamo semplicemente uscire da dove sei entrato? No Non voglio provocare un paradosso temporale E ancora meno tornare al tutorial Come dici? Poi ti spiego Devo trovare il chip della Gal Guerriera Prendi Credo che questo ti piacerà Sei incredibile Ora fidati di me Tu libera gli altri Io mi occuperò dei ribelli Non senza aver prima preso la mia mitragliatrice E io? Mi tocca il telecomando di donna? Se così sei contenta Le abbiamo dato il suo telecomando Così si può autocomandare Esatto Non l'idea migliore forse Sta diventando un bel mind trip Un bel trip Un bel trip si Prendi la mia mitragliatrice Dai che così almeno non rompe le palle Uno e due Oh yes Finalmente sei mia Ed ora chi è il più figo eh? Ha! Sfigato del futuro Abbiamo un palanchino Comunemente chiamato come piedi di porco Ma vabbè Signori Penso ci tocchi attraversare il portale Ops Che sta succedendo qui? Ancora tu Chi altri se no? Ehi ma Quello è il nostro futuro? Rufus Detesto dovertelo dire Ma Non abbiamo un futuro Dici? Fidati dello zio Rufus Lui porterà il futuro What the fuck? Perché lui Ha un piano Ah Abbiamo sbloccato un achievement Preparadosso Penso fosse un easter egg questo Andiamo all'anticamera Ehi Apritemi Sono Rufus Oh oh È il Rufus del passato Oddio Devo aprirgli Non voglio interferire con la causalità Guardi a fare la stessa cosa che vi ho fatto prima Oh mio Dio Sì Uh Yuhu Posso entrare? Non c'è bisogno Presto userai il portale Ma prima devi farmi un favore Prendi Un altro telecomando Sì per Libold Non è come gli altri ma Ehi Ora so come funzionano i telecomandi Certo come no Libold è quello grasso vero? È che non ho visto nessun chip So che ce la farai Quando avrai finito Attraversa il portale E ti spiegherò ogni cosa Cosa? Quale portale? Fidati di me E non dire nulla a Janosch Fortuna che ho una buona memoria fotografica Il minimo errore avrebbe alterato il flusso temporale Ma Ora che si fa? Hmm Nessuno dovrebbe vivere nel passato Oh santi i nomi Nessuno dovrebbe vivere nel passato Attiviamo il marchigegno? Sì Forse con il palanchino? Sì mettilo in mezzo Forza Esatto Forte E ora? E ora arriva Rufus Eccolo Era ora? Solo perché arrivi dal passato Non vuol dire che tu non debba avere fretta Eh? Letus? Non essere ridicolo Sono il Rufus del futuro Questi portali sono inclinazioni temporali Benvenuto al domani Dun 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 Che casino Lo chiamano Rufus Ehi questa musica è mia Ora non più Io sono molto più saggio e moderno di te Ah sì? Tutta questa parte l'ho già vista Basta Una semplice prova Sarà sufficiente per metterti in ridicolo O mettere te in ridicolo Esatto A cosa sto pensando? Alle curve di Gal Aspetta Ora ricordo Stai pensando a No Non dirlo Non dobbiamo dirlo Facciamolo Facciamo il casino camper Ragazzi Se diciamo Slable Zo Bole Ricomincia il paradosso Sì esatto Quindi Continua a fare il solito loop Se diciamo le curve di Gal Magia Dai raga Famolo Le curve di Gal Risposta sbagliata Non sai niente di me Io non ho mai Wow Che è successo? Stai bene Hai provocato un paradosso temporale Buono a nulla Santa ferraglia Fa male Oh shit Ci siamo appena uccisi Posso entrare? Oh oh È il rufus del passato Devo aprirvi Non voglio interferire con la causalità Grazie Grazie Ciao Guardino Andiamo avanti veloce Ok Ok rieccoci qua Zli Bli Zublu Ah neanche lontanamente Zibli Zublu Non ha alcun senso Impostore Deficiente Ho dovuto dirlo per impedire un paradosso temporale Sì certo Ammetti che ho ragione Perché Non stavi davvero pensando a Zli Bli Zublu In realtà stavo pensando Che c'è Rufus del futuro? Te l'avevo detto Possiamo continuare adesso? Devi entrare Entrare là dentro e salvare Gal Sta bene? Tranquillo Wink e Nod sono fuori combattimento È andato tutto liscio con tutti e due Non mi sono neanche scompigliato i capelli È proprio vero che sei me E come ho fatto? Tra poco lo saprai Nel frattempo mi occuperò dei ribelli Ah ok Wow È reale? No È un'allucinazione futura Certo che è reale Posso provarla? Ora no Devi tirare fuori Gal dal laboratorio D'accordo salverò Gal Allora da un momento all'altro Si avvicina il momento Presto scoccherà l'ora Si avvicina sempre di più Ma che cazzo sta guardando? Coraggio Suona una volta per tutte Che cazzo? E va ova L'ovologio segna l'ova Giusto in tempo Gaflet È arrivata la tua grande occasione Sicuro? Stavai fortunato A tasto carte fobbi Ci vinci sempre Covaggio Entra nella storia Rufus Cosa ci fai qui? C'è stato un cambio di programmi Gal non consegnerà i codici d'ascensione Ti stai ribellando contro i ribelli Da che parte stai? Io sto sempre con i vincitori Vabbè Quasi sempre Ma che È intasata Che sfiga Oh no Cass Rufus Perfetto Vedo che ti sei arrangiata da sola Vieni con me La cosa non finisce qui Aspetta Gal Non abbiamo tempo per quello Non dovremmo aspettare che ti sia ripresa Da Perché no No Che schifo Che schifo Una rasatura non ti farebbe male Me la svigno Che schifo Ce l'ho fatta Te l'avevo detto che l'avrei fatto Doc Cosa fai ancora in questo stato? E Gal Se n'è andata È fuggita verso il futuro tramite il portale Ha fatto cosa? Vabbè non importa La Gal Spavalda è fuori nel corpo di Libold Farà ragionare il suo lato raffinato Rufus Quello era il chip che uso Per pulire le testine della mia videocamera Le altre parti di Gal Sono ancora nella macchina E Libold non ha il chip Allora questo telecomando a che serve? Ma che vinciamo a Limonati Libold per sbaglio? Sì sì Proprio per sbaglio Oh Questo vuol dire che Sì Sembra conteggiato Vabbè una piccola crisi d'identità Ehi Gal perché lo fai? Mi spiace Rufus Temo ci sia stato un cambiamento di programma Cosa? Vuoi cambiare il mio piano? Sì È complicato Come ogni cosa che ha a che fare con te Rufus Non fai altro che seminare il caos Ed io non sono fatta per questo Devo andare Andiamo Gal Apri Non ci provare nemmeno È sigillata Devo trovare Cletus E il nostro viaggio ad Elysium? Non dovevamo salvare il pianeta? Sono piani inconsistenti Rufus Non puoi rovinare tutto e pretendere di essere un eroe Certo che posso Lo vedi? Sei una calamita per l'impossibile Non sarai mai soddisfatto Non puoi venire a Elysium Rufus Perché Deponia è dentro di te Addio No aspetta Quindi C'è una parte di Gal Che è la parte raffinata Che non vuole salvare Deponia Il mistero si infettisce Ma Cletus è un idiota Cletus non è una cattiva persona Rufus Non è peggiore di te o di me Sono mille volte meglio di quel moccioso Non so che ti piacerebbe esserlo E ho perdonato per aver frammentato la mia mente Per avermi mentito Per avermi messo in pericolo continuamente Ora devi essere tua per donare me Importanti argomentazioni Sì esatto Cioè in poche parole io ho sofferto molto per causa tua Ora soffri un po' tu Muori Ciao Ti faccio esplodere la casa È l'operazione Davvero te ne andrai senza due terzi della tua personalità Che importanza ha? Non voglio essere assalita dai dubbi un'altra volta Ma dovevamo salvare il mondo insieme Forse questo era il programma per le altre due mie personalità Ma io non sono né avventuriera né idealista Voglio solo andarmene a casa Voglio venire a Delisium con te Davvero Rufus? Credi che sarai felice? Quando ci sarai riuscito Senza nuove avventure? Né piani? Né dubito fortemente? Beh Potevo rispondere L'erba voglio non esiste manco nel giardino del re E l'avrebbe spento lì Invece no Le classiche frasi della serie Ma lo faccio per te perché ti amo troppo Non saresti felice Ti lancio una bomba nucleare a casa ma è per amore Non capisco quale sia il problema Perché non possiamo salvare Deponia e andare ad Delisium? Perché una cosa esclude l'altra Rufus Non è vero So che posso farcela Rufus ti sei mai chiesto perché vogliono far saltare Deponia? E questo che c'entra? C'entra c'entra Elysium non è quello che credi È solo una nave pensata per abbandonare Deponia La sua destinazione sarà Utopia L'unico pianeta abitabile della nostra galassia Ma Utopia è lontano E l'unico modo di generare l'energia necessaria per catapultare Elysium Finley È distruggere Deponia Cosa? Elysium è una nave spaziale? Lo capisci adesso Se Deponia non venisse distrutta Elysium cadrebbe di nuovo sul pianeta E non possiamo vivere per sempre senza una dimora E Deponia non sarà mai una dimora Interessante Si svelano un botto di cose Perciò Elysium è una nave spaziale Proprio così Fu costruita per evacuare Deponia Ma non c'era posto per tutti Un po' come l'arca di Noè E Utopia cosa ha di speciale? L'erba è verde Il cielo è azzurro L'acqua è limpida In definitiva non è Deponia E perché sta succedendo tutto questo adesso? Elysium non fu pensato per galleggiare nell'atmosfera per sempre E l'organo non aveva bisogno di tempo Per costruire abbastanza torri di detonazione per distruggere Deponia Il momento è arrivato Rufus Elysium deve decollare Altrimenti cadrà sul pianeta E se a Elysium scoprissero che su Deponia c'è vita? Non lo so Rufus Voglio credere che fermeranno la detonazione Ma comincio a dubitarne Ora comincio a capire Ma... Ma cosa? Ma non riesco a capire Ci deve essere un modo Ci sono solo due vie Rufus Una porta a Elysium E da lì a Utopia L'altra finisce qui a Deponia Se sopravviviamo Io ho già preso una decisione Portami a Utopia con te Gli lasceresti distruggere Deponia? Tu non sei così Rufus In fondo sei un buono Anche se lo sanno in pochi E se la distruzione del tuo pianeta non ti importasse Saresti forse migliore di Cletus Insomma Fatti esplodere qua su Deponia Lo rompere i coglioni Ciò da andare Al diavolo Deponia Io voglio solo stare con te Non lo credi davvero Rufus Ma lo saprà lui o no? Allora salviamo Deponia insieme Te l'ho già detto Rufus Salvare Deponia vuol dire condannare Elysium al crollo E io non voglio vivere in una discarica Credevo l'avessi capito Sarà dura ma possiamo farcela Rufus ormai è deciso Mi dispiace Sarà dura ma possiamo farcela Quel vaso andava portato in sangue Ci deve essere un modo di ottenere entrambe le cose So che posso sistemare tutto No Come hai sistemato me? Ti chiedo solo una seconda opportunità L'hai già avuta Rufus E anche Deponia l'ha avuta Ci sono cose che non si possono sistemare C'è Mastercard Tieni pure i chip Contengono solo ideali assurdi Autopia non ne avrò bisogno E ora devo andare Buona fortuna Rufus Ma Che donna Ti sei bevuto il cervello? Ci farà fuori tutti Ma è così affascinante Hai codici d'ascensione Rufus Dobbiamo fermarla Ma siamo rinchiusi Tu liberami e ci faremo venire in mente qualcosa Siamo 13 seghe circolari Sì È il momento di mettere a punto un nuovo infallibile piano Dai è così Ah pure canzone di cambio scena? Ah mi sa che stiamo arrivati a metà del gioco eh Metà ma sarà la fine? A volte il destino Non è un telemeschino Per quanto ti sforzi ti ostacolerà L'amor che sembrava Lui è il gondoliere Sì Non era morto Sì esatto La fuga si dà Ma Rufus è un duro Anche se spalla al muro Non mollerà mai Non sa come si fa Un vero campione Non si arrenderà Ed ogni pronostico Sovvertirà Un rave dai vincerà Oserei dire Evocativo Bucolico Però un po' meno Dissolvenza in nero Come siamo usciti? Vabbè Cosa? Perché torno indietro? Che sta facendo? Sta facendo Vufus Vufus Ha preso il mantello Ha preso il mantello Vufus Pronto per l'inseguimento? Ehm Janos Abbiamo poco spazio e Certo Posso capire Mi piacerebbe molto Lottare al fronte con te Gomito a gomito Ma devo compiere il mio incarico Andrò a Porta Fisco C'è un altro gruppo ribelle lì Farò in modo che uniscano le loro forze alle nostre Opereremo proprio sotto il naso dell'Ovganon Che te ne pare? Ehm In bocca al lupo Grazie Ve vai a trovarci a Porta Fisco Le truppe vorranno conoscere il nostro leader spirituale Vedremo Avrai bisogno di questo Cos'è? Abbiamo cambiato la password Quella vecchia era una cretinata Certo Era ingegnosa da ricordare Devo andare Janos La ventuva attende Sì Che tu chiuda il becco Era ora Così non riusciremo mai a raggiungere il sommergibile Non è colpa mia C'era un mendicante che non mi lasciava in pace Dove andiamo? Il mio io di donna ha parlato di Porta Fisco Proviamo ad andare lì Dovremmo cercare di individuare il segnale del sommergibile Se non ricordo male c'è una torre di comunicazione sull'isola Wachit Forse potrei manomettere il suo trasmettitore In modo che il nostro sonar riconosca il segnale del sommergibile Per allora donna sarà già andata via Io andrei all'isola Wachit Bozzo è il capitano E anche lui vuole andare a Porta Fisco, non è vero? Non ci voglio entrare nei vostri traffici Per me potete andare persino al polo Ah, basta Sarò io a decidere la nostra meta Rufus Quelli non sono i comandi È il mio depilatore per il naso Allora, dove andare? A Wachit o a Porta Fisco? Gal dice che Io nel corpo di donna Ha parlato di Porta Fisco Ma io mi fiderei più di Doc Che dice di andare a Wachit Ah, però non vedo Wachit in tutto questo Ci sono due destinazioni sconosciute E Porta Fisco Mi sa che il gioco ti sta consigliando di andare lì Anche se magari Wachit è questa cosa alta Visto che sarà un osservatorio, un faro Wachit Sì ma potrebbe essere anche un peni gigante Potrebbe essere una trappola Evitiamo i peni giganti? Andiamo a Porta Fisco, va? Oh mio Dio Troppo veloce Il mio fisico non lo regge Uno all'ora Gal, non scappare Perciò questa è la vecchia capitale della regione Che porcile Beh, un po' come tutto il resto di Deponia, no? Porta Fisco Tutti scappati perché c'era la finanza Che andava a fare il giattore delle tasse E fare le multe Ehi Gal, tutto ok? Mi annoio Che ne è stato dell'appassionante avventura che mi avevi promesso? Il fatto è che a volte dico cose tanto per Non conosci? Onesto perlomeno Ma lei è la Gal bambina o la Gal tosta? O entrambe fuse? Non lo so, forse è un mix Perché sicuramente non mi sembrava la bambina da come si esprimeva Ma neanche quella tosta Forse è due terzi di Gal Penso di sì Cos'è questo odore? Non sarai tu Credo sia quel tipo laggiù Eh, questo è quello che avrei detto io al tuo posto Per non farti pensare che fossi tu Io? Il mio odore è buonissimo Ah sì? Sì E quello là dietro Per una volta devo darti ragione Questione risolta Puzzano tutti ma è comunque colpa sua Che ci fa un barbone? Cioè, cosa ci fanno tutti questi barboni? E questa cosa è una prostituta? No Sì Ragazzi ma Siamo finiti nel bordello di Deponia Chi vivrà in quella tenda? Qualche folle Sì, vedo che ce ne sono in abbondanza da queste parti La media è di tre per peschereccio Bozzo Doc Rufus Eh sì La media è confermata Di Donna Gal nessuna traccia Beh, io non ti vedo poi così preoccupato Sto riflettendo sulla prossima mossa Non puoi farla e basta? In realtà quella è la mia specialità Ma stavolta voglio fare le cose per bene Bene mi annoia Allora facciamo una pazzia Spero tu sappia quello che fai Dai, ok, dove andiamo? Se non sbaglio a porta fisco c'era anche la tana dei ribelli Ce l'aveva detto Janos, no? Sì Sembrerebbe l'entrata lì sotto, occhio E abbiamo pure il codice segreto di entrata Sì, ce l'abbiamo Più, meno, più Non chiedermi cosa significhi Oh no Non dirmi che è da decryptare Ma no, sono tre segni, camper Cosa vuoi che sia? Dai, andiamo giù Uno straccione puzzolente Salve cittadino caduto in disgrazia Era necessario Non si dice così al giorno d'oggi O preferisci pidocchioso senza tetto Chiamami Goon E se vieni per prenderti il gioco dei senza tetto Sarà meglio che te ne vada Tranquillo Sono amico del piccoletto Piccoletto? Sì, si chiama Wenzel Di che stai parlando? Ah, scusami Sto usando un registro troppo elevato Per un membro della classe più svantaggiata Ma so anche parlare come voi No, non farlo Come butta, zio? Piantala, ti prego Non sono nato per strada Sono un accademico io Ah E questo è un esperimento sociale, non è vero? Ti vesti come loro per studiare le loro abitudini Ah, proprio così Molto astuto Per poco non me la bevevo L'odore però ti è venuto da Dio E anche le maniere Ti aiuterò se rispondi a qualche domanda Ma... Coraggio, amico Sono un esperto in sporcizia Insisto Il senza tetto è chiaramente un laureato Solo che al McDonald's non l'hanno preso Sembri affamato? Lo sono Sono mesi che non mangio altro che alghe Nient'altro Vedo che ce la metti tutta Ma senza tetto non è la stessa cosa di patetico Cosa mangiano gli accattoni? Quello che trovano Risposta sbagliata L'altro giorno ho mangiato la crosta di un cerotto che ho trovato nella spazzatura Ho detto risposta sbagliata Gli accattoni mangiano scarpe Che? Scarpe, lo sanno tutti Ma come? Hai ancora fame? Sì Hai qualcosa da darmi? Bravo Le suppliche donano un tocco di realismo Ma ho fame davvero? Non strafare Poi ti spiego come mangiare una scarpa Che schifo Che puzza Ah, scusa Sei tu Hai esagerato un po' eh? Non è che tu profumi di orchidee Ehi, attieniti al personaggio Un senza tetto non sa nemmeno cosa sia un'orchidea Quell'ombrello è tuo? Non ti avvicinare È l'unica cosa che ho Tranquillo, non voglio portartelo via Farò solo qualche ritocco Sembra troppo nuovo Beh, l'altro giorno l'ha colpito un fulmine Molto meglio Ma in questo modo non mi riparerà dalla pioggia Non essere così ingrato Ti sto dando una mano Ci siamo rubati la tela dell'ombrello? Non so Non è che per caso hai visto un sommergibile, vero? No, mi spiace Ho lasciato l'attrezzatura da immersione nella casa in campagna Da, un attimo Tu non hai una casa in campagna Ah, quello era sarcasmo Cosa sai dirmi di portafisco? Cosa vuoi sapere? Chi vive in quella tenda? Il veggente dell'isola dice che è capace di prevedere il futuro Ah, sono sicuro che non sa predire la caduta del mercato immobiliare Non sottovalutarlo Dicono che sia capace di indovinare persino i numeri della lotteria Anche se pare che non gli andasse granché bene Ora si dedica alla terapia di coppia Grandissimo indovino Il migliore Sai dove si trova la base segreta dei ribelli? Certo, nelle fogne Lì troverai l'entrata No, dico quella segreta Questa è l'unica che conosco Molto segreta mi dicono, eh Comunque ci avevi azzeccato È proprio nelle fogne Entriamoci, dai Questo posto mi deprime Ti capisco A me ha sempre fatto lo stesso effetto Sì, ma tu non sei importante Ti annuso dopo Certo, zio Quindi direi di entrare Sicuro c'era il minigame infame Ossante i nomi Che è tutta sta roba? Un deposito? Vuoto Figuriamoci Botola È una fessura ideale Per gli invertitori di energia Oddio Ritorno gli invertitori di energia Ma veramente Ma basta È una turbina vecchia Quello che avrei potuto fare io Con quella turbina Elysium Arrivo Sì Credici E questa penso sia L'entrata segreta Del rifugio dei ribelli Sì? Sono io Rufus No Non lo sei Se lo fossi Sapresti la parola d'ordine Infatti la so È vero o no Che comincia con la N? Quasi Oh no Bussiamo oppure Tu bussa Parola d'ordine sbagliata Ma no Per tutta la sporcizia Uffa Possiamo solo bussare Ah puoi confermarlo Ah Più meno più Vuol dire che devi fare Un numero Un numero in più Un numero in meno E un numero in più Riproviamo tre Ok Tre battiti Confermiamo Ah C'era un messaggio che non riesci a leggere Perché è troppo veloce È toc toc il messaggio Ah ok Ora Più Quindi facciamo quattro Confermiamo Sì Abbiamo capito Ok due adesso Meno a partire dal tre O partire dal quattro Dal tre Sì dai Anche secondo me Vai Parola d'ordine sbagliata Allora riproviamo Mettiamo tre Quattro era giusto Lui ha bussato tre volte adesso Quindi dobbiamo toglierne tre Col meno Ah Dobbiamo addizionare Sottrarre in base alle sue bussate Che però abbiamo sentito Poco Perché si sentono poco Sì Col volume è basso Bene un attimo C'è una cosa Sistemiamo il volume Effetti al massimo E riprendiamo Ok mettiamo tre E confermiamo Lui fa un toc solo Quindi più meno più Quindi dobbiamo aggiungere questo toc al tre Quindi quattro Vai ok Ci siamo arrivati a culo al quattro Ok confermiamo Tre toc Meno Quindi quattro meno tre Uno Uno solo Sì dai Mi sono convinto io Abbattuto quattro volte Cinque Uno più quattro Cinque Comunque ragazzi Cioè i toc non si sentivano eh Ho dovuto mettere le casse al massimo Con le cuffie Ci stiamo perforando i timpani Infatti non vedo l'ora che finisca questo minigame E che posso levarmi le cuffie Confermiamo Yes Dritto assegno Certo idiota Rufus Cosa ci fai tu qui E che adoro bussare a questa porta Accomodati Janos ti sta aspettando Ma quindi Libold è ancora vivo Incredibile Pensavo si fosse suicidato Dopo la limonata con Rufus Che schifo Rufus Ma Camevata Ma quella è Tony Ma anche a me pare Janos Wow Un posticino Niente male Certo L'operazione di reclutamento Va piuttosto bene È per via del mio cavisma È Tony O perché nessuno vuole saltare in aria Tony Rufus Numero 34 Ti presento numero 2 Il nostro leader spirituale Rufus numero 2 Stai scherzando Infatti Perché solo 2 Abbiamo più di 33 reclute in attivo Quindi 34 Comprese i delfini ammaestrati Delfini È il mio compito Qualche problema? Rufus Sono delfini siluvo Ah sì Qualsiasi cosa tocchi Tony Diventa una macchina di distruzione Io lo so bene Ma in cosa potranno aiutarci Delfini Bisogna avangiarsi Con quello che c'è Perché io tanti di Babbo Natalo Lumpa Lumpa di Willy Wonka È finita la benzina È necessaria Prevazionare la turbina Delle cloache Se il vento Dovesse mettersi Contro Il fetove Sarà assolutamente Insopportabile Vabbè Vabbè ce la prendiamo noi Perché i cuccioli Stanno proprio vicino All'entrata della cantina Non sembra un luogo sicuro Chi l'avrebbe detto Che saresti spuntato Tu da queste parti Ehi Con i cuccioli di delfino Non ci facevano cibo per gatti Rufus Se gli succede qualcosa Ti disintegro Dico sul serio Cosa mai potrebbe succedergli Dimmi Non ci risponde neanche Cibo per gatti Ehi giovanotti Volete che Rufus Vi insegni qualche trucchetto Guarda come sono felici Che tenero Ah quello è cileno Lo stanno bullizzando E questo è Lever Dove avranno preso Quelle uniformi Sono quelle della netezza urbana Lol Le avranno rubate Di scarica Ciao Janos Rufus Morte all'Organon Eccetera eccetera Come hai fatto a mobilitare Tanta gente In così poco tempo Credo siano abituati Ad avere un pianeta Sotto i piedi E oltre questo Ho promesso Dei portachiavi Colovati per i superstiti Cioè Deve avere una retorica Notevole il tizio Per convincerli con così poco Cosa ci fa Tony qui Conosci già il numero 34 Vero Si è unita alla vivellione Perché qualcuno Ha distrutto la sua dimova L'Organon di sicuro No Qualcuno che risponde Al nome di Bastardo Figlio di Cagna Mi è del tutto nuovo Non lo siamo noi Bastardo Figlio di Cagna Parlami dei delfini siluro Ti conviene chiedere A numero 34 E lei a occuparsene Ma a non aspettarti Meraviglie Mi sono sbarazzato Del materiale silubistico Per comprare Una pizza La carbonara Ah perfetto Buona Combatteremo l'Organon A suon di pizza Carbonara Ma che vuoi Che merda è la pizza carbonara Attenzione con la pancetta E poi ci mettono Spro un uovo Hai venduto il materiale siluristico? Certo Al robot Delle cianfusaglie Del mercato galleggiante Oh fuck Dov'è tornare lì? Penso proprio di sì Chi è stato a comprare Il materiale siluristico? I robot Qualche attimo Prima di chiudere Quel robot Vuol fare una strage Magari anche lui Vuole fare morte All'Organon Perché anche lui Comunque vive qua Mi fa morte all'umanità Terminator diventa Donna si nasconde sott'acqua Certo Che rabbia Non aveva il materiale silubistico Vevo Per fortuna però La pizza Era buonissima Ecco A cosa servivano i siluri Ad abbattere Il sottomarino di donna Sì Guarda Non lo capisci Qua da questo piano Camper Delfino Più missile Boom Delfino Kamikaze Dai è così Fammi riprenditi anche oggi Non è rischioso Operare proprio sotto il naso Dell'organo Certo che no Tu riesci a vedere Quello che hai proprio Sotto il naso O anche o peggio Se ci fosse una fogna Vovesti annusarla? Metafora interessanti Vado a cercare Dei sommergibili Buona fortuna Kamevata Viva la vivoluzione Ah Chi ne va a Tony Allora di questi delfini Non mi stupisce Che mi abbia seguito fin qui Peccato Tony O la ragazza Beh più che altro Ne ho due terzi Potevi dire che ne eri due Facevi bella figura Guarda un po' Chi mi è venuta dietro Non sai proprio resistere Al mio magnetismo animale Dacci un taglio Rufus Ho del lavoro da sbrigare Sorvegliare i delfini? Cercare di non vomitare Cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa domanda Non dovevi andare a Elysium Con quella tipa? Gloria Si chiama Gal E dov'è? È già vittima di uno Dei tuoi infallibili piani? Più d'uno a dire il vero Ma è una ragazza resistente Mi sta aspettando fuori Povera ragazza Come hai fatto ad arrivare qui? Non ce la fai proprio A vivere senza di me Vero? Un giorno mi sono svegliata E mi è sembrato così strano Non dover spegnere Neanche un incendio in casa Non dovevo riparare il tetto Togliere dentifriccio dalla stufa O stare a sentire Le lamentele Dei vicini feriti E quel giorno hai sentito la mia mancanza? No Quel giorno mi è giunta voce di una ribellione contro l'Organon E visto che non c'era più il mio ex Ho deciso di rendermi utile anch'io Hai visto quante cose hai imparato da me? Per una volta hai ragione Sarai un soldato eccellente Rufus non cominciamo Qui sono io il leader Che ti piaccia o no? Ah santa ferraglia Non sarà un incubo? Vedo che continui a sognarmi Sì E ho dovuto fare terapia per questo Mi piacerebbe saperne di più Ma l'uomo dei tuoi sogni ha una missione da compiere Non ci crederesti a tutto quello che mi è successo Lasciami indovinare Stavi per raggiungere Elysium Quando gli elementi ti si sono rivoltati con Indovinato? Come fai a saperlo? Perché abbiamo tenuto questa conversazione mille volte E poi io dico È quello che hai detto l'ultima volta E tu rispondi Ma stavolta ha funzionato Esatto E anche se stai per dire il contrario Non cambierai mai Ma sono cambiato Maledizione Cambiato di male in peggio Lo conosce bene il suo pollo Bisogna ripulire la piscina dei delfini Recluta Cosa? Farò finta di non aver sentito Tony io sono un leader equo Quello che c'è stato tra noi Non può giustificare un trattamento preferenziale Guarda che te Negalo Qualche problema Wufus Devi mantenere la disciplina Janosch Numero 34 mi contraddice Sicuro 34 Gli ordini devono essere eseguiti Ma Niente ma Vecluta Agli ordini capo Oddio 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 che bello Mi sbagliavo È peggio di un incubo A proposito Recluta Per la riunione Portami un espresso Sei spreggevole Janosch Vecluta Siete fuori di testa Io non sono la vostra Vecluta E non lo far cadere Recluta Ti stai scavando la fossa Sappilo Anche secondo me Può essere Ma me la sto spassando di brutto Gliele fa pagare tutte A terra 20 flessioni Recluta Non esagerare Non esagerare Rufus Siamo in guerra Tony Ogni centimetro di grasso sulle tue cosce Può significare la morte di un compagno Ma che figlio di Oh oh Sei stato liquidato da un terribile drago Superato irrimediabilmente dalla natura malvagia della vile creatura Il nostro amato eroe ha cessato di esistere È molto rufo Raga Guarda l'ho rinperto Che ho in un colpo Riprendi riavia esci Riprendi dai Abbiamo sbloccato anche un achievement Piace lavorare ai miei ordini? Ah da capo Posso farti una domanda sui delfini? No Non puoi insegnargli a fare i cori nel karaoke Ah peccato Perché i delfini siluro sono così piccoli? Quelli sono i cuccioli deficiente Che carini Rufus Che c'è? Non fare quella faccia Va bene va bene Allontanati dalla piscina Subito Va bene va bene Dopo gli orditorinchi Rufus è passato a fare l'animalista E mo si prenderà a cura dei delfini Ho già capito come funziona Mi sa che faremo una strage dei delfini Ancora prima di mettergli il siluro sopra la schiena Perché i cuccioli stanno proprio vicino all'entrata della cantina? Non sembra un luogo sicuro Chi l'avrebbe detto che saresti spuntato tu da queste parti? Ehi con i cuccioli di delfino non ci facevano cibo per gatti Rufus se gli succede qualcosa ti disintegro Dico sul serio Cosa mai potrebbe succedergli? Dimmi Perché i delfini sono così tristi? Sono depressi Lo sarei anch'io con una maestratrice come te Magari dovrei romperti le gambe Il dolore altrui li diverte molto Quindi questi delfini quando vedono uno squalo che si parano ad un altro pesce si smettono a ridere Si diventa dritta la pinna La pinna Come potrei sollevare il morale dei delfini? Fatti travolgere dalla nave Ma se non ce n'è nessuna qui Fatti travolgere da qualsiasi cosa Il dolore altrui li diverte molto Interessante, interessante Come sei finita ad ammaestrare delfini? Al colloquio ho detto che avevo vissuto con un animale A quanto pare è questo che li ha convinti E scommetto che l'animale non era il pappagallo fuori da casa sua Era il suo moroso Cambiamo argomento? Ho un'improvvisa voglia di tonno E la mia ulcera si è rifatta viva Devo andare, devo guidare le mie truppe Non dici niente? Volevo tentare un'altra strategia Ho pensato che saresti andato via prima Ah, che errore Lo puoi ben dire Ok, continuiamo ad esplorare Una leva Perché non tirarla? Beh, l'hanno messa lì Che stai facendo? A te cosa sembra? Parlo delfinese Lascia stare Sono depressi Non ho ben capito a che serva quella leva Vabbè, lo scopriamo più avanti E qua dove giungiamo? Dall'altra parte? Ah, ok Un tombino Sì, è divertente Questo servirà di sicuro a risollevare i delfini Cos? Ah Ci butta dentro i tizi? Oh Pensavo ci cascasse dentro il tizio Per tutta la sporcizia Mi sa proprio che al mio piano manchi qualcosa per essere infallibile Rifletti Rufus, rifletti Ci lo butta dentro lui Dobbiamo indirizzarli Tipo mettendo degli ostacoli in mezzo Vorrà mettere il barile? No, non è abbastanza divertente Ah Vabbè, abbiamo capito che per risollevare i delfini Dobbiamo fare cadere questo povero Cristo Qui dentro C'erano degli oggetti però Eh Che non abbiamo? Non abbiamo nulla Bancone della cucina Ah, qui fanno le pizze per i ciluri? Avete una cucina? Certo La rivoluzione vi chiede truppe ben nutrite Questa è gueva Non un gioco Janos Chiedi al tuo amichetto se vuole un succo d'arancia Nonova mami Si è portato dietro la madre Io non ci sto credendo Comunque lui fa un po' l'ingegnere qua della citazione Ricorda Ricorda molto la madre di Howard di Big Mac Theory Tony potrebbe somnare un po' a Bernadette La biondina sovrosa La moglie Non mi spoilerare Io sono arrivato a sette stagioni prima della fine Salve Salve Una faccia nuova Sei uno degli amichetti di Janos? La prego signora Sono il leader della resistenza Certo figliolo E il nostro coraggioso leader Non vuole un po' di succo d'arancia Forse è più tardi Non ha per caso del cibo per gatti? Emo di no figliolo Volevo prepararne un po' Ma quella simpatica ragazza Mi ha detto che i cuccioli di Nelvino Non facevano parte delle provviste Quale simpatica ragazza? Ma perché Rufus vuole del cibo per gatti? Non lo sto capendo Secondo me lui è più avanti di noi con la trama Sa già cosa deve farci col cibo per gatti Ok abbiamo completato questa zona Quindi usciamo va Ah brava Gal È rimasta lì come un cagnolino Ehi Gal Tutto ok? Mi annoio Janos sta addestrando dei delpini per portare siluri Io so manovrare i siluri Non ho dubbi Era un doppio senso Sì Grande come una casa Allora Mancano i siluri Sai cosa? Io tornerei al mercato nero galleggiante E andrei un po' dal robot Ok dai facciamo le cose fatte bene Quindi Mercato nero galleggiante Ma i temporali Sai per questa parte Che schifo la pioggia Acida Oh fuck Pare che i tuoi dati non quadrino Governatore Abbiamo cercato dappertutto E della ragazza nessuna traccia Ma era qui Perché dovrei mentirvi? Forse per quell'ego smisurato che ti ritrovi Proprio come tuo figlio Rufus non è mio figlio Fatene quello che volete Avevamo un accordo Volevate una pista E io ve l'ho data Mi state facendo perdere tempo Ed è una cosa che non tollero Eh Moderate i toni Così spaventate i pesci Mi spiace Non succederà più Provistate nell'immondizia Di ogni angolo Di questa discarica E chiudete ogni accesso Andiamo Guarda Allora Ha una strage Proprio come piace a me Argus è qui Ciò significa che ci stanno cercando Oh shit Ha ragione Dobbiamo essere cauti No È che spaventi i pesci Rufus Non mi aspettavo che liquidassero il pari di Rufus così No neanche io Ma magari lo pesca il pescatore adesso Ho questa impressione Come butta? Shh Smetti di combinare casini Tranquillo L'organo non mi fa paura Così ti voglio Giovanotto Ma stai spaventando i pesci Non fingere Anche tu hai paura di loro Ora Smamma Non hai detto che tu Non hai paura? Esatto Io non ne ho Smamma Che discorso è? Non ti dà fastidio che l'isola si trovi sotto assedio? Per niente L'unico che mi dà fastidio Sei tu Se non hai paura Perché hai smesso di pescare? Indovina Stai tremando? Dai confessa Te la stai facendo addosso Stami a sentire Qui l'unico problema sei tu Quando sei vicino pesco solo stivale Smamma Avanti Continua a pescare gallinella Non ho intenzione di farlo finché non sarai andato via Ehi potresti pescarmi uno stivale? Cosa vuoi? Che mi buttino fuori dall'associazione dei pescatori? Non ci riesci eh? Non con te lì impalato Stai perdendo il tuo tempo Pratico la meditazione Questo è un paese libero Posso fare il cretino dove mi pare e piace Non sul mio molo E chi ha detto che è il tuo molo? L'amo che sta per entrare nel tuo... Lo vuole un occhio questo? Eh mi ricorda un po' Lever Ok starò zitto lo prometto Oltre ad essere pesante porti pure sfiga Ah qui ci sono ancora le esche Pesci da esca I Wenzel del mondo animale Prendiamone una? Ehi che diavolo fai? Adoro Nettuno Che? Dove? Mi prendi in giro? Prendere in giro? Rubare? Una cosa del genere? Abbiamo preso un'esca C'è una sardina cos'è? Sei un pesciolino ma che te Sono io o ho sempre delle esche nel mio inventario? Eh effettivamente sono cose che ritornano Vabbè Ok proviamo ad entrare nel negozio di Cianfrusaglie Ventar non nuoce La porta era chiusa Questo narratore esterno random Gatto alla finestra Ah ma questo è un gatto Eh sì Minchia l'ho confuso con uno scarabocchio Il gatto di Gilligan Saprà come entrare nel negozio Gattino Vieni micetto Vieni Fa vedere a Rufus come si fa ad entrare Su Niente Logico Lo sanno tutti che i gatti sono praticamente sordi Sì sì di sicuro Ma non è vero E qui che c'è? Una ciotola Perché la ciotola è qui se il gatto è lì dentro? O il padrone è un sadico O il gatto sa come uscire Ah vedi che c'è la sportellino Tu metti l'esca lì dentro Il gatto esce Il gatto esce Tu ci metti dentro la mano e apri Dai mettiamo la sardina lì dentro Che easy Gattino Vieni micetto Vieni Ma guarda un po' quant'è carino Sembrano gli interessi Magari mangia solo tonno Bestiola viziata Io lo trovo adorabile Così tenero e piccolo Come il tuo cervello Ho proprio l'impressione Che quel gatto voglia solo Croccantini di delfino Anche io lo credo ora Andiamo a uccidere i delfini? Direi proprio di sì A meno che Non peschi un tonno il pescatore Dai dove andiamo? Come butta? Smamma Eh dai Pescami uno stivale Su Scordatelo Sono un pescatore Pesco solo pesci Un tonno no? Non me ne andrò Fin quando non mi avrai pescato uno stivale Se stai cercando di farmi perdere la pazienza Scordatelo Una volta ho aspettato che si consumassero i colori di un cubo di Gilligan Solo per risolvere il puzzle Ah sì? Io sono più paziente di te Ci credo poco Da te mi aspetto una resa incondizionata Io non getto mai la spugna Questo lo vedremo Non hai la pazienza di star fermo in silenzio per un minuto Fermo camper non toccare Ho l'impressione Anch'io Che dobbiamo star fermi un minuto Rufus ho fame Non è il momento Gal È una cosa importante Fermo Ed io non lo sono per caso 11.52 Hai 5.3 Riprendiamo È malatissimo questo gioco se è così Dai Sono stufa No Eh sì Sì ragazzi bisogna stare fermi Rufus ho freddo Hai sentito? Ha freddo Bel tentativo Palle Gal stai zitta dio santo Rufus non ce la faccio più Per tutta la sporcizia Vuoi portar via questa povera ragazza una volta per tutte? Ha indosso solo un pigiama Tragico vero? Dai Gal farò ogni 15 secondi quindi manca poco Rufus D'accordo 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 Mi arreddo Non posso vederla soffrire Ecco il tuo stupido stivane Hai visto Gal? Ho vinto Impressionante Ora abbiamo una scarpa Sì è una cianfrusaglia inutile Ma ho cose ancora più assurde nel mio inventario Perché voleva una scarpa? Ok Questa zona direi è completata Parliamo un secondo con Gal e poi in caso ce ne andiamo Dobbiamo entrare nel negozio di Gilligan Un incendio fortuito? Mi piace come la pensi Ma non voglio attirare l'attenzione dell'organon Hai ragione Piaceva anche a me l'idea comunque Hai visto il gatto? Sì E quindi? Guarda come graffia la finestra Credo sia affamato E perché non esce dalla gattaiola? Qui avrà cibo a sufficienza Non esce perché state spaventando i pesci Posso? Ok quindi penso che il prossimo passo sia ottenere dei croccantini di delfino O comunque usare le esche per avere un tipo speciale di croccantini Insomma Può chiedere a Bella Figogù dove compra il tonno I croccantini li faceva la mamma di Janosch Sì quella nel covo segreto Esatto Tornerei al covo segreto Ah guardali qua i delfini diventeranno croccantini per gatto Non fanno in tempo a crescere per la guerra La guerra è imminente Loro non servono a niente Mi servono i delfini per la mia caccia Non se ne parla Tony ti prego È importante Ha vagione 34 Quei mammife di mamini servono più a Wufus che a noi È giusto E va bene Ma oggi sono giù di morale Non ti saranno di grande aiuto Ma ricorda con chi stai parlando Signore e signori Ecco che entra in scena il grande Wufus Guardatemi Io sono Tony Adoro ammaestrare delfini e lamentarmi per qualsiasi cosa Sono un cabarettista nato Magari si tirano su se ti affoghi lentamente fino alla morte Il dolore altrui li diverte molto Ok torniamo al vecchio problema Dobbiamo rallegrare i delfini Quindi il piano era aprire quel tombino e far cadere giù l'aiutante di Babbo Natale Che si farà molto male e i delfini il male umano piace e non poco Esattamente Il problema è che se apriamo questo tombino il tipo non ci casca dentro lo evita Per tutta la sporcizia Mi sa proprio che al mio piano manchi qualcosa per essere infallibile Rifletti Rufus rifletti Ci vuole qualcosa che gli blocchi il tragitto sulla parte sinistra Ok usciamo di qui Avrei una mezza idea Forse questo vecchio scarpone può tornare utile dal barbone fuori dal nascondiglio Eh se li mangiava lui le sole delle scarpe Ti ho portato qualcosa da mangiare Su serio? Non so che dire Aspetta propongo un baratto Io ti do del cibo e tu mi dai l'ombrello Ma è l'unica cosa che ho Mmm cibo Affare fatto Ma no Un momento Questa è una scarpa Per spicace Il vero pasto dei vagabondi Buon appetito Ma no Ok Che abbiamo ottenuto? Un ombrello rotto Inutile Beh noi accumuliamo cianfrusaglie Poi serviranno come al solito Esploriamo un po' questa zona va Fuoco Mi ricorda i miei famosi barbecue Barbecue in spiaggia? Vedici la tanica sopra il fuoco Preferisco bruciare oggetti altrui Grazie Giusto giusto E qui? Invertitore di potenza Uh Sì 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 Prendi 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 Yes Mi piacciono Sono come me Sempre controcorrente Sì ma ormai essere Anticonformisti è mainstream Quindi Ora se non erro L'invertitore di potenza Si poteva inserire qui dentro Mettere il reattore Sì Che occhio che ho Che abbiamo fatto? Niente No magari questa turbina È collegata con La valvoletta che c'è nel tubo Nel covo Ah è vero Dici questo? Sì Sembra che siano ancora depressi Devo tirargli su il morale In qualche modo Perché adesso non ci fa più tirare la leva? Ah Ok Abbiamo fatto qualcosa Ma non so cosa Tutto si chiuderà ad anello Tra 48 episodi Eh vabbè Ci penseremo un'altra volta Ok Siamo di fronte a un bivio quindi O andiamo dall'oracolo Oppure Sì ma io È da tre episodi Che voglio andare nella casetta viola Dell'oracolo Quindi ci andiamo E oracolo sia Lui ci dirà cosa fare Accomodati Rufus Ti stavo aspettando Vedo che la mia reputazione mi precede Niente affetto La palla di cristallo Aveva annunciato il tuo arrivo E conosce il mio nome? No Ma ti ho sentito cantare Arrivi tardi Rufus Mi hanno trattenuto Sì Avevo predetto anche questo Non ha senso A proposito Sarò dispiaciuto Del furto delle mie banane Lo sa già che gli rubiamo le banane E dobbiamo usarle Nella raddrizza banane Nei negozi di cianfrusaglie Non voglio le tue banane Le ruberai comunque Fedati No sul serio Non voglio le tue banane Arrenditi all'inevitabile E prendile Sono deliziose Sei un veggente O qualcosa del genere? Sì Possiedo il terzo occhio Ma ormai Non esercito più Ora mi dedico Alla terapia Di coppia Sicuramente più remunerativa Terapia di coppia? Esatto Sembra che la gente Sia più ricettiva Ad ascoltare brutte notizie Quando si parla Delle proprie relazioni Vuoi predire i numeri Della lotteria? Potrei Diciamo che se potesse Sicuramente Non vivrebbe in questa baracca Dai dimmi i numeri Della lotteria No A lui non servono i soldi camper Lui è ricco dentro E quando sei ricco dentro Muore di fame Ce la farò a salvare il mondo? Il futuro non è ancora scritto Rufus Perché vivi in una tenda? I miei clienti si aspettano Un'atmosfera mistica E poi è molto pratica In caso d'emergenza Posso smontarla E impacchettare le mie cose In due minuti Che genere di emergenza? Eps Niente Il futuro è coperto da un velo No 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 L'incertezza Offusca la mia vista Ti prego Dimmi che genere di emergenza Uuuu Da maledizione Fatemi indovinare La finanza? Le guardie? La polizia? O un incrociatore organon? Sarai molto occupato Vado via Questo non è quello Che ho visto io Vabbè Vuole che prendiamo Tutti i costi Le sue banane Le prendiamo? No Il mio destino È nelle mie mani Anche se sembrano Abbastanza utili Beh Non si può andare Contro il destino Non ci si può opporre L'ora del furto Delle banane È arrivata Mi sottovaluti Resisterò Dai Rufus Prendile Non rompere le balle Coraggio Accetta il tuo destino Già mai Andiamo Prendile No Così Non voglio arrendersi al destino Uffa Quante ne abbiamo Banane infinite Siamo diventate dei frutti vendoli Avrei potuto lasciarle al negozio Anche se potrei sempre usarle Per qualche infallibile piano O per dare una svegliata Ai lavoratori delle fogne Giù va È così semplice La buccia di banane La classica gag Ok mi piace Mi piace Ok so cosa fare Bene 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 Usciamo di qua Secondo me questa Cosa forse Ad eponia Probabilmente si Vorrei dire Capitano Vero 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 Imbecille Ah ok Probabilmente in qualsiasi zona in cui andiamo Bozzo ci racconta un po' la storia Ci fa da Cicerone O da Virgilio per Dante Siamo troppo acculturati Per i gameplay Questo aggeggio non può andare più veloce Così non li raggiungeremo mai Ehi non ti permetto di parlare in questo modo del mio peschereccio È una delle barche più affidabili che abbiano mai solcato queste acque Ahà Affidabile e lento Non è lento No è lentissimo E che importa Diresti qualsiasi cosa pur di non riconoscere che la tua barca è un catorcio Ma non può dargli un pugno nei denti bozzo a Rufus Gli do il permesso io Gli do anche 10 euro se vuole E ora che facciamo Pare che il sommergibile stia fuggendo Non lo troveremo mai E se mandassi un branco di delfini addestrati sulla sua pista Non voglio neanche sapere di cosa tu stia parlando Di delfini con siluri amico mio Loro non sono al corrente mi sa No Torniamo al lavoro mozzo Ehi Sono io il capitano di questa nave Stai provocando un accoppiamento? Ammutinamento Si dice Ammutinamento Non divagare mozzo Doc servono i tuoi consigli Rufus Hai trovato il sommergibile? Ci sto lavorando Hai idea di come catturare donna? Suggerisco di navigare verso l'isola Wocit Ha una vecchia torre di comunicazione Se manomettiamo il suo trasmettitore Probabilmente potremmo individuare il sommergibile Isola Wocit Che nome? Si prudente Rufus Quest'isola è continuamente nell'occhio del ciclone Credi davvero che una tempesta possa intimidire Rufus? Si dovrebbe O per caso hai dimenticato che devi manomettere del materiale elettrico Quindi? Ok direi che una meta ce l'abbiamo Wocit stiamo arrivando Quale? Questa o questa? Beh dai quella sopra È una torre ha detto C'ha una torre a forma di pisello Che tempo del cavolo La sporcizia del mio giubbotto si sta dissolvendo Ok dove siamo arrivati? Cos'è questo? Generatore diesel Che è un motore È collegato ad una bomba che elimina il gasolio che cade in acqua Un momento Il tubo di scappamento del generatore perde carburante Un sistema fognario chiuso Sorprendente Ma ha detto bomba Non pompa Io ho capito pompa Senti È collegato ad una bomba che elimina il gasolio Bomba dice Bomba Sì ha detto bomba Ha detto bomba Beh si è sbagliato Comunque possiamo mettere sotto la tanichetta allora E raccogliere il carburante che cade Ok raccogliamo il carburante Il recipiente più noioso della storia Ma meglio di niente Ora devo solo trovare il modo di estrarre il gasolio Ah fuck Eh no dobbiamo un po' aprirlo mi sa Come si estrae il gasolio? Con una pompa? Presente tipo le cannucci che fanno spigli Sì un tubo fai i vasi comunicanti Non ce l'abbiamo Eh già Beh andiamo per di qua Ehi là Allora che abbiamo in questa zona? Piattaforma Il posto ideale per riempire i recipienti d'acqua O essere raggiunto da un fulmine Ah questa è una fontana Esce solo acqua oleosa Ok dobbiamo trovare un recipiente Forse il barile Proviamo il barile Esce solo acqua oleosa E di quella già ne abbiamo a sufficienza da queste parti Che fulmini eh Non essere codardo Le probabilità di essere raggiunto da un fulmine sono scarse quanto quelle di vincere alla lotteria Le statistiche sono per femminucce che non vogliono correre rischi Questo è vero Magari è collegato con l'indovino alla lotteria che ci aveva ben parlato Magari sono indizi Teniamocelo a mente Noi prendiamo appunti Come faremo a riparare la torre di comunicazione E lo dici a me Sei tu il tuttofare Proprio così Allora dimmi cosa si è rotto Ecco vedi Quelle cosette Sì quelle si sono mollate E i pezzi di Quella scarpa elettrolitica Ecco si sono fusi Insomma è rotto no? Aha il trasmettitore è rotto E cosa aspetti per portarlo a Doc? Perché Doc? Anch'io sono un tuttofare E io che pensavo che le cose fossi capace solo di romperle Vuoi che ti spezzi il cuore? Non cominciamo a fare tuttofare Daglielo a Doc lo aggiusta in due minuti Eh ma prendilo Prendiamolo Ma non ci può stare in tasca Ok Torniamo da Doc Il trasmettitore della torre di comunicazione è fuori uso Come lo sai? L'ho trovato ai piedi dell'antenna completamente abbrustolito Credi di riuscire a ripararlo? Fatto Già fatto Ho dovuto solo togliere il bastoncino di lecca lecca che c'era tra i contatti del trasmettitore Ora bisogna montare l'apparecchio in cima alla torre Consideralo fatto Perfetto Ora non ci resta che montarlo sulla torre di comunicazione Spoiler Non sarà facile Già me lo immagino Come minimo viene preso da un fulmine Con questo temporale Eccoci qua Torre di comunicazione Chiunque direbbe che la torre si prende gioco della tormenta E i fulmini non scherzano affatto Ok installiamo il trasmettitore Sali All'opera Ah come Godzilla Ok La sua classica immunità a tutte le catastrofi Aia Parliamo con Gal Ogni volta che cerco di salire vengo raggiunto da un fulmine Non lo fai di proposito Che dovrei? Non so magari perché sei un buono a nulla Ah lo faccio per vederti sorridere E allora rifallo Yuppi Ho un'idea Puoi salire un attimo su quella piattaforma? E perché no? Cosa potrebbe succedere se salissi su una piattaforma in piena tempesta? Lo farai per me? Non se ne parla Ti sembro così innocente? Ti manca solo chiedermi di entrare in una piscina piena O darmi un ombrello Rufus Innocente Piscina Ombrello Non vorrai usarmi come parafulmini umani? Mai e poi mai Raga fermi tutti Useremo Gal come parafulmini umano Ma hai sentito gli indizi? Sì Innocente vuol dire che dobbiamo switcharla Ombrello ce l'abbiamo e la piscina è quella dei delfini Esatto Quindi ci manca solo la piscina in questo momento Facciamola tornare bambina A facere il pedofilo c'ha La chiamano Gal Cos'è questo? Il mio nuovo jingle Mi è familiare Dovremmo farcelo anche noi un jingle per il canale Mi chiamano cancri No Non si fa così un jingle È tipo l'aver che fa Autosplicativo Ti piacerebbe? Un botto In realtà si, ti piacerebbe Diamoli l'ombrello per cominciare Ho un'idea Puoi salire un attimo su quella piattaforma? Certo Povera E ora? Ora prendi questo ombrello Ah lei fa da paraffolmini Noi saliamo intanto Non so perché non funziona Puoi scendere Okidoki Okidoki Oh Manca la piscina Torniamo al problema primordiale Ci servono i delfini Come ci fa? Non ne ho idea Ok Dal momento che Isola Watchit e Porta Fisco Sono bloccate Non ci resta che esplorare La terza zona ignota Let's go Lì Camper Torniamo tutte le nostre risposte Quello è il polo Nel punch di Bozzo C'è più ghiaccio Ma che siamo arrivati Dal polo nord? Penso proprio di sì Oh la stella polare Ci avrei scommesso Non avevo mai visto Le stelle Tanto chiaramente Non dà la mia ultima caduta Ok Ci sono un botto di cose Hai sentito andare lì Lì ti sei preso una pompa Beh la pompa può servire Per svuotare la piscina di delfini No La pompa serve Per estrarre il carburante Ah anche In combo col barile Fallo Spero non mi porti Ad un altro noioso livello Come nel primo deponia Aspetta Non capisco L'uscitazione Cosa fece la pompa Nel primo deponia Ragazzi Oh ditecelo voi Io me lo sono dimenticato Che c'è qui? Un rubinetto È congelato Addio pista di pattinaggio Mi sa che dovremmo scongelare Il polo in qualche modo A Kuvak non nevica mai Anche se in effetti Wenzel aveva sempre Dei fiocchi bianchi Sulle spalle Era stata forfora? No 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 È la neve dei capelli La nieva Forte Ne prenda un po' Come A ghiaccio Beh abbiamo ghiaccio Abbiamo delle banane Cosa possiamo fare? Stordire con una palla di ghiaccio In testa L'agitante di Bobbo Natale E buttarlo giù No speravo In qualche Buon frullato cocktail Facciamo un milkshake di banana L'uomo di Neandertal Cos'è sto coso? Chi di voi conosce Uzi? Tu lo conosci Uzi? E come no? Fa parte della nostra cultura di Trentini Uzi è l'uomo trovato ghiacciato Nel Similaun Che è una montagna dell'Alto Adige Così proprio E noi ci portavamo in gita là E la cosa più bella cos'era? Comprare i laser dai marocchini Che li vedevano Il segnale è più grande dello stesso polo Lo immaginavo più impressionante Eh? Ah Perché questo è il polo Il polo nord è questo blocco di ghiaccio qui Alla faccia del riscaldamento globale Beh se questo è un iceberg Possiamo fare il cosplay del Titanic no? Bastava andare un metro più avanti col peschiereccio Voglio quella torcia Ma mi serve qualcosa per tirarla fuori Errore mio Ah Speravo che gli esce una craniata E rompesse il ghiaccio così Direi che ci manca uno scarpello E questo cos'è? Campanello È congelato Ecco perché la pizza non è mai arrivata Ok Rientriamo nel peschereccio Mi sono fatti il caffè nel frattempo Perché avevano freddo LOL Ah un tè Che razza di tè è questo? Tè di reni Che schifo Diuretico eccellente Al posto tuo Io non ne berrei troppo Tranquillo Ho una vescica enorme Prendiamolo Occhio È bollente È una sfida? No Solo Aia Ti avevo avvisato Possiamo raffreddarlo con la neve Cioè poi non so che sapore venga Ma non sono problemi nostri Sì Vare l'italiano per favore Comunque faceva le mamme sul tè freddo Ha fatto il tè freddo Sì ma prima c'erano i sottotitoli Poi li hanno anche levati completamente Io sono confuso Camper quando sente inglese si triggera Ora è perfetto Non te lo consiglio Perché? Me l'ha prescritto il nutrizionista Ed è diuretico Oh oh Cosa fa la pipì? Ma pisciamo sul blocco di ghiaccio Non ci credo Se lo fa E tre sci Nooo Hanno ragione I poli si stanno sciogliendo Rilli Oddio È appena successo quello che ho visto? Sì è appena successo quello che hai visto Fantastico In principio fu il fuoco E tutti guardarono Rufus In principio fu il fuoco Poi venne la pipì Non credo gli dispiaccia Ok Questa torcia possiamo accenderla Con il carburante No io pensavo nel barile di fuoco fiammeggiante Dove c'è il barbone Ah hai anche ragione Vabbè facciamo una cosa comunque Andiamo a prenderci il carburante Direzione isola watch it Ora se mettiamo qui la pompa Ottima idea Aia Troppo caldo Devo fermare il generatore Ma come no? Ma non possiamo combinare il barile con la pompa E estrarre il gasolio? Una pompa ideale per estrarre gasolio Se ce ne fosse È qui davanti a noi Il recipiente più noioso della storia Ma meglio di niente Ora devo solo trovare il modo di estrarre il gasolio Ok Allora facciamo la mia idea Bruciamo la torcia Direzione porta fisco Ogni volta mi triggera porta fisco Penso alla finanza e mi viene l'ansia Peccato che siamo in regole quindi Non dovremmo triggerarci Noi Accendiamo la torcia Rufus avere fuoco Ah Bisognerebbe portare sempre del fuoco nel giubbotto Penso che un accendino basti Esatto Questo qui era un detto che si riferiva a un accendino Non ha una torcia accesa Andiamo a fare un po' di Indiana Jones in giro del porta fisco dai Domanda Diamo fuoco ai barboni Voglio farlo Scusatemi No Ha già il suo falò da straccione Ma no Non devi accendergli un falò Devi accendere lui Vabbè peccato E' una bella meme da black humor comunque Ora Cosa possiamo accendere con una torcia? I copertoni I copertoni alla dogana Pneumatici vecchi e noiosi Se stessero bruciando sarebbe un'altra storia Edì Facciamoli bruciare Non so per quale motivo dovremmo farlo Ma facciamolo Sì attireremo l'attenzione Esiste qualcosa di meglio di una montagna di pneumatici? Esatto Una montagna di pneumatici in fiamme Una varietta uguale Questa battuta Eh Beh lì non si accorge di nulla Sveglio il tipo Ora cosa abbiamo? Pneumatico in fiamme Un giorno mi tatuerò uno pneumatico in fiamme Con dei bei canini Ma dai Ma non si può prendere un copertone in fiamme? Vabbè abbiamo messo la torcia in compenso Ma che palle Ok E che ce ne facciamo di questo? Torniamo al rifugio Allora questa cosa qui secondo me C'è il carburante E vabbè mi sembra ovvio o no Sì sono d'accordo Facciamo partire e facciamo un disastro Però è un passo successivo questo Prova a entrare dentro Vediamo se ci si illumina qualcosa Ok in questo momento non so cosa si debba fare Parliamo un po' con questi due di nuovo Bisogna ripulire la piscina Vediamo se lo fa Bisogna ripulire la piscina dei delfini Recluta Cosa? Farò finta di non aver sentito Qualche problema Wufus Devi mantenere la disciplina Janos Numero 34 Mi contraddice Sicuvo 34 Gli ordini devono essere eseguiti Ma Niente ma Becluta Lo fa? Ma gli ordini capo Ok Ora non dobbiamo esagerare però Altrimenti Wufus tira un pugno E si disintegra E' vero Quindi devo andare E lei va a farlo adesso penso Dici che se usciamo torniamolo Ma basta uscire dal dialogo secondo me Devo andare Devo guidare le mie truppe Ah No non lo sta facendo A noi sarà questa piscina gonfiabile Maledizione Buttaci dentro qualcosa L'esca Ma i delfini non mangiano pesce Cosa mangiano? Si che mangiano pesce No Mangiano planton Quelle sono le balene Ma che cazzo ne so cosa mangia i delfini Tu buttaglielo Pescelini Venite da papà Sembra che adorino l'esca Ne terrò conto nel caso Dovessi insegnargli qualche trucco Qualche trucco Cosa vuol dire? Il cerchio infuocato Ti passano in mezzo i delfini No Hai capito? Dai fallo ti prego Insegnaglielo Geniale sta cosa Te ne devo dare atto Che diavolo fai? Io Niente Voglio solo insegnare Qualche trucco ai cuccioli Per risollevarli un po' Non voglio che finiscano depressi Come i loro genitori Rufus Se gli succede qualcosa Ti disintegro Dico sul serio Non date retta alla ragazza Quando vi vedrà saltare dentro un cerchio di fuoco Rimarrà senza parole Forza Vedo che gli manca ancora qualche incentivo Ok La so io stavolta Combiniamo la ruota con l'esca E abbiamo trovato l'incentivo Farò un barbecue più tardi Sulle rovine Del migliato organon Maledizione Perché non le combina? Manca ancora qualcosina Dovremmo appendere la ruota da qualche parte forse Ah qui Sulla piscina gonfiabile Non sui delfini Le mie cose vanno bene così Sporche Come me Non devi lavarla Possiamo metterlo qui? Sì Oddio Oddio lo so Scegliono nella brocce Gli facciamo saltare in cucina Abbiamo anche il tonno pronto Oddio fantastico Oddio Oddio Che diavolo fai? Io? Niente Voglio solo insegnare qualche trucco ai cuccioli Per risollevarli un po' Non voglio che finiscano depressi come i loro genitori Rufus Se gli succede qualcosa Ti disintegro Cosa stiamo facendo? Dico sul serio Non date retta alla ragazza Quando vi vedrà saltare dentro un cerchio di fuoco Rimarrà senza parole Forza Vedo che gli manca ancora qualche incentivo Signori Potrebbe diventare il migliore episodio di sempre E ho detto tutto Mettiamoci l'esca Ma certo Andiamo piccoli È ora di imparare un nuovo trucco Tony rimarrà sconvolta Pesciolini Venite da papà Oddio Li ha affettati Frullati Li ha frullati Ci ha fatto il tono per il gattino Credo che Tony sia molto occupata in questo momento Oddio Signori Abbiamo i croccantini di delfino Achievement unlocked animal lover Lattine di tonno E quello da dove viene fuori Oh mio dio signori Scatolette di tonno Tonno Abbiamo appena fatto una strage raga Dei poveri delfini appena nati Oh mio dio Fantastico raga Proviamoci anche la piscina dai Così Ma l'ha rubata piena d'acqua No Ha tolto l'acqua perlomeno dai Sto tanto ci piove dentro Quindi che problema c'è E quindi Si torna al mercato nero galleggiante Proviamoci adesso Gattino Vieni micetto Vieni Ma guarda un po' quant'è carino Presto sapremo perché la ciotola è fuori Anche se il gatto è dentro Perché il gatto non può stare dentro e fuori Contemporaneamente Gatto di Schrödinger A meno che non si tratti del gatto di Schrödinger Zombie della meccanica quantistica Ne vivi ne morti Al riparo gal Ma Che succede? Ho appena risolto il più gran mistero della meccanica quantistica C'è una gattaiola E non l'aveva vista? Buongiorno Quanto sono furbo Tantissimo Quanto ci vedi bene soprattutto Come si dice? Quasi Ha detto grazie Dai entriamo Avrò pure l'agilità di un gatto Ma purtroppo ho anche le dimensioni di un leone Quindi non ci passa Mi viene in mente Hai presente quei film americani In cui mandano la bambina Ah vuoi mandarci gal? Sì gal bambina per esattezza Ehi gal tutto ok? Non lo so E se Argus ci trovasse? Improvviseremo Rufus improvvisa E non mi sono neanche portata il cazzo Come tu non eri la gal gentile? Ho scambiato i chip No no È che la gal spavalda mi ha preparato dei bigliettini con le risposte LOL Guarda qua Oh regà Dati un premio Una medaglia Grazie Anche un biscotto va benissimo Premio nobile Pensi di riuscire a passare dalla gattaiola? Non credo Ma come no? Non sono così sfuggente come te Ok ho capito Perché non lo fai tu? Perché le mie spalle sono troppo larghe Vediamo Guarda tocca Senti qua I tuoi muscoli si muovono come la gelatina Ma che dici? Pensavo di essere sulla strada giusta Ci avevo sperato Mi sa che però l'abbiamo chiesto alla gal sbagliata Proviamo quell'altra Quella spavalda dovrebbe essere più accondiscendente su queste cose no? Ah finalmente Mi sono persa qualcosa Ti ricordi quando ti ho difesa dal drago? Intendevo cose che non accadono solo nelle tue fantasie Oggi è on fire gal Pensi di riuscire a passare dalla gattaiola? Sei troppo grasso È tutto muscolo Vuoi toccare? No grazie Stai indietro bello Ti faccio vedere io come si fa Bella Sì ma Ma Lasciala aperta Allora? Sorpreso eh? Non lo so Puoi ripeterlo? Ok Forse la porta è rimasta aperta però Mi auguro Altrimenti comincio a bestemmiare Sì Grazie gal E questo dorme? C'è raddrizza banane Abbiamo le banane Ah è vero? Abbiamo le banane? Scusami ma A cosa serve raddrizzare una banana? Voglio vedere una banana dritta Intanto Ti sei Accorto Voglio vedere cosa succede Quando mettiamo le banane E la raddrizza banane Era per la serie Beh Hai un raddrizza banane no? Che fai non lo usi? Bel modo di ragionare Era ora che qualcuno lo inventasse Forte Banana raddrizzata Ha una forma Come dire Un po Fallica Piacerà un botto a gal Secondo me L'unica cosa Che è ancora accesa È quello scanner A cosa servirà? Boh Passiamoci in mezzo dai Ehi ehi Il padrone del negozio È tornato Niente Perché si è spento? Forse è la volta buona Che possiamo rubarci tutto No Il cappello Spermiagrumi Non possiamo più prenderlo Che palle Domanda Ma che fine hanno fatti i missili? Iano Ci non li aveva venduti a lui? Sì ma se sta dormendo Non può dircelo Mannaggia Vabbè usciamo Ricapitolando Abbiamo triturato Tre delfini Per ottenere una banana raddrizzata Il WWF approva Diamola a gal Diamola a gal Diamo la banana dritta a gal Hai fame? Per caso ha la faccia da scimmia? Sei tenera come una scimmietta Una scimmietta? Aspetta La risposta è proprio nel mio giubbotto La chiamano gal Così a caso Potrebbe essere un suggerimento Diamola a lei Hai fame? Hai cucinato per me Ecco io Mi hai fatto un dolce Te lo dirò più tardi È una sorpresa Quanto è ambiguo questo dialogo Ok Usiamola per far scivolare il tizio Magari con quella dritta scivola Cosa cambia? Magari Che cacchio ne so Se non sappiamo cosa fare Proviamole tutte no? Allora Torniamo Alla base ribelle Ora Sappiamo Che Con le banane normali Il tipo scivola Ma non cade nel tombino Per tutta la sporcizia Proviamo con quelle dritte allora Ma cosa cambia? Non lo spieghi Vedi? Non la prende nemmeno Ehi Dove vai? In teoria tu Ma cosa Queste resate cringe proprio Non sto capendo Siamo noi I finalmente baraccone I delfini apprezzano Beh Sembra che ai delfini sia piaciuto Ve l'ho detto che il mio forte È la commedia intelligente Ok Perché? Ora sì che sono contenti Guardi non vedo l'ora di ucciderci Questi delfini adesso Ovviamente c'è una bella bomba in testa Andare a silurarsi contro cose Mi servono i delfini per la mia caccia E va bene Quando sarai pronto Dovrai solo aprire la botola Ma ricorda che hanno ancora bisogno Del loro materiale siluristico Ok missione 1 di 3 Fatta Ci manca adesso da riparare il trasmettitore Beh per quello dovremmo avere tutto più o meno Abbiamo la piscina confiabile Abbiamo una gal bambina E abbiamo un ombrello E abbiamo pure il trasmettitore Aggiustato Dai facciamolo E torniamo all'isola Watchit Allora prima cosa direi di prendere la piscina E metterla qui È il luogo perfetto per la mia jacuzzi Ah ma non si riempi di acqua piovana Si riempi con quella fontana Esce solo acqua oleosa Ci mancava solo questa Un'isola in mezzo al mare A posto A questo punto non ci resta che dare un ombrello a gal Divertiti Potresti rientrare nella piscinetta? Certo Certo Poverina Ora prendi questo ombrello Oddio Lo uccidiamo D'accordo Appena cade il fulmine abbiamo l'immagine per la copertina camper Si si Guardala Non ha idea di quello che le aspetta Ma ignara Anche se Una scommessina su fulmine che colpisce Rufus La piazzerei Dai Andiamo a montare il trasmettitore All'opera Lo immaginavo Cosa c'è che non va? Aia Non capisco Parliamo con Gal mentre ha l'ombrello in mano Tutto bene? Si Sto tremando per l'emozione E presto tremerai ancora di più piccola Evviva Grazie mille Rufus Di niente baby Cosa hai detto? Niente niente Mi ricordi le norme di sicurezza? Vediamo La prima Mai entrare in acqua durante una tempesta La seconda Non ripararsi sotto un albero I salici sono particolarmente pericolosi E infine Non tenere un ombrello aperto Ma In realtà Anche se facessi tutto questo Le probabilità che tu venga raggiunto da un fulmine sono minime È più probabile vincere alla lotteria Acqua Albero Ombrello Lotteria Forte Ci manca un albero E la lotteria La lotteria è ancora nel negozio di ciambrusaglio Se non ti ricordi male È un albero dove minchia lo troviamo Non muoverti Ok Questa la lasciamo qui per i prossimi 40 episodi L'unico però che può farci vincere la lotteria È l'indovino Sì Ci docca tornarci Sì Che facciamo La lasciamo qui Gal O ce la riprendiamo Mi sa che ci segue indipendentemente Non lo so Vabbè È ancora qui No no dai prendetela dietro poveretta Scusa Ma se vado alla barca Lei arriva o no Ah ok Che faccia da pesce lesse Che c'è la poveretta Porta fisco Di nuovo Ehi Gal Tutto ok Sì È fantastico Sì beh Se ti piace la sporcizia È meraviglioso Disse la donna con dei danni cerebrali Ah Questo potrebbe fare a casa nostro Vuoi venire con me dall'indovino Davvero Ma certo Cosa aspettiamo Scemo che arriva ultimo Non gli manca l'entusiasmo Ora ci divertiamo Il prossimo anno È quello che dice la sfera È previa del cappello Anche le radici del cuoio capelluto Hanno bisogno Di respirare Oh Eccolo Di cosa parlate? Di niente Cominciamo Cosa volete? Oh mio dio Ci sono un po' di cose Come faccio ad impedire Che Gal Sposi Cletus? Cosa? Non stavate insieme voi due? Questa È una terapia di coppia Risponderò solo a domande Sulla vostra relazione Ah sì Fammi riformulare la domanda Cosa vedi nel nostro futuro? Lo chiederò alla sfera di cristallo Vedi Un lungo e tortuoso cammino E si apre dinanzi a voi Dinnanzi a noi? Non volevi forse dire Dietro di noi? Non è che magari la palla è a testa in giù vero? Ne dubito Guarda L'ho scritto qua Questo lato Verso l' Incredibile C'è un lungo cammino dinanzi a noi Finché staremo insieme Riusciremo a trovare Donna Gal? E questo cosa ha a che vedere col vostro rapporto? Fammi riformulare la domanda Che palle! Finiremo insieme io e Gal? Bella domanda Sono molti gli ostacoli che dovrete superare Per finire insieme dovrete accettarmi l'un l'altro Oh Hai pensato di vendere quei cuscini? Sono bellissimi Io me lo immagino già la scena con le accette Ti accetto per quello che sei Cosa ci riserva il futuro per quanto riguarda la salute? Vedo Santa Ferraglia Quanta sofferenza Come può qualcuno sopravvivere a tutto questo? Cosa hai visto? Sarà meglio che tu non lo sappia Devo chiedervi di stare lontani È una questione di vita o di morte? Questo mai staremo sempre insieme Vero Rufus? Non capisco quella faccia di Rufus Nenche io l'ho capita Sembrava tipo Lever Dove invecchieremo insieme? A Elysium? Bene Una domanda diretta Vedo Ma che succede? La sfera si è oscurata Che strano Saranno scene censurate O una romantica passeggiata notturna Si è censurata la sfera Veramente È uscito fuori il messaggio C'è una donna calda che ti vuole conoscere a 4 km da te Oh 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 Quale sarà il numero vincente di questa settimana? E questo cosa ha a che vedere col vostro rapporto? Mi interessa Fammi riformulare la domanda Vinceremo alla lotteria? Diventeremo ricchi? Capisco quello che cerchi di fare D'accordo Vedo cosa mi dice la sfera Passi al fenice di Rufus Vedo che sarete ricchi Lo sapevo Bella Ricchi di esperienza Se sopravviverete Che altro potremmo desiderare? Conoscere i numeri della lotteria? La sfera non dice nient'altro Che delusione Che delusione ragazzi Ma come ricchi di esperienza? Ricchi di esperienza e morti di fame Ah cavolate stai guardando la palla al contrario Temo di no Guarda Puoi vedere da te Ok Possiamo veramente vedere? Si Cosa devo fare? Possiamo fare due cose O riprendere a parlare con l'indovino O parlare con Gal Voglio sapere cosa succederà adesso Ma la Gal bambina È interessata Mi viene un'idea Cambiamo repentinamente personalità la nostra donna Facciola diventare bella lunatica Bella nervosetta Bella aggressiva Dove mi hai trascinato stavolta? E chi è quel tipo con la pipa? Il veggente Veggente Non è un veggente? Percepisco una nuova aura E stai per percepire un danno insopportabile Io non ci credo a queste scemenze esoteriche In realtà si tratta di terapia di coppia Terapia di che? Andiamo Sarà divertente Stavo per fargli un'altra domanda Oddio Tocca di fare tutte le domande da capo Con Gal che gli risponde a tono però Vabbè rifacciamole tutte Mi ricorderesti cosa hai visto nel nostro futuro? Un lungo e tortuoso cammino Che si apre dinanzi a voi Scemenze Andiamoce n'è Rufus Un momento Come hai detto che finiremo insieme io e Gal? Per finire insieme dovrete accettare l'un l'altro Questo tizio mi sta innervosendo Posso dargli uno schiaffo? Certo Ma non adesso Ma come no? Ricordami cosa hai detto del nostro futuro economico Sarete ricchi Di sicuro Ricchi Di esperienza Se sopravviverete Ne ho abbastanza Non lo reggo più Lo sto strangolando E ora Dici i maledetti numeri fortunati Povero Un momento Aspettate C'è dell'altro La sfera dice che vedrete i numeri Nelle stelle E la sfera Non mente mai Ti prego Non picchiarmi Se non è vero Sarai tu a vedere le stelle La stella polare La stella polare Ah è finito Achievement sbloccato Abond for life Un legame per la vita Ok I numeri sono nelle stelle Quindi Stella polare Al polo nord Polo nord Eccole qui le stelle Il guru ha detto che il numero premiato Era nelle stelle Cosa avrà voluto dire? Ah Forse si riferiva a questo Sì Ma io non li ho letti Il guru aveva ragione 4 8 15 16 Ora mi pento di aver graffiato la sua palla di vetro 16 23 42 Aspetta ma scusa ma perché devono fare i deficienti? Adesso non mi segno Scrivi la lever così sembra che gli mandiamo le ordinazioni del giapponese e ci bestemmia conto Ogni volta rischiamo tutti i numeri del giapponese quando non è con noi Scrivere a lever le ordinazioni del giapponese è tradizione ormai 4 8 15 16 23 42 Ora che sappiamo i numeri dobbiamo andare a giocarli Quindi si torna al mercato nero galleggiante Entriamo al negozio di cianfrusaglie Qui c'è il lottomatic giusto? Lot o mat Il primo premio è una completa attrezzatura di materiale siluristico Il mio sogno che diventa realtà Questo non me lo ricordavo Perfetto Abbiamo quindi sistemato il problema Vincere alla lotteria non è questione di fortuna A meno che non minacci un indogno Tombola Non dobbiamo ricordarceli Ce li siamo segnati per nulla Vabbè quindi bisogna riscuotere Abbiamo ottenuto il premio Ehi tu voglio un premio Grazie Ah ok anche se dormiva c'è lato lo stesso Abbiamo finalmente i siluri Perfetto Oh raga la trama sta pian piano prendendo forma Questa è la cosa più forte che abbia mai avuto nell'inventario Siluri Beh portiamoli a Janos no? Muoviamoci Janos ecco a te i tuoi siluri Ogni generale che si rispetti deve saper delegare Ma non al più incompetente di tutti A chi dobbiamo darli? Aspetta lui parlava di non delegare Quindi magari li mettiamo noi Dagli alli direttamente ai delfini Sono troppo lontani Devo avvicinarli in qualche modo Ah con la leva Se tiro questa leva che succede? Fai una depressione e fai un vortice Pescelini venite da papà Che stai facendo? A te cosa sembra? Sto liberando i poveri pesci dalla tua oppressione Non sono pesci idiota Sono mammiferi estremamente intelligenti Ah si? Ehi se non uscite nel giro di 5 minuti rimarrete con Tony Aveva ragione sono estremamente intelligenti Wait ma abbiamo appena perso i delfini o sbaglio? Dove li ha messi? Ah qui Fantastico Muoiono dalla voglia Proprio come me Muoiono dalla voglia di morire Ok armiamoli I delfini disposti a silurare la mia fidanzata Alzino una pinna Ma sono tutti fatti suicida Così mi piace Ok i delfini sono partiti Appena ripareremo il trasmettitore Potremo dargli le coordinate del sommergibile E poi potranno farsi saltare in aria Ma forse sparano e basta Non si suicidano neanche Boh Staremo a vedere Ma perché io ho l'impressione Che dovremmo trovare una tuta da palombaro Metterci quel cazzo di propulsora nella schiena E andare sottacco a quei delfini Ma no Segnatela Questa non tagliarla Che è una mia previsione Che mi ha detto all'indovino Ok torniamo quindi all'isola Watch It Che fulmini eh Sì Non so come riesci a stare così tranquillo Quando metti il dito nella presa tre volte di seguito Perdi il filo dei tuoi pensieri molto spesso Di cosa stavamo parlando? Di quanto io ti ammiri Lo so piccola Ogni volta che cerco di salire vengo raggiunto da un fulmine Poverino Perché le persone migliori sono così sfortunate? Bella domanda Magari potessi aiutarti Potresti rientrare nella piscinetta? Certo E ora? Ora aspetta Se tutto va bene presto vedrai la luce Perché ti raggiungerà un fulmine Cosa? Mi ricordi le norme di sicurezza? Vediamo La prima Mai entrare in acqua durante una tempesta La seconda Non ripararsi sotto un albero I salici sono particolarmente pericolosi E infine Non tenere un ombrello aperto Ma in realtà Anche se facessi tutto questo Le probabilità che tu venga raggiunto da un fulmine sono minime È più probabile vincere alla lotteria Acqua Albero ombrello Lotteria Forte Ok Ci manca un albero Sì Dove minchia lo troviamo un salice piangente? Non ne ho idea Tutto quello che abbiamo sono delle banane Se vuole pianto ti faccio crescere un banano Giusto Oragno delle banane esce dalle banane Triggered dalle banane Liberiamoci di quelle banane Sai cosa c'è? Abbiamo il barile e la pompa L'unica cosa che manca È estrarre quel fottuto carburante Torniamo al generatore È collegato ad una bomba che elimina il gasolio che cade in acqua Un momento Il tubo di scappamento del generatore perde carburante Quindi se noi tappiamo il tubo di scappamento Il generatore non perde più carburante Può essere un'idea Come lo tappiamo? Con la toppa Allora Con il bigliettino Non ho bisogno di fortuna per quello Confido nella mia ampia conoscenza della materia È troppo caldo Devo fermare il generatore Ok no Devi fermarlo Forse bisogna sanzificarci una banana Il vecchio trucco del tubo di scappamento ostruito Cos? Tutto ciò non ha cazzo senso Con il generatore spento Niente fuga di carburante Ora attacchiamoci la pompa Ottima idea Vasi comunicanti Buono Ora mi serve solo un recipiente Non dovevi berla la benzina Scemo Il recipiente più noioso della storia E non lamentarti Oh finalmente Achievement sbloccato Captain Planet Perché c'è un fungo atomico Come achievement Bene Abbiamo del diesel Con questa possiamo alimentarci La turbina al covo No? Ah ok è vero E poi finalmente Possiamo andare sott'acqua E seguire i delfini Con la tuta da palombaro Smettila di pensare A quella tuta da palombaro Non ci sono tuta da palombaro In questo gioco Torniamo a porta fisco Per la 34esima volta Oggi Nella botola abbiamo messo L'invertitore Esatto Qui ci mettiamo la benzina Ecco Di nuovo pieno Che l'azione abbia inizio Si muove Da dove può viene Questo dove di istante Su questo I diodovanti A quanto pare Questa turbina Fungeva da impianto Di aria azione Mettendo l'invertitore di potenza Gli odori di merda Anziché uscire Entrano Esatto Andiamo a controllare Come stanno lì dentro Buono Hanno messo gli alberi Magique Per l'odore Ah sono gli alberi Che servono a noi Magari era figurato Il senso di albero Oddio Non ci posso credere Salice Pare che non avessero più Deodoranti alpino Questo gioco è fottuto Ma infatti un albero Non l'abbiamo visto Da nessuna parte Non è che cresce Da un momento all'altro Ah ma fa proprio scorta Non ci posso credere Ok usciamo Dai per pietà Stopperei il tutto Dai mi sentivo in colpa Anch'io comunque Torniamo a isola Watch it Ora abbiamo tutto Teoricamente Ci manca nulla Ora devo fissare Questi deodoranti Sulla tua testa Povera Eh voilà Che bello Fantastico Ora non ci resta Che riparare La torre di comunicazione All'opera 3 2 1 Cosa manca Ancora Aia Non sto capendo Ancora le voglio risapere Mi ricordi le norme di sicurezza Vediamo La prima Mai entrare in acqua Durante una tempesta E lei c'è dentro Non ripararsi sotto un albero Ce ne sono 5 E infine Non tenere un ombrello aperto Ma in realtà Anche se facessi tutto questo Le probabilità Che tu venga raggiunto Da un fulmine Sono minime E' più probabile Vincere alla lotteria Acqua Albero Ombrello Lotteria Forte Dagli anche Il bigliettino Porca puttana Ecco perché ce l'abbiamo ancora in mano Prendi Ne avrai bisogno Hai vinto la lotteria Abbiamo vinto Sembrava impossibile Talmente impossibile Quanto essere raggiunti Da un fulmine Che fortuna Faccio fatica a crederci Ora 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 Ripariamola Questa torre di comunicazione Sì Ha funzionato Cosa ha funzionato? Metto in gioco la mia vita E tu non fai neanche attenzione Ma mi stai Povera Che credo di aver sbattuto le palpebre Fantastico ragazzi Troppo bello Sembrava impossibile Ma ce l'abbiamo fatta Che soddisfazione È stato un parto Direi di andare ad avvisare Doc Cioè Doc che era in grado Eh di certo non Rufus E ora che facciamo? La torre di comunicazione è pronta E i delfini sono ai loro posti Credo sia giunta l'ora di andare a recuperare la tua fidanzata E allora andiamo Oh E allora andiamo e siamo ancora qui Delfini siluranti pronti Obiettivo individuato Delfino Questo ti fa esplodere Nooo Che lo spettacolo abbia inizio Devo solo dirigere un delfino verso la casella del sommergibile Sommergibile Bam minigame Ah Allora il sommergibile è quello E questi sono i nostri tre delfini E possiamo pilotarne uno alla volta? Se clicco qui che succede? Ah li giri tutti Ogni volta che dai un comando passi al delfino successivo Giuro giocare a scacchi è più semplice Io ci vincevo i tornei Qui non riesco a prendere un cazzo di sommergibile Giuro giocare a scacchi Un eterno dopo Oh 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 Mi ero accorto anch'io Che contenti che sono Credi che questa allucinante manovra difensiva Influirà sul mio rapporto con Gara? Nel mondo reale sì Nella realtà parallela Abitata da Rufus Probabilmente no Achievement sbloccato Flipper out Flipper come il delfino Quello della serie tv Chi è Flipper Andrea? Lo so, serie tv anni 90 Quel boccaporto è l'unica cosa che mi separa dal terzo chip Entriamo? Santa ferraglia non c'è verso Troverò un altro modo Ma come? Ma figa Come si fa a non aprire una botola che è fatta persa ed aperta? Guarda che lì dentro è un sottomarino camper Non è che si apre così Se no la gente ci muore Bozo Di nuovo insieme Proprio come ai vecchi tempi Ci conosciamo solo da qualche giorno Oh Rufus Ma ho già imparato una preziosa lezione Tu non mi ascolti mai Buon vecchio bozo Che ricordi Tutto bene Ma come faccio a entrare? Hai provato il boccaporto La botola non si apre Non mi piace per niente Ma non eri tu l'esperto in abbordaggi? Questo sarebbe il momento ideale per dimostrarlo Tu non eri il tuttofare professionista? Io non mi tuffo in quella roba senza l'attrezzatura adatta Credo di avere ancora una muta da sub Forte Ma non so in che condizioni è Sono anni che non la uso Ora piantala di piagnucolare e dimmi dov'è Mi è venuta un'idea Oddio Aspetta che mi metta al riparo Oh spacchettiamo C'è la cassa Uno spaventa gabbiani Io che credevo fosse la mia muta Non ti pago per pensare Non mi paghi Punto Prendiamola Oh comunque la mia prediction sulla tuta da palombaro Si avverata È quella eh voglio dire Ok non che siamo noi a kamikazarci Però 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 ci siamo Cosa abbiamo a disposizione qui? Abbiamo un campanello No no Un rubinetto Cosa cerchi di fare? Vuoi pulire la coperta? Non ci penso proprio Fare il bucato? Già mai Lavarti le mani? Adesso basta Una lampada Ed io che pensavo che Bozzo avesse poche luci Non ho capito la battuta Una maledetta candela Si con questa attrezzatura all'avanguardia devo arrangiarla Affrediamoci la candela Un amo Che razza di verme gigante bisogna usare con quello? Noi stessi Poi qui c'è una leva Una canna da pesca per gente che affretta Quasi Una grua d'immersione Eccolo qui il furbo Perfetto Quindi se noi attacchiamo la muta All'amo Che occhio che ho Fantastico Cosa cerchi di fare? Ho intenzione di immergermi Magari trovo un'altra porta È sommergibile Non ha molto senso Esatto Le leggi della logica non si applicano sott'acqua No Non è vero Piantala di guastarmi la festa e fammi scendere Ok? No non è vero D'accordo La pelle è tua Non penso si entri così in una muta Però ok E quindi Pompa Ah ce le siamo inculate Oh oh Ma 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 Hai visto quelle cose? Sì Non erano i nostri delfini siluro vero? Non mi sembra affatto Pulsante Una domanda Ma Rufus Ha l'acqua nel casco? Camper le leggi della logica non funzionano sott'acqua Torniamo su Eh sì Rimergiamo Abbiamo preso queste Beh Io ne collegherei una a Rubinetto È troppo corta Uniamole tra di loro Giusto Ora abbiamo una pompa lunga Non sto capendo Neanch'io Entriamoci di nuovo Ora non ci entro più Ma come? Bojo Ciao Rufus Come va? Credo di non piacere ai delfini Che strano In genere sono così pacifici Che ci faccio con i delfini? Non lo so Ma non sarà facile Ho capito Dobbiamo aprire il rubinetto Riempire la muta Farsi sembra che c'è dentro qualcuno I delfini lo attaccano E poi succederà qualcosa Bene Ho un piano Sei sicuro di conoscere il significato di questa parola? Fidati di me I delfini hanno bisogno di canalizzare la propria vita Ma vedi Dio? Ed io ho l'uomo ideale per quello Brutus Mi fai paura Ok facciamolo scendere Come faccio a immergere questa muta? Stacca la pompa Maledizione Rubinetto Leva Bozzo Campanello Suoniamo sto campanello che non aveva mai suonato Divertiamoci un po' Sì Stavo per fare una battuta Che divertente E ora? Ecco fatto è tutto Sei stato bravo Ho capito Quando Donna uscirà Si metterà qui dove c'è Rufus E noi per farla fuori Suoneremo il campanello Gli sbatteremo la porta in faccia E la metteremo KO Questo è per dopo Non per adesso però Come ributto giù questa tuta Ah abbiamo una candela Potremmo accenderla E tagliare la corda No eh Ah possiamo entrare nel peschereccio Che c'è qui? Il radar Gal E una pentola Quello stupato faceva un po' schifo Non era stufato Rufus Era un collante per l'intervento di Gal Si è mangiato il collante Buono Restano solo residui Come dici? Tranquillo Ho mangiato stufati peggiori Ehm Come dice la candela? Abbiamo molte scelte vero? Calda calda Forse è abbastanza ad accendere la candela O scioglierla Ah ok è proprio della cera ora Che ce ne facciamo della cera? Eh beh è interessante la cosa Ho sempre desiderato una pentola piena di cera liquida Ma ora che ce l'ho Non mi va di depilarmi Non devi farti la ceraetta Rufus Pensa Abbiamo una pentola Con tanta vasellina Non so se la cera funzioni come la vasellina Tutto ok? E come? E' così emozionante Si è un peccato che stia per finire Dobbiamo solo aprire la botola E poi Doc potrà sistemarti Non credo che per l'altro mio io Sarà così semplice Tranquilla piccola Non potrà resistere al mio fascino Non lo so Rufus Fidati di me Sarà un gioco da ragazzi Ok prima parola con quell'altra quindi Forse è più utile in questi casi Ah finalmente Potresti avvisarmi prima di cambiare il mio chip Ne terrò conto Il boccaporto è ancora chiuso Ci sto lavorando Perché ci metti così tanto? Sei così bravo a rompere cose Rufus è tanta roba eh Sicuramente la gal tosta Tornerà più utile della gal bambina Almeno so fare a cazzotti Vediamo cosa succede Quando ce n'è un campanello E c'è dentro lei Anziché la piccola E' presente che la bambina E' uscita tutta di fretta Magari questa qui fa altro Questa qui ci mena? Beh Tentare non nuoce Farsi menare non nuoce Divertiamoci un po' Si? Ciao Ah ah Devo farlo ancora? Facciamolo ancora Vuole morire? Che? Rufus? Rufus! Idiota Lo butterò a mare E' sempre più divertente Ragazzi Questo è un finale alternativo Rufus muore sul colpo E chiudiamo qui la serie Forza consentimento Cosa? Perché non scolleghi il campanello? Preferisco scollegare la testa di quell'idiota Aia Aia Ci ha fatto il calco Devi metterci la cera No vabbè regà E poi la metti nello scafandro E sembra la faccia di Rufus L'impronta più attraente che abbia mai visto Ma vaffanculo Un'idea brillante Riesco già a immaginare il busto all'entrata del porto Ora abbiamo il calco della faccia di Rufus Mettiamolo nello scafandro Forza Brutus E facciamolo calare Mi aiuti a calare la mia controfigura? Certo Credi che abboccheranno? Lo sapremo presto In realtà quelle bestie ti odiano Chissà perché Forse perché hai trasformato i tuoi cuccioli In cibo per gatti Io? Ma che dici? È stata la madre di Santa Ferraglia Rufus Credo ti confondano con la madre Quindi? Ora in delfini hanno sprecato i loro siluri E quindi siamo a posto? Sei pronto per un'altra immersione? D'accordo La pelle è tua Che è successo quindi? Si è sbloccata una porticina Il piano è un po' fallito Che stavo dire siamo morti questa cosa? L'acqua a ispirare E bozzo a guidare Si duri già pronti alla detonazione Il bersaglio ignaro I delfini allertati Spariamo per dargli una bella lezione La persecuzione è finalmente finita Con un colpo preciso e sorpreso il rival Si avvicina il finale Con un clima cruciale Ma niente paura Non finisce mal Su via non finisce mal Peccato Canzone di fine atto Vediamo che ci aspetta adesso Rufus Dove ti eri cacciato? Ho dovuto occuparmi di alcune questioni sott'acqua Che tempismo Mentre tu eri sott'acqua Donna Gall ha lanciato un attacco a sorpresa Siamo stati catturati Rufus E non finisce qui Un momento Tutto questo è successo senza il protagonista dell'avventura Esigo vedere il montaggio del regista Rufus concentrati Hanno preso Gall Oltre al telecomando e ai chip Cavolate li ho proprio qui Oh cacchio Ci sarà un buco nel mio giubbotto? Ascoltami Rufus Pletus è stato qui Si è portato via le due Gall Intende andare a porta fisco con la nave di Argus Anche Argus è qui Beh in realtà si trovano vicino alla torre di detonazione Santa ferraglia L'attacco ribelle è cominciato Sono matti E come? Senza di me sono persi Ragazzi Sono successe 20.000 cose in 10 secondi Forse avevano frate di finire il gioco Perché ci ha persi tutto qua Qual è la situazione Doc? Non c'è niente da fare Grandioso Il contesto ideale per una geniale mossa di Rufus Dov'è Bozo? Nella cabina A cercare di riavviare il generatore Temo che rimarremo qui per qualche ora Non abbiamo tempo Potresti dargli una mano sostenendo la lampada Fammi pensare L'eroico Rufus Brandì la lanterna No non funziona Troverò un altro modo Che succede lì? Credo che i ribelli abbiano iniziato l'offensiva Sì vedo la torre che si muove Ed anche un esercito di luciole addestrare Rufus Forse dovresti riposare un po' Rilassati Doc Mi sento Jim intero Dillo fantasticamente Ottimo Siamo pure drogati Probabilmente Sai a cosa servono quelle cabine? Tecnologia Organon Non c'è dubbio Sembrano dei teletrasportatori Andranno alla torre di controllo? Spero tu non stia pensando di usarli Sarebbe una follia A meno che tu non voglia unire i tuoi geni Al DNA delle bestie che hanno fatto il nido nelle cabine Che figo Oddio Vieni bene a sentire giovanotto Usare quei teletrasportatori sarebbe la cosa più stupida che tu abbia mai fatto Esatto Non se l'aspetta nessuno Eccetto quelli che ti conoscono Ah sì come nei film che tipo tu ti teletrasporti con la mosca E poi viene fuori un casino dall'altra parte Oddio Non vedo l'ora Sai come funzionano le cabine? Spero tu non stia pensando di usarli Nooo Perché? Sarebbe una follia A meno che tu non voglia unire i tuoi geni al DNA delle bestie che hanno fatto il nido nelle cabine Quindi niente di irreversibile Tutt'altro La fusione genetica è estremamente complessa Avete fatto qualche progresso? Faremo più in fretta con il tuo aiuto Ora non posso Sto pensando a una soluzione Il lavoro di squadra non sai nemmeno cosa sia, vero? Sì sì Uno per tutti e tutti per chissà che Ho un'idea Ti direi di non fare nulla di rischioso Ma visto che non mi ascolti mai Ne approfitterò per farti una confessione Ti odio dal più profondo del cuore Grazie doc Buona fortuna anche a te Conosco bene i giochi di squadra E ci sono giocatori che sono di troppo persino in panchina Tipo te Rufus Ok Io mi infilerai nei teletrasportatori Non c'è molta scelta anche perché il nostro inventario è vuoto Sai com'è? Da cosa cominciamo? Numero uno Abbiamo una mosca Perfetto Povere bestie non sanno dove hanno fatto il nido Io invece sono esperto in fusioni genetiche Ho visto la mosca tre volte Cos'è la mosca? È un film che non conosco Fuori bestiaccia Dov'è il cerchio di fuoco quando serve? A tutelare di essere in minigame Cominciamo Oddio che schifo Oh mio dio Dove siamo finiti? Sulla torre di detonazione Con mosca Rufus Ah vedi Possiamo arrivare lì Sopra o a destra? Sì ma se parliamo con Yano Si spara in fronte proviamoci Pisa che non sa parlare rufus Vai rufus vai fatti sparare vai Ok non troppo utile forse un'idea se torniamo da un altro teletransporto Finiamo noi mischiati una mosca in quello dell'ornitorinco e lo scopo sarà diventare tre animali più rufus Dio santo diventare un mostro deforme e uccidere tutti entriamo in questo Irreversibile vero Abbiamo messo la rana dall'altra parte esatto abbiamo messo qui una mosca ok quindi questo è libero ora si ok è vero La rana è finita qua sopra esatto quanto sono stupide le rane parliamo con gianosch senza il loro capo Non sono niente anche se la loro uniforme è forte ma è quella degli incidenti in autostrada raga la cataria frangente Novità al fronte wufus finalmente Vendi un'arma e unisciti a noi o non avremo scampo sono più numerosi di noi Mh no ti metterei in ridicolo ma coraggio è facile beh in realtà è difficilissimo ma lo dico per incoraggiarti Ma sti imbecilli degli organon a chi stanno sparando che tutta la la combriccola dei ribelli è qui Esatto Gli organon sono più numerosi di noi ma se quegli idioti continuano a fare da bersaglio forse potrei attraversare le loro linee di nascosto wufus vi corda che non siamo soldi. Zitto e lotta soldato Sali da toni non posso parlare con toni però posso unirmi con la rana Qual è il problema che la mostra uscire da qua dentro a che allora bisogna lasciare di la rana Lì come ci arriviamo ha solo con la mosca ci arriviamo qui dobbiamo riuscire ad arrivare qui in forma umana o mosca Ok torniamo qui dentro ok entriamo in questo della mosca Aspetta le rane mangiano le mosche ok ho paura ma facciamolo Questa rana è stupida prova a salire con la mosca dai un bocca porto cioè Ok la strada è chiusa da un bocca porto bisogna darci a piedi li dobbiamo riuscire ad arrivare in forma umana qui e Questo è teoricamente è quello di destra vero o sbaglio ora se noi ci fondiamo con l'ornito rinco veniamo vicini alla scala Eeeh siamo diventati che cosa Oddio un aborto Ok però non può uscire che palle Dobbiamo riuscire ad avere il teletrasporto lassù in cima libero ok sa cosa sembra il gioco del Come fa il pastore a portare la pecora e i cavolfiori e il lupo Contemporaneamente sapendo che il lupo mangia la capra e la capra mangia i cavolfiori Si picca i cavolfiori nel culo così nessuno li mangia e arrivano tutti con un viaggio solo ma qui gli ornito rinchi nel culo Mi sa che non si li va a mettere ora abbiamo L'ornito rinco e la rana dall'altra parte la mosca di qua ok ottimo ho capito ho capito ho capito Adesso entra in questo la tua teoria sulla rana che si mangia la mosca ci sta ora tu sali Entri con la rana e arrivi nel mondo iniziale con rufus rana Ok ora con la rana con la lingua ti mangi la mosca Può interagirci No L'ha fatto ok abbiamo un posto in meno adesso ci siamo liberati della mosca fantastico Quindi entriamo in quello alto e ce la facciamo vedrai e finiamo umani dove c'è l'orito rinco C'era fatta finalmente Yes baby saliamo Era ora stavo per andar via senza di te Se non avessi interrotto la metà degli accessi alla torre sarei arrivato prima A proposito ma che cosa succede lì fuori? Quella stupida rivolta popolare non ti riguarda Tuttavia mi sembra strano che si ribellino proprio ora Tu non ne sei niente E' rufus cerca di fermarmi Che tipo insistente Vorrei dire idiota Credo che lo sottovaluti Esatto dolcezza Fagli vedere chi sei E' stupido solo la metà di quanto sembra Ce l'ho nel sacco Ma non sa mai quando darsi per vinto Ora basta chiacchiere siete pronti Un attimo ho lasciato la valigia lì dentro Vai in fretta Dobbiamo giocare con le personalità di Gal forse Ma lei è la Gal raffinata nel corpo di Gal Forse l'hanno tolta da donna Eh si Argus partirà da un momento all'altro Non ci resta molto tempo Prova vedere se funziona il telecomando Né immagini né audio Sembra serva solo per controllare donna Niente da fare Dobbiamo andare nei punti di domanda Facciamo botte con Kletus Kletus dove sei? Che fa? Gioco con la bomba La 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 Sta manovrando i comandi della bomba Manovrando i comandi La la No non può essere quello che sembra È quello che sembra La la Questo comanda la bomba Comanda la bomba Quello comanda la bomba Un momento Maledetto idiota Devo fermarlo prima che attivi il conto alla rovescia Allora lì c'è la sua borsa da rubare sicuro Ovviamente non ci vede Il telecomando di donna E i due chip Ne inserirò uno Temo che il telecomando di Gal non ci sia Dovrà averlo lei E questa cos'è donna? Povera donna Gal Donna C'è qualcuno Cosa? Sembra che non ci sia nessuno Logico Non c'è nessun chip Mettiamoci il chip allora Oh Comincio ad essere stufa di questo stupido chip Stai bene? Più o meno Mi faresti un riassunto Ci troviamo nella torre di controllo di Argus Credo che Cletus stia cercando di attivare il conto alla rovescia Quanta idiota Dov'è donna Gal? Ehm Sei tu Il tuo corpo è rimasto con il tuo lato raffinato Là fuori E continuo a pensare che Cletus sia una brava persona Perché non parli con lei? Magari a te da rarretta È quello che farò Meno male che so come trattare una donna testata L'ho imparato da te Ok È evidente che ha avuto un brillante maestro Se ha almeno la metà del mio carisma Magari Magari? Mh Mi conviene seguirla Adesso parte il Sugar's One Gal Non ti rendi conto che dici solo stupidaggini? Ti spacco la faccia Niente violenza signorina Odio quando lo fai Cosa che succede spesso quando rimani a curto di argomenti Ma quanto sei Dì addio alla tua chioma Ragazze Ci sono migliaia di modi pacifici per risolvere un conflitto Le lotte nel fango ad esempio Rufus Ti ho detto di andartene Tranquillo Rufus Non ho bisogno di aiuto Occupati di Cletus Ah sì Quasi me ne dimenticavo Dove eravamo rimasti? Alle tue squalli di minacce Cosa? Ti faccio vedere io Sarà meglio che le lasci risolvere questa storia da sole Come fa uno a parlare così tanto tempo con se stesso È un po' inquietante Comunque Andiamo al sodo Devo fermare Cletus prima che Cletus? Dove si è cacciato? Maledetto Rufus C'è scappato Cletus Quadro comandi Ora tocca a me Sì vai Sarai a esplodere tutto Ehi Cos'è quello? Un conto alla rovescia? No 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 Fermo Fermo L'ha fatto partire lui Uff Per un pelo Ma se quello era il conto alla rovescia cosa ci faceva Cletus qui? Sì Non mi piace neanche un po' Magari Cletus è buono Ehi! Cletus che cavolo ci fai qui? Ah priviliacco Perché dovrei? Per farti mandare a monte i miei piani per l'ennesima volta? Sembra che l'abbia già fatto Non ti ho permesso di detonare la bomba Ah Certo Tu come sempre Sono stato io a non volerla detonare idiota Ma se ti ho visto manovrare quei Cercavo di sabotare l'esplosione deficiente Ho bloccato le viti della sospensione L'organo non farebbe mai scoppiare la bomba in quel modo Causerebbe un danno infimo al pianeta E distruggerebbe la torre di controllo Dovresti ringraziarmi? Ti ho appena salvato la vita A te è arresto di Deponia Non farmi ridere Degli abitanti di Deponia non ti importa un fico secco Tanto quanto importano a te Ma almeno io lo riconosco È solo Gal che mi interessa E per qualche strano motivo si ostina a voler salvare Deponia Alla fine faranno di sicuro saltare tutto in aria E io ne sarò felice Ma allora non sarà più un mio problema Ammettilo Rufus Tu non avresti fatto nient'altro per la tua gente Cosa ti fa pensare di essere migliore di me? Mmm? Niente mi fermerà adesso Rufus Neanche tu Mmm Ho una mezza idea Beh mezza idea Non c'è molto da fare Facciamo scoppiare la bomba E lo mettiamo in panico Così lui deve aprirci O Gal lo odierà perché ha fatto esplodere dei porni E quindi è il nostro gioco Coraggio Prova a fermarmi Ehi idiota Che diavolo stai facendo? Attivo il conto alla rovescia Stavolta sembra più corto Hai perso il senno? Spegnilo subito Certo È questo il pulsante? Ops Quanto sono imbranato Magari ci fosse qualcuno qui che sa quello che fa Che peccato che tu debba andare via Maledetto topo di fogna Cosa hai fatto? Vediamo Magari con questi Ti conviene pregare perché funzioni Vabbè noi usciamo Che diavolo stai facendo? Inizio nella mossa segreta Cos? Chi è una scazzottata? Ci sono imbranato le parti Ehhh vediamo un po' Quindi Facciamo così Continuiamo Galf Pavalda Che c'è? L'altro tuo io Ho il suo telecomando E quindi? Prendi il telecomando Ehi No Preso E adesso? Premi il pulsante Usa il telecomando No Io Watchy Flory Nescao Floor Punta agli occhi Cos? Eh quella rotta Questa è donna Oddio che drip mentale Preso Grave errore Devo ammetterlo La tua persistenza è quasi ammirevole Dovrei ucciderti adesso Ma cominci a farmi pena Anche se però sarebbe splendido mettere fine alla tua insulsa esistenza Un semplice calcio e... Ciao ciao! Ma prima un monologo! Ma temo tu abbia qualcosa che mi appartiene Ah Gal Donna Eh Mi sa che lo butta giù Questa è pazza Si È donna nel corpo di Gal Deve essere confusa Ah Eccolo giusto Telecomando rosso O telecomando blu Non lo so Rosso, rosso Te lo ripeto per l'ultima volta Dammi quel dannato telecomando Certo Ti servono i codici d'ascensione vero? Ma certo imbecille Questo non ha nulla a che vedere con Gal vero? Non farmi perdere altro tempo Dammi i telecomandi o salteremo tutti in aria La bomba sta per scoppiare Ops No Idiota Brava Gal Gal È stata una figata pazzesca Micidiare oserei dire Si lo è stata Non volevo crederci Ma avevi ragione Perché mai avrà fatto una cosa del genere? Che importa adesso? Dai aiutami Si Ma prima devo scusare Ma vaffanculo Credevo che mi avessi mentito Si ma stiamo morendo Avrei dovuto fidarmi di te E non di lui Come ha potuto attivare la bomba alle mie spalle? Non voglio condividere la mia vita con un bugiardo E Cletus ha mentito vero? Cletus ha una fine era quello sincero Che cosa c'è? Hai qualcosa da dirmi? C'è una cosa che Che cosa? Devo saperlo Posso fidarmi di te solo se mi racconti ogni cosa Ti voglio fidarmi di te Guarda Rufus Se ti butti facciamo brindo Ecco vedi Vuota il sacco? Vediamo Come ti lo dico Coraggio Non abbiamo molto tempo Si Cletus ti ha Cosa? Mentito? Rufus? Cletus è un Bugiardo? Dillo una volta per tutte Cletus dice la verità Cosa? Non è stato lui ad attivare il conto alla rovescia Ma io Tu? Perciò Cletus non mi ha tradito? E io l'ho steso senza alcun motivo Potremmo dire di sì Ma ora sono sincero Cosa che dimostra che il buono sono io no? No Dimostra solo che il miglior Rufus possibile è peggiore di Cletus Gal Non lasciarmi così Ti ho detto la verità Gal Oh oh Rufus Ancora una volta sei riuscito a rovinare tutto all'ultimo momento Tu non sai vincere e ancor meno sai bleffare vero? E pensare che avevi giocato molto bene finora ma proprio alla fine le due regine a me Stiamo giocando a poker Hai perso di nuovo Rufus Vuoi forse qualche asso nella manica? Beh un telecomando ce l'avrei Si ma non ce lo fa usare E la vita è una merda I ribelli arriveranno da un momento all'altro Ah non farmi ridere Dubito che siano ancora vivi Quello che ha ideato l'offensiva doveva essere ritardato Ok cambiamo argomento Posto che Tony secondo me fa una strage Gal non lo permetterà Diglielo Gal Mi spiace Rufus Anche a me So che ti è stato difficile essere sincero Essere cosa? Ora so chi sei Un ragazzo coraggioso Ma questo non basta Sfortunatamente Mi hai deluso troppe volte Hai sentito le dame? Il gioco finisce qui Credi che questo sia un gioco? Stiamo parlando di un pianeta pieno di gente innocente Piantala Rufus Questo non ha niente a che fare con Deponia Tu puntavi solo alla ragazza Perciò qual è la differenza tra te e me? Che io non sono un idiota arrogante? Esatto perché tu sei un perdente Non vincerai mai perché non hai quello che serve Non finisce qui Ah Aspetti il terzo atto L'eroe corre verso la pista Rompe un oblò della nave e... Un momento Tu non sei un eroe Ma un pagliaccio tragicomico E questa non è una commedia romantica Ma uno di quegli orrori indipendenti Abbastanza Non ci sono risposte alla fine Non c'è un lieto fine Ma solo uno sguardo sul tuo Orribile riflesso E un ridicolo sottotitolo Ho ancora l'altro telecomando Ti manca ancora una regina nel tuo full gal Oh Tienila pure Questa partita è finita Mi basta quello che ho Due splendide e incredibili donne Puoi tenerti il chip con i traumi infantili di Gal Con il suo lato volgare e testardo e il suo atteggiamento di sfida Come Rufus Esatto Completamente inutile Sai che stai parlando di neve Almeno sono sincero Ti piace Non è vero? Si certo Ma è una parte di te Gal Senza di lei non potrai mai sentirti completa Non ce ne importa un tubo Ho come le Gal migliori E i codici d'ascensione Ora dovrei accelerare il conto alla rovescia Grazie Rufus Almeno sarà solo la torre a scoppiare E visto che sono un gentiluomo Ti lascerò il tempo di fuggire prima dell'esplosione Addio Rufus No, non puoi farlo Letus Non puoi separarle per sempre Aspetta Io Oh Questa storia comincia a stancarmi È davvero Oh grandioso Hanno smesso di sparare E va o va Credi che abbiamo vinto? Non lo so Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Duf Aia Wufus 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 Urraaa Oh 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 Janos Allora siete vivi Cosa credevi? Dobbiamo tagliare la corda La torre sta per esplodere vado ne vole tutte rapidamente non dimenticatevi di me gal che allegra ma tu non eri con cletus la sua offerta era di certo allettante ma non volevo rinunciare ad una parte di me cletus l'ho rinchiuso la gala spa valda avrebbe trovato una soluzione più drammatica ad ogni modo è probabile che l'esplosione imminente abbia spinto cletus a decidere che una galla è sufficiente a proposito non c'è tempo da perdere ma è la galla innocente non puoi lasciarla ecco ho trovato qualcosa mentre venivo qui a quindi donna lei sono sicuro che cambierà idea ne sono certo pronto signore la torre è stata evacuata dobbiamo andarcene arrivo forza andiamo anche io e invece si e se me ne andassi di nuovo no non lo farai l'eroe strampalato ha infine sventato i piani di argus una volta in più ti vedo assai stanchi per la confusione ma ora è finita tiratevi su non mi ringraziate non serve lo giuro ma date al buon rufus un bacio d'addio deponia vi lascia ma per ritornar e voi di sicuro saprete aspettar e voi saprete aspettar anche perchè lo giochiamo otto anni dopo quindi il 3 non dobbiamo aspettare un anno ma mezza giornata di end ragazzi questa è la fine di caos ad eponia che effettivamente era un bel caos not the end perché ragazzi c'è addio ad eponia il terzo capitolo della trilogia che dire dal camper e rassone tutto noi ci vediamo con addio ad eponia addio ad eponia a sgara weiii weiii